din dong hello amici benvenuti in questa seconda serata con la baratona davidavi i brest elmena notte 2 buonasera a tutti amici siete ancora carichi per questa brest elmena vi ha soddisfatto quella di ieri sera a vedere i sondaggi comunque sia qui che sia su sia qui che abbiamo fatto ieri che quelli su instagram direi che siete parecchio soddisfatti eccovi qua già gli amici che sono stati con noi ieri e i nuovi arrivati come caterina come luca come francesco due quattro come common channel paolo cerbai danny super saian no ti ho perso danny eccoti brock lester ma magico lollo manuel hello bro matt walkie race mar carnavalle costa simone matteo cesari cera asari cera vabbè matteo abbiamo capito simonea svitellone andrea amata i ross alessio 1985 enrico peruzzo buonasera a tutti buonasera seguo un pezzo di pre show poi causa lavoro recupero domani va bene enrico non ti preoccupare francesco fk 21 che se se non ti ho se non ti blocco su sui su discord oggi non ti blocco più dopo quello che hai detto buonasera fabbo buonasera a tutti quanti voi amici team priest fatevi sentire volete l'incasso di demian priest stasera ieri l'avete l'avete cercato parecchio allora intanto che arrivate che salutate inizio a salvare il le vostre domande se ne avete buonasera a tutti quanti a nicchie ho visto aggiunto adesso daniele simonia credo di averlo già salutato buona buonasera a tutti amici chrissaiano ben arrivato anche te vediamo chrissa e riusciranno come campioni vediamo vediamo allora ovviamente per questa prima oretta di domande risposta no il bardo non c'è neanche stasera luca purtroppo è impegnato con le telecronache deve fare rose mcdown nxt e i due resta il mania quindi deve deve tenere riposata deve tenere riposata la voce e non potrà essere in live noi ci auguriamo che sia così anche in altre occasioni vuol dire che se è assente per per telecronache è un bene quindi vorremmo che fosse assente altre volte così vuol dire che deve telecronare ancora allora che dicevo ovviamente per queste cose per queste serate qui di maratone non sono solo ma come ci sono altri aziendalisti e il primo che vi vado a presentare non l'avete visto ieri perché appaccato all'ultimo è una bruttissima persona un bruttissimo aziendalista dovete arrabbiarvi tantissimo con lui signori e il kaiser l'ingegner brachias let's go ragazzi e buona presto il meno a tutti buona presto il meno a tutti mi raccomando carichi si ieri appaccato all'ultimo ma come un buon main event sono presente alla serata 2 non potevo mancare potevi mancare invece come fatto ieri cosa adesso ti prende le luci della ribalta così arrivi lì me ne mente serata 2 capi la più importante la prima la lascio capito a chi non è il titolo la lascia troppo per chi coppetta quanta gente in chat vuole mandare a quel paese brachias no ma in chat sono tutti tipo brachias fra che può comandare a quel paese di un grado brachias team brachias tutti di me lo vediamo presto il menia sul wb network raffaele wb network 9 dollari 99 senti male messo nel banner se non lo aggiungo questa informazione così a beneficio di no 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 ce l'ho ce l'ho nel banner ce l'ho ce l'ho adesso lo aggiungiamo subito guarda eccolo qua mettiamo quella live reaction che c'è lo show è visibile solo sul wb network però messo magari mettiamo notte 2 e facciamo più bella figura ecco qua che ho anche una domanda pronta per voi però introduciamo anche il nostro amico rimanente si c'è un altro amico rimanente ma dobbiamo presentarlo per porto no se no partiamo senza di lui tranquillo dai è meglio dai perché hanno per un pobo una persona un po brutta non ci sta tanto simpatiche dai vi presentiamo anche l'altro tenda listo ovviamente un grande amico il king dei droni simon diref buonasera amici miei simpaticissimi aziendalistici come state ragazzi come andata questa domenica di after paurosa però a che ora hai preso sonno più o meno no no io per aver per aver preso sonno subito non ho problemi sul fatto di prendere sonno io ho avuto il problema oggi a svegliarmi dopo 4 dopo tre ore e mezzo quello ho avuto problemi cioè io ho dormito rega come un urso in letargo ma pure un po sedato cioè io purtroppo ciò sono pesantissimo ma proprio tanto 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 pesante cioè tipo può esplodere una bomba dietro casa io io ieri mi sono addormentato tardi ma il problema è con voto mentale perché mi sono svegliato tipo verso le 6 20 con la luce accesa e il telefono sul letto cioè un voto mentale non so cosa sia accaduto prima tre quanti horror iniziano così ciao brock lester no ma l'altro mo che parlate questa cosa di horror ti racconto quest'aneddoto siamo in clima bar qui no poi partiamo con le domande è arrivata un'email a lavoro dove su dante un account e gmail che non conosco oggetto delle mail the mornings le mattine apro le mail e c'è scritto in inglese this morning will never come back for you again l'ha segnalata l'ha segnalata letti dell'azienda l'azienda mi ha risposto ha detto abbiamo bannato l'account in tutto l'ecosistema aziendale vai così va bene a me l'altro giorno mi ha scritto un account in italiano perfetto con un numero del taggistan rega c'è non so neanche il lo carlo su localizzarlo su una mappa e chat gpt ma si è il massimo vedere da c'è io mi posso fidare un numero dal taggistan seriamente potresti potresti farlo l'ulupo guarda purtroppo mi scocciava rifarle so che hanno riscosso tanto successo ma ma non scocciava mi scocciava veramente rifarlo è bello sentire l'accento campane in queste live io sono di napoli pensavo che gli unici a seguire davvero davvero fossimo io e quei tre o quattro amici con cui guardo i primi live 20 no c'è tanta gente di napoli qui anche qui sul taggata al valore su rischio c'è il buon simonea simonea che di napoli segue ci segue quindi non ho sento un bel gruppo napoli milanesi romani anche romagnoli qualcuno c'è quindi asi torino insomma la carità d'italia il problema è che magari non facendo solo facendo cose essendoci un po di meno di eventi che aggregano cioè non sono magari c'è uno non ci si incontra però per dire cioè io oggi non sono andato e mi sono perso giorgio panni però quando andai a romix qualche anno fa c'era questo andava in giro con la maglia dell'unders più dead era io gli ho urlato dietro adam cole pepe quindi ci sono situazioni in cui capitano ecco c'è magari a napoli già ce ne sono un po di meno senti ma ce l'ho una domanda se posso fare il kick off con le domande guarda allora io metto un'immagine così a caso di un match che praticamente non ha detto niente ieri esatto metto inutile completamente no brutto brutto poi se vuoi esatto se vuoi iniziare a dire qualcosa io non ho una domanda chiaramente domanda tenete cioè qual è stato il match che avete vissuto con più pathos però durante l'incontro quindi adesso a posteriori magari semplice con l'esito dire prendendo poco durante il match che ne so che aveva dovuto un tifo più particolare o un'ansia un po più particolare parto io vai allora per me a me ha emozionato il finale di samizain e cooper occhio lucido là eh sì sì esatto un momento proprio però il momento che me è più cioè come match con le mi ha tenuto più sulle spine è questo ragazzi cioè ma perché più che altro ogni ti dà l'idea che poteva succedere di tutto e l'ha data lungamente capito ehm non era un match normale ecco cioè è per la magnitudo per le poste in palio per come è stato raccontato eccetera cioè io ora io ovviamente non sapevo né chi vinceva né come cioè ci sono stati tanti near false che credibili poi eh tante mosse magari anche creative che sono lo stomp invertito cioè che che ha senso poi se uno ci pensa un attimo lo stomp fatto sulla faccia invece che sulla nuca ha senso sì no io quello che ho vissuto con più pathos paradossalmente cioè che proprio come dire all'esito tipo proprio urlo liberatore cioè che l'ho vissuto potente è stato l'open air di via cioè sono stato proprio contento contento che ha mantenuto e che dopo un anno ha messo in tasca a charlotte flair e becky lynch che non sono mica poco io sto proprio ma per lei è proprio contento veramente per lei beh comunque io invece vi dico vi dico la verità io il match che più mi ha dato pathos tolgo questo perché questo per me non è neanche da da nominare cioè questo proprio le sette spanne sopra tutti quello che mi ha dato più pathos paradossalmente è questo no ma ci sta cioè il ladder match è stato veramente tanto divertente ma il momento più figo è quando sono si sono messi sulla scala e la scala si sta iniziando ma la io ho notato il pelo nell'uovo non so voi si jessica car e prende per le caviglie eh come si chiama ma che sta facendo questa non avevo capito solo dopo ho visto il piede mezzo così ho detto ah ecco no cioè lui lui pazzo è cioè lui bassissimo lui c'è peserà 110 kg no ma secondo me non se n'è accorto non se n'è accorto per me se n'è accorto per me se n'è cala ma più che altro è stato più pazzo miz che è saltato su quel lato di scala pazzissimo c'è non ha senso vabbè ma poi in realtà è più leggero cioè della montagna e vabbè però comunque hai sempre tosso quella scala lì 220 230 kg da andare bene è sul lato poi debole pericolosi però però veramente questo match qui per me è stato bello ha avuto tutto mosse spettacolari la sconfitta dei teletubbies ha avuto la sconfitta di DIY non mi fanno né caldo né freddo ha avuto un momento divertente cioè Artruth adesso io non vorrei dire Artruth in tre mesi ha vinto una cintura Cody ci ha messo un anno e mezzo a vincere quelli di coppia oh bello sto momento che dicono in chat eh quale no invece di Artruth che piange da cima della scala sì vabbè ma poi Artruth ha anche preso le cinture un po' come personaggio no che non si non le trovava cioè ma poi è stato fatto dal cambio da De Mitz che ci mette tutte le tutto le sue energie in quel cambio a me i tuoi allenamenti Alberto le due manovre di tutta la serata meglio mi ricorderò due manovre la prima è la tornata di DT di di Johnny Gargano non ha senso cioè perfetta clamorosa ma quella che mi ha lasciato ragà dopo c'è sono rimasto in brain buster brain buster sul paletto ho detto questo è morto ha perso la carriera è paralizzato ma pensa che all'inizio pensavo fosse un boccio ma i telecronisti erano super convinti poi l'ho rivista ragà ma quello ha rischiato la carriera là c'è brain buster sul paletto vai sul collo cioè fa fine sì ma quello perché è una tecnica che poi per chi non lo sapesse se mi zain faceva nelle federazioni indipendenti quando il suo personaggio era il generico è troppo pericoloso ma infatti quante volte l'hai vista da quando stai 0 0 l'hai fatto nel match più importante della tua carriera di bambino di chapeau per per come si chiama per gunter che ha cessato di prenderla sì è esatto 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 vabbè però comunque sta in mani sapienti ecco c'è se mi zain lo sa fare però più che altro è impressionante perché è caduto proprio perpendicolare c'è proprio dritto capito c'è sì ma infatti ti ho detto io pensavo dovesse fare la classica al suolo ho detto beh stava troppo sotto il paletto ed è andata là ma manco per niente cioè per me quella è stata la manovra della serata sono rimasto pietrificato anche quando punter prova a fare l'uva kick se mi parte io lo fa nella in live siamo impazziti ma questo match ragazzi è bellissimo la storia era un po claudicante però cioè quando vedi il pezzo nel tunnel con chat gable che dice ok però tu devi andare da solo mi devi una poiché incrociata la moglie incrocia incrocia che io infatti mi aspettavo stasera è con lui che magari fa incrocia che io magari prima del match quello è sempre una moment guarda paolo ti hanno praticamente risposto che ne pensate di quel mezzo di disegno punterà per me match della serata easy però rispondo per l'ultima volta questa domanda qui poi se altri la faranno vi chiedo in chat di iscriverlo voi perché ieri è arrivata veramente un munchio di volte il bardo non c'è perché deve fare tenere la voce per le telecronache che ha di rodis make down in xd e delle due notti di resta il mania che settimana prossima saranno gratuita gratuite per tutti sul canale di max canale 52 o sull'app di discovery plus quindi avendo davanti cinque giorni di telecroniche praticamente più magari vari spot che ha detto che deve registrare insomma eccetera eccetera se perde la voce questa settimana qui non è il massimo non è la settimana che opportuna ecco per avere problemi alla voce esatto è la punta la live non è spoiler su stand and deliver quindi era ieri per chi visto che c'è stato poco prima di breast il mania se stasera volete parlare di di stand and deliver non c'è problema tanto so che simon l'ha vista non so brachias però simon l'ha vista partiamo con le domande che se no gli altri dicono avete detto di fare le domande poi dopo facciamo però risposte rapide così rispondiamo a tutti magari ieri ci siamo un po' dilungati a Roma tu stand and deliver e bravenna ferrara italia pizza spaghetti filippo milan ciao parlo con una domanda ma visto il mini event di ieri non è un po scontato quello di oggi non vedo come codi possa vincere contro l'intera bloodline visto che hai parlato solo te simon parto da te simon grazie così ma secondo me non è allora sarò coinciso anche c'è anche questo peso morto di bryas come no beh può essere certo diciamo questi match che è inquadrato era più incerto però sinceramente pure qui mi aspetto e poi arriva pure ritisci capito interrompe uno schienamento cioè il delirio l'abbiamo già visto il bloodline rules ragazzi e vuol dire che succede il casino perché magari non ci sarà set jay ci sarà magari a dargli una mano cioè bisogna vedere che succede ragazzi dobbiamo arrivare a essere un foglio bianco cioè limitarci a quello che sappiamo cioè che ha vinto che è bloodline rules perché è un match veramente strano da decodificare che proprio come si stanno allineando le cose perché poi se metti caso che damien priest in casa o zumeck intervince c'è trolling è infortunato comunque da ieri sera cioè la conseguenza per il set trolling se l'ha pagata maramente da un infortunio cioè ci sono una serie di variabili che secondo me capiremo solo una volta arrivati in là però godiamoci il viaggio per te invece bra no no dico la verità secondo me in questo match che sarà il benevento non c'è nulla di scontato ma per il semplice motivo che comunque molte persone saranno coinvolte e sarà un bloodline match quindi comunque la bloodline al completo incluso the rock sarà presente non mi meraviglierei se comunque cody arrivasse anche lui con un suo team passami il termine che ne so con un set trolling con un j poi c'è l'incognita valigetta che secondo me onesto spunterà stasera fuori e quindi boh cioè ma poi al di là di tutta questa ingerenza come diciamo noi c'era che hanno costruito cody per due anni hanno fatto iniziare due eroi a rumble cioè penso sia lo scam più più ridicolo della storia del wrestling se dovesse vero vorrebbe vorrebbe dire che non c'è che non non ci credono sostanzialmente non ha senso c'è capito sì sì è un qui è un ora cioè questo è il momento di godi più dell'anno scorso paradossalmente sì ma anche perché se si ipotizzando che roma dovesse mantenere cioè chi è l'uomo di punta che potrebbe essere in grado di scalzarlo che volevo prendere un secondo per ringraziare il buon fabio che ieri sera è stato veramente giocato caro editor della serata grazie mille numero uno buonasera buonasera fabio facciamo una progetti livelli di aziendalismo mi provoca in chat e comunque fabio mi provoca maria per codi mamma mamma mia è la serata di simonea questo un altro ragazzo oggi uguale guarda fabio si è fatto già tanto ieri non non ti preoccupare anche perché il mio l'obiettivo 54 su 100 il primo step dopo ieri sembra quasi non dico scontato ma poco ci manca la cosa che mi console che per arrivare 150 ne servono altri 100 circa quindi sono più tranquillo la smr può ritornare dopo dopo questa live andiamo alla prossima volevi dire qualcosa sai non scusami no no tanto ne parleremo durante la live del filadelfia street fight match del match alla filadelfia buonissimo mamma mia quella quella in quel momento lì alla 1 inizia francesco il il pay per view il kickoff alle 23 e io quel match lì voglio essere lasciato in pace se farò urlo così lasciatemi lasciatemi nel mio mondo no parlo di carry on cross cosa ne pensi del team di dominic e santo o del team dove che santo preferiresti vedere dominic ancora di franca santo su dominic affiancato a logan paolo a vabbè ma per me non è una cosa temporanea non sono team esatto è stata una cosa estemporanea per fare uno scherzetto a rei diventa il peso così ecco fabio ski dragon grazie mille per l'abbonamento regalato grazie mille caro in grande è un grande fabio schi grazie fabio se devo scegliere questi due questi due qui per dire scelgo dominic con santo schermino hanno più più vicinanza secondo voi comparirà brock che è una delle domande che ci fanno più in maniera più ricorrente no ragazzi su queste cose purtroppo anzi giustamente la davidobili non si vuole esporre più di tanto perché se esce fuori che è colpevole effettivamente di quello che è successo cucane è pesantemente coinvolto è incluso uno che ha una indagine sopra comunque non è opportuno no non è veramente tanto tanto rischiosa come come cosa aggiungerei non puoi non puoi permetterti di fare una cosa una cosa simile cioè non puoi premere di schiare una cosa simile ecco allora teoricamente giovanni la mia domanda ma poi intervenire chiunque nel mezzo solo la blog line teoricamente la blog line se non ho capito male può fare quello che gli pare è tipo l'underjack match esatto quindi però non mi sembra di aver di aver capito poi magari correggetemi voi se sbaglio non mi sembra che possa essere che the rock diciamo solo si qua possono fare l'arbitro speciale no è un classico esatto è un modo per chiamare uno l'ho spara red queste cose qua però chiaramente ma secondo me l'hanno non lo chiamano così perché the rock se ne è uscito questo nome geniale blog line rules match ma visto che il blog line rules e the rock ce l'ha promesso avremo solo si qua a cantare l'inno questa sera mamma mia che belletto solo si co colpo alzichè il microfono canta col pollicione the rock ieri raga spettacolo the rock ieri ha messo ha messo in chiaro il perché ancora il numero uno secondo me andiamo con le domande ne ho veramente tantissime quindi il boss engaged sullo schermo in questi 35 minuti voglio riuscire a farlo il più il più possibile continuate a scrivere che cerchiamo di farle tutte ma servirà il match degli eop contro l'esli no servi serviva no però sai serviva no fanno comodo match un po più leggeri ecco nelle queste card magari dura dieci minuti rapido indolore come quello dei messicani ieri sera ciò grazie per l'abbonamento regalato ci ragazzi un minuto un minuto e quaranta per live 30 e fatelo partire facciamolo partire stappi train dai siamo in prese del mini a un bel record nella sera di prese del mini a dagli l'ha detto anche triple e c'è da oggi tutto cambia infatti dalla prossima volta braccio si raserà zero esatto e poi ci manca e qui già siamo messi bene il doppio taglio un minuto per live train e ma è una cosa più leggerina mettiamola così niente nulla di più e nulla di meno cos'è sto switch come ieri sera ma che sei ancora era spazzo switch improvviso arriva il film di scompare brachias switch parti buonasera ragazzi buonasera buonasera salve devo mettere una foto che possiamo vederci tutti non si vede ciao non c'è non si vede ma volessimo tipo ma volessimo fare che tipo così così guarda fermati faccio io no 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 vai tranquillo bravo non ti preoccupare vai tanto non mi si vede tranquillo no dopo dopo adesso vi giro vi giro andiamo andiamo veloce un attimo con allora facciamo che facciamo che diciamo che siamo in quattro ognuno risponde a una domanda e non risponde facciamo così facciamo svitellone 500 bit grazie di cuore svitellone questo è per il derby svitellone mamma mia assurdo 500 bit e live train è partito dai il 93 per cento manca niente a superare la prima stazione dati un'altra spintarella dai almeno la prima stazione una piccola spinta 40 quindi almeno livello 4 è allora risposta veloce di tutti veloce però sì o no tristi in cassa no si e fallisce si si fallisce se non no ecco qua per me si lulupo abbonamento regalato la community a carlo grazie grande lulupo che anche lulupo sarà con noi più tardi nel momento abbonati grazie mille lulupo grazie di cuore per me invece vado controcorrente di così è in cassa con successo ma se il true marketer potrebbe rasarsi a zero davanti a tutta l'arena tipo vince mcmahon allora cavo qui così riusciamo a a vederci a vederci tutti allora parto da te brachias visto che sei stato all'oscuro per un po come reagiresti alla vittoria di roman reigns ma reagirei tranquillo nel senso sapete che sono in questi due anni in stato al suo fianco sarei ammetto comunque contento se vincesse codi sarebbe un grande prestem ea moment se dovesse vincere le roman vogliono consacrare una leggenda che insomma ce ne ricorderemo e non ho idea di cosa potrebbero far dopo perché avrebbe fatto tutto se non effettivamente il match con the rock ma tranquillo è un esito che ci può stare alla fine nei sondaggi abbiamo fatto eravamo tipo sui 56 44 eravamo lì eh sì eravamo eravamo lì e per chi chiede crisi più tardi ci sarà dormirà 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 sì buonasera salvo buonasera tutti quelli che stanno aggiungendo amici la prossima è del fiend vai per te fiend è così impossibile che vincere a roman no 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 70 30 per codi rossi allora vai 70 per codi rossi ok tutti e tre chi fareste vincere tra logan paul kevin owens e randy orton parto da te simon poi vado giù tutti gli altri per il merese il mania moment che ci dava prima bragas dico che io e poi semi zain e kevin owens esultano in stile di guerrero e chris benua io dico orton perché quel breast e mania moment non lo vedo paragonabile nel senso che sono due situazioni completamente diverse quindi vado io farei vincere orton sincero bra io mi ha già citato simon quindi vado perché io io vado per orton invece mi piacerebbe orton ecco prossima prossima domanda lo faccio a te fiend visto che non c'eri prima che l'avevamo già fatta lesnar tornerà stasera secondo me no ok altra domanda questa è solo per te fiend credo della presenza di giulia dopo tanti rumus finalmente comparsa cosa vedi un po anche da fuori sicuramente preparatissimo e ring sicuramente un prospetto che nexty potrebbe essere un plus in più ha già quello di buonissimo che c'è nella division femminile di nxt quindi un bel progetto abbiamo già visto arrivare dal giappone tanti che hanno fatto grandissime cose in wb asuka kairi sane ma anche altri io sky di uscirai quindi anche se lei poi non è a giapponese realmente però arriva da quel mondo lì si è giapponese a giapponese sì no però c'è una diciamo italo giapponese esatto sì italo giapponese se la guardiamo non è anche a livello di lineamenti è diversa però viene da quel mondo è cresciuta diciamo in quel mondo lì e io credo che possa fare veramente veramente bene poi parla italiano arrivare 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 a livelli di asuka io sky vuol dire diventa campionessa del mondo quindi sarebbe top potrebbe essere anche meno però sicuramente secondo me un valore aggiunto tra l'altro ragazzi credo che un po di italiano lo parli pure perché ho visto dei video in cui parlava un pochetto di italiano con altre gioci giapponese ogni tanto posta anche in italiano donna del mondo anche sì è uno dei suoi ric l'ho vista brava l'ho vista l'ho vista no no è un isplicato scusa ok giusto giusto per contestualizzarla in cecco ci dice che è nata a londra da padre italiano e madre giapponese sì ma infatti ho ma infatti è un incrocio tra una napoletana e una giapponese cioè infatti infatti su me è una ragazza stupenda anche perché è molto particolare sì 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 raffaello abbiamo risposto prima comunque per tutti gli altri tre ragazzi che vedi qui sotto la risposta è no per me invece priest incasserà o se incasserà priest per gli altri incasserà sbagliato però sbagliando hai detto no non l'ho detto ho detto in casa ok va bene allora in cassa quale cassa 1 cassa 2 e ora si inizia c'è da arrivare alle 6 allora un'altra domanda che ci chiedono tutti tantissimi apparirà se uso quella di er numero uno e ve lo chiedo a tutti voi risposta rapida ci sarà secondo voi stone cold e ci aggiungo anche i vari sina cioè insomma leggende secondo voi interferiranno in quel match nel main event insomma anche tribole il main anche 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 triple h per dire come ci chiede bro spero spero di no all'unico che avrebbe senso e triple h ok per te simon sì mi accodo a triple h perché comunque sono visti quelle robe però c'è anche john sina per me lo avrebbe perché comunque sina con solo tico anche con lo stesso roman per me stone cold sarebbe già molto più fanservice fino a questo cold proprio ci stacco come il cavolo a merendo beh il cavolo a merendo deve essere buono te bra aggiungi qualcosa su chi vorresti tra i vari nomi credo e spero di no perché sennò sarebbe ai miei occhi un po' una fagiolata allora giovanni dura fino al prossimo primo live event money in the bank quindi anche ora giugno non è mai successo non è mai successo che un wrestler facesse scadere money in the bank quindi però la scadenza è nel paper view money in the bank invece altri atleti uso questa accusa questa cosa qui njf dusti o ambrose insomma da fuori non mi sono da solo dustin no dusti dusti se ritorna dusti rica c'è un problema se ritorna dustin che gol dust ok mjf no io non credo a questo rumor sinceramente allora dusti sarebbe siccome qualcosa di pazzesco però è praticamente impossibile perché se non sbaglio il contratto scade a ottobre però non lotta sostanzialmente più nei dubbi no 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 sta ancora lottando sta ancora lottando ha lottato anche recentemente contattate seven find per le durate dei contratti eh a fine live no 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 ma guarda lo so perché ne ha parlato fight food recentemente proprio parlando di questo teorico rumor e hanno detto che finiva il contratto loro dicevano nell'inverno parlando tipo di ottobre una roba del genere ottobre novembre verso l'inverno e quindi per questo ho riportato la cosa poi ovvio stiamo a vedere però sta ancora lottando ha lottato anche recentemente ok altra altra domanda che vado a prendere guarda della malattia wave non ne parliamo delle dichiarazioni di roman cioè no vabbè cioè non visto ci sono tantissime persone che non voi non sospettereste ma sospettereste mai che prendono medicine che salva vita quotidianamente romana di base quello cioè prende un trattamento di prevenzione però dice non influisce avranno anche i medici che lo dicono quindi cioè nel senso non c'è tanto da pensare cioè c'è solo da rispettare una persona che ha raggiunto così tanto nella vita nonostante un handicap così pesante quando era giovanissimo qua nei due centesimi altra altra cosa questa è più per chi di voi guarda nxt dragunov lo vedete pronto per il main roster assolutamente no no perché secondo me è completamente è mono troppo monocorde ed è pure troppo piccolo per far quella roba cioè perché secondo me a triple h gliela fan sia triple h a gunter va bene perché è una montagna dragunov è molto piccolo fisicamente anche se mo sento stato però fu che è strutturalmente piccolo e lo trovo veramente molto monocorde i suoi match iniziano a stancarmi sinceramente stavo per dire che avrei bisogno di un un input in più a livello di versatilità premesso che sul ring è clamoroso per le dotiche a lui cioè secondo me è ottimo nel ring per quello che fa lui però secondo me nel main roster serve anche altro e per ora abbiamo abbiamo visto un po la stessa corda comunque lo stesso strumento suonare benissimo però non lo so io aspetterei un altro pochino eventualmente amici se avete degli spoiler o dei rumors non diteceli per piacere sto leggendo in chat delle cose mi raccomando se avete degli spoiler o altro tenetevi lì per voi anche se no poi dobbiamo metterli in time out siamo costretti esatto esatto non non fate non fate spoiler altra altra cosa secondo mebbe classi sarà il match tra re e carlito io spero che questa faccenda latina finischi finisca con resta il meno ne so più anche perché livello veramente molto basso quindi mi auguro che finisca tutto io spero che se c'è un'evoluzione vada nella zona di andrade che magari serva anche un po' tirarlo su perché andrade secondo me ring tanta roba e magari con l'abbraccio con zelina e tutto il resto si può creare qualcosa per il resto backlash tradizionalmente si presta a qualche ritorno di resta in meglio si rivincita nel senso andate a ritorno quindi qualcosa laggiù ci sarà e questo potrebbe essere un caso ma infatti scusa simon a me questo ne parlavo anche prima con parrucco prima alla live a me questo ha fatto molto rabbia del match latino e che andrade secondo me è veramente fortissimo il ring mi piace un botto ma si ritrova in ti match in ste dinamiche che volo vanno a svalutare secondo me ma secondo me uno stinto non è mai stato valorizzato troppo che però in linea teorica quel match in realtà è perfettamente nelle corde di andrade cioè nel senso lo potrebbe valorizzare il problema che è un estraneo alla storyline sì ma questo perché ma perché secondo me tra con l'ora sono davvero male tra con lì io credo che si sia fatto seriamente male e quindi ho detto beh ci chiediamo andrade dentro oppure vogliono farlo dall'inizio ma andrade capito beh aspetta dobbio se ne potremmo parlare di questa cosa direi di no cioè no 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 io semplicemente dico che non essendoci una storia a suo supporto motivazioni valide ma a vederlo ma che cacchio è scritto lo spoiler io speravo fossero quattro ore di crisi vuole rettect inizia alle 1 inizia alle 1 come ieri rispondiamo a questa domanda che ce l'hanno scritta 3.000 volte è vero che stonco ci sarebbe un evento che ne possiamo sapere faccio di popoli ma non ho tripoli non hai la come non hai la cover del telefono con la scritta tripoli quindi io tenderei a dire di noi quali ci si richiama tripoli allora ha detto non vedo tripoli alice tra i contatti tripoli alice secondo voi parto a te simon stavolta riprendete a quello a gioia brah secondo te sarà un in mezzo a tre quindi credo quello per il titolo degli stati uniti rischia di essere un handicap non credo c'è sicuramente sì nelle fasi iniziali ma è un non stanno a lesinare beneficenza quindi se le daranno di santa ragione per te find inizieranno in comune accordo poi succederà qualcosa si sta bene giusto credo che c'è la linea più giusta dell'incontro tra ecco sia questa qui che ne pensate invece del titolo nord americano femminile di nxt secondo voi ha già un suo nome sopra non lo so se ha un nome però favorevolissimo nel senso che come dicevamo prima secondo me c'è tantissima roba bella nxt a livello di femminile c'è tantissimo movimento e secondo me lì sì un titolo secondario ha senso anche perché avendo perso il titolo tech team che si è fuso con il titolo del main roster ha totalmente senso introdurre questo titolo che comunque potrebbe diventare importante lì dentro simon secondo te questo titolo nord americano è un nome che vedi già sopra fin un nome mi piacerebbe che alla lunga ne uscisse tia e il come situazione potrebbe essere un bel trampolino per una che secondo me è fenomenale per l'età che ha però potrebbe andarci anche intanto per lanciarla tutte le dalla stessa parte ci potrebbe essere un discorso su jesse jane ci sono tante ragazze lì dentro che che possono ambire però io dovessi scommettere da quella rivalità con con tutte le dinamiche andrei su tia e lo jesse jane allora no questa è riferito a giulia chiaramente ma chiaro chiaro che vediamo dove è terra prima giulia vediamo un attimino vediamo da dove inizia presumibilmente vai da nxt è una no no sicuramente però vediamo in che storia va cioè sì no certo diciamo che è un modo un po banale tra virgolette presentarla però mi ricordo ai tempi quando arrivò ad un call mi pare al takeover dopo vinse il titolo nord americano oppure quello dopo ancora però ad nxt queste cose sono sempre successe anche perché comunque è un atleta che mi viene da dire che là ci starà poco perché comunque le joshi cioè le less del giapponesi sono preparatissime da spiegargli è come si fa un perso qualcosa cose più magari tutto posto a spero che è successo no 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 perché stavo provando a mettere due di qui e due di là ha fatto qualcosa così pazzo no è sostanzialmente cioè si presta ecco si presta però però pure a me piacerebbe ti a il ma perché ti a il secondo me è un'atleta promettente cioè a me di dare il titolo così spalmato addosso a una che comunque è già formata e tutto la trovo una cosa che ha un po fossato anche le next il vecchio cioè sinceramente giulia per dove è partita cioè per da dove arriva se mi sarebbe più giusto collocarla diciamo nella zona più alta diciamo nel bene 20 più magari verso il titolo massimo tra l'altro in chat dicevano anche sorruca tendenzialmente è un nome tra quelle promettenti però è rientrata da pochissimo e vediamo un pochino di dargli un attimo di tempo una finisce sono e pazzesca però brava brava però ecco anche lei va vista un attività rientrato da molto tra l'altro quasi quasi vede quando ho presentato giulia aveva vicino william regal ma soprattutto c'era rossio gamba l'ex presidente stardo che sarebbe sì l'ex presidente della stardom che adesso pare fonderà una sua federazione chiedete io ne so relativamente poco perché comunque è un mondo particolare però se vuoi andate su discord ma il dottor greater power su queste cose è preparatissimo sul racing giapponese femminile quindi c'è una dinamica particolare giulia infatti ha lasciato probabilmente anche che ha lasciato questo rossi ogawa quindi però beh io spero ti ha il invece di darlo piuttosto che darlo a cosa a una che è già formata è già grande mettiamola così ciao gran duca del salento altra altre domande che stanno arrivando quale posso andare prendere e nel main roster questa cosa qui del titolo nord americano lo vedreste bene oppure no oppure van bene quelli di coppia continuano così che presenti stanno seguendo in questo momento 15 16 ragazze in contemporanea potrebbe anche avere senso però devono continuare così perché se si torna al periodo in cui ne scrivono 5 allora no assolutamente no se scrivono così bene e tanto 15 16 ragazze per volta allora si dico vabbè ok mattino non sono d'accordo non sono per niente d'accordo e ti spiego anche perché perché trovo che per arrivare a quel punto che sarebbe pure giusto per carità deve avere una quantità molto più grossa di lottatrice con un roster molto più ampio avere un titolo avere tre titoli di fatto se non ha detto anzi quattro per anche 50 persone è troppo poco c'è troppo ha in titolo ogni 10 atlete generalmente sono d'accordo simon generalmente sono d'accordo su quello che sta dicendo e l'abbiamo detto anche fino a oggi praticamente il fatto io sto solo dicendo che in questo momento stanno sperando tantissimo e come ci dice il nostro amico in chat eh Dinamo Saetta non abbiamo gente tipo Liv, Nia Jax, Tiffany Stratton che nell'ultimo mese eh insomma erano profilate parecchio non so neanche avreste bene quindi c'è la la deepness a livello di roster ora c'è poi va visto va visto il tempo perché poi quello che conta per scrivere i titoli è il tempo televisivo il tempo televisivo ti puoi scrivere anche 20 ragazzi però poi è poco quindi è è strettissimo la forchetta si rischia di fare una roba del tipo voglio il titolo difesa vinto voglio il titolo difesa verso e basta senza storia come provocazione ti dico preferisco che duri più periodo più lungo così in cui c'è il roster più ricco che mi ritrovo ci ritroviamo come siamo stati per anni coi titoli di coppia no no sono d'accordo in generale sono d'accordo che fecero un titolo senza una divisione sostanzialmente lo fecero per accontentare Sasha Banks e Bailey cioè di base che gli fecero tra l'altro lo persero un mese dopo però sì no 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 però sostanzialmente sono d'accordo con te credo che una una condizione favorevole potrebbe essere sempre come dice dinamo il fatto che sia come il titolo tech team ovvero che lo puoi usare fluidamente tra ruoli e smackdown se fai una cosa che sia uno esatto che sia uno solo che sia uno solo allora vi chiedo di andare un pochettino più veloci perché ne ho veramente tante qua da vorrei farle tutte tanto grazie ragazzi perché siamo già 250 tanta roba manca un bel po bella maratona ci si diverte grazie a tutti ragazzi grazie anche a fabio che ho visto che ha lasciato il follow poco fa e secondo voi quando ci sarà la conferma della creazione di nxt europe per me al momento rimane ancora un po un po un po lontanuccia la cosa e secondo me 2025 totto totto titolo quale sarà il primo titolo secondo voi di solo si coa parto da te bra che si sdito da un po e non stiamo facendo il quiz eh no ma credo che il primo ma credo siamo uno dei di quelli che noi chiamiamo secondari usa intercontinentale al momento secondo me solo c'è l'intercontinentale ha premesso che lo vedo lontano dai titoli secondari perché diciamo questo il regno di romano in particolare ha reso i secondari più alti dalla gestione tripoli c in poi cioè lottare per per il titolo di gunther vuol dire sfidare comunque una star un mini eventer è uguale per il titolo degli stati uniti tra l'altro mi viene da dire che tra qualche annetto forse un titolo degli stati uniti però devono cambiare il modo di scriverlo deve diventare naturalmente uno ma un maga 2.0 magari lo tengono fuori per un po dalla televisione e trovano un modo nuovo per scriverlo dipende ora ci sarà il draft quindi dipende da che roster andrà però io più di un titolo secondario in questo momento non lo vedo appetibile poi ovviamente tutto dipenderà da come lo scriveranno una volta libero dalla blog perché lì sarà un solo si qua completamente diverso finché nella bloodline più di un titolo secondario secondo me non può ambire poi vedremo dopo allora altra altra domanda quale mette secondo voi vi sorprenderà di più nella notte 2 spero belli contro io sky idem mi accodo gioco facile nel senso che credo che il potenziale match la serata su quello di set anche io vado vado su set ovviamente escludendo il main event se no sì 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 mi escludiamo il main event se no a voi due voi due ragazzocci di là che avete visto stand and deliver parere generale visto che sono arrivate anche domande se vi è piaciuto domande se è piaciuto l'incontro a tre del titolo nordamericano insomma diteci un po' come vi è segnalato della serata allora il preview in sé è stato gradevole mi ha divertito comunque è durato due tre ore mi è intrattenuto match della serata per me il match a tre divertentissimo un'ignoranza ragazzi sconfinata cioè vente king kong contro kozilla ho visto ho visto l'ultimo film tra l'altro vabbè meglio non parlarne e aggiungo che un altro match è stato quello di coppia trick trick contro me lo è meritato molto ma deluso un po quello femminile sinceramente perché non mi è piaciuto come iniziato niente troppo statico e secondo me si poteva fare meglio nel match titolato perché secondo me toni di angelo non era un avversario ottimale per drago l'offa sette e mezzo stand and deliver voto il miglior match per me è stato roxan contro la era valkyria tra l'altro bella atmosfera bello 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 bravi tutti e due però in generale ecco come ha detto simon mi sono divertito è un premio live vivente comunque che in due ore e mezzo tre è anche abbastanza leggero quindi passa bene vola via come un po tutto nxt di questi tempi a me sinceramente sta divertendo veramente chi magari vuole avere una finestra su cosa accadene del brand di nxt si recuperi stand and deliver perché secondo me è abbastanza indicativo di cosa c'è in questo momento in roster e c'è veramente da divertirsi secondo me grosso progetto al booking di sean michaels in generale è che è godibile sempre sì cioè è molto essendo pure tanto veloce come prodotto nxt va molto veloce molto dinamico poi chiaro c'ha tanti difetti però è proprio pensato per essere infatti nxt sta crescendo come come prodotto come prodotto cioè ieri sera hanno fatto il loro più grosso il gate più grosso non come in caso come pubblico c'è record che è anche meno che è stand and deliver è la loro press e media quindi potenzialmente ecco è lo spot migliore per feste però hanno fatto però di take over new york sì no no certo però in questo momento nxt sta arrivando su dei livelli veramente molto molto piacevole sì ma credo anche gli ascolti sia migliorato controllo un secondo allora intanto arrivata anche un'altra tenda lista che mi ha dato una gran mano per la preparazione delle domande che ci saranno tra pochi minuti riservate agli abbonati che verranno qui live con noi signori signori rhapsody no ciao ragazzi buonasera a tutti mamma mia carichissimi carichissimi allora vi chiedo di evadiamo le ultime domande in maniera velocissima quindi rispondiamo rispondiamo in maniera in maniera ultra veloce la prima è il prossimo polimangai secondo voi chi è brombrake brombrake a tirare a indovinare si 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 brombraker si sta anche per me può essere può essere brombrake altra cosa ne domanda cosa ne pensate del king of the ring e annunciato nella stessa maniera che l'hanno fatto finora per me anche evitabile passerella tipica in arabia dovrebbe avere qualcosa in poli in più di un di una corona e della gimmick del re semplicemente e poi si va bene in più non dico non non più se dico in più a me quella cosa la piace pure il torneo se ne fanno pochi troppo qualcosa di più concreto magari col nuovo corso cambierà pure la ciò che c'è potrebbe cambiarlo ritorni post vrestelmania non ho bisogno post 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 o durante no no è la stessa persona che scrive pronostici per ritorni post vrestelmania ma buoni quindi il rupposto vrestelmania un nome un dato cioè al rupposto s miałam strowman schibus si è il primo uno uno charlotte cioè questi torneranno no in ruppe il rupposto vrestelmania che di solito si presta ritorni quale ritorno vedi l'anno scorso è ritornato riddle boh scimus dai butto lì scimus secondo te Simon? stroman no ruposti presti e meno ragazzi vedo che alcuni stivano alexa un po' prestino secondo me alexa secondo me ma è madre lei si si però ha già ripreso allenarsi brava diciamo sto comando io dico boh Dallas quindi anche l'Audi ultima domanda poi passiamo agli abbonati cosa vi aspettate stasera dal main event? di tutto capolavoro la guerra di fare la storia una war io rivedo un capolavoro ma al di là del lottato eccetera ragazzi io voglio vedere un match che passerà alla storia sono sicuro che come lo è stato ieri sera la prossima abbiamo già sul piatto due press and many a moment ragazzi sono due che se Cody dovesse vincere sono due press and many a moment la storia di Cody che si chiude e vedere Roma schierato e perdere titoli dopo tre anni e mezzo sono due press and many a moment allo stesso istante pazzeschi se poi vincesse Roma sarebbe uno shock moment clamoroso come l'anno scorso tra l'altro come l'anno scorso però doppiamente perché insomma due anni di fila te lo aspetti ancora meno quindi secondo me qualsiasi qualsiasi delle due succeda stanotte si assiste alla storia intanto benvenuto a Sangai benvenuto a Sangai buonasera ragazzi buonasera volevo salutarvi oggi non sarò dei vostri perché domani la sveglia suona prestissimo quindi purtroppo non potrò fare il tiratone come quello di ieri grande ieri serata stoica bellissima puoi fare scusa ma non ti avevo visto nella dashboard appena t'ho visto t'ho tirato io aspettavo tranquilli tranquilli giusto veramente per un saluto salutavo tutta la chat i ragazzi che sono collegati già sono già sono in tanti sicuramente se raggiungeranno altri poi vicino vicino prestalmania e niente ma sicuramente avrete parlato un po' di quello che è stato lo show di ieri a me è piaciuto parecchio sicuramente questo sarà altrettanto bello se non di più mi aspetto veramente grandi cose mi aspetto grandi cose ci sono ci sono tre match che che devono per forza di cose far la storia il titolo mondiale di Piesi Massimi il titolo di Roma nel titolo femminile grande Waki grazie un salutone che parte la corsa infatti adesso accendo allora gli abbonati intanto se vogliono arrivare potete potete arrivare senza senza problemi se intanto vi volete aggiungere per iniziare primo che arriva prima alloggio ovviamente quindi vediamo chi è il primo che entrerà niente come vi abbiamo detto abbiamo selezionato cinque abbonati a caso per venire qui in live con noi Ciro primo della lista secondo Dark Stark esatto esatto sono già arrivati quindi il primo che vi vado a presentare è un abbonato che è con noi da poco da un paio di mesi credo però ha già donato veramente tanto ha già supportato tantissimo signori e signori il grandissimo Ciro adesso ti metto un po' più grande Ciro magari ben arrivato Marinalto ma che è una rapina buonasera tutti sulle mani perché questa è una rapina io sono Fabri Fibra c'è la maniera di ingrandirlo no 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 mi ingrandisco come no adesso arrivo arrivo adesso correggo metto qualcosa di un po' di un po' più grande come stai adesso mi saluto io oh raga vi saluto io vi saluto vi saluto vi saluto buon proseguimento vi seguo finché posso in chat e poi ci vediamo presto ci vediamo domani per le domande e risposte mercoledì al bar va bene grazie buona serata ciao buonanotte ciao 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 allora Ciro come ti è sembrata questa notte uno di Vrestelmania ma tralasciando il match direi misterio che è veramente non so che termine preciso utilizzare facciolata ma peggio facciolata marcia non ha senso non ha senso mi aspettavo un qualcosa di più uno sviluppo interessante ma non questo devo essere sincero vabbè diciamo che era sospettato per la facciolata sì ma non così che mi porti dei giocatori all'interno mascherati che vanno a stendere tutti gli altri non lo so cosa c'è più di messi messicano io sono d'accordo con Ciro è stata una roba inguardabile credo parrucco sia d'accordo vista la sua reaction di ieri sera no era in live Ciro sì mi pare sì 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 seguita tutta la live grandissimo diciamo che quando è entrato ma chi so questi sono giocatori di football americano è capito cioè totalmente fuori tema avete sponsorizzato la squadra del Philadelphia va bene d'accordo ma oh ricorda la cantata di Drew McIntyre con ah beh no dai non a quei livelli perché quello è il no senso il supersonico ha più che altro quella era un event per il titolo massimo qui te lo puoi permettere perché è un match dell'undercard cioè quello nel senso nessuno si ricorderà del fratello del ragazzo di Taylor Swift che fa vincere i misterio tutti si ricordano dei Drew McIntyre che perde contro la Bloodline e dopo si fa una bella cantata mamma mia che roba brutta bello proprio che trauma cioè vabbè Ciro quale è il match vissuto con più Pathos no non ho capito perdonami quale match con più Pathos ma anche se era abbastanza aspettata la vittoria della Bloodline perché ci sta la vittoria di Cody con tutti tutti coloro che potranno praticamente bloccare la sua possibile vittoria così è una vittoria più spettacolare quindi sicuramente stasera purtroppo ci sarà Cody Rose che vincerà il match ah ma la tocca piano eh sono sincero no regà ho appena letto un rumor che non dovevo leggere ma non vi dirò perché mi vennerà scoppia a ride in live senti invece che ti volevo dire no vabbè questo sì ah Jimmy J Jimmy J come l'ha interpretato bello Jimmy J mi aspettavo lo shock sai quando quando Jimmy ha detto cioè praticamente ha fatto capire che era pentito la poteva essere una bella svolta va quando Jimmy veramente era pentito e ci poteva essere una svolta diversa anche per stasera eh sì è vero però sai è finita insolita fagiolata anche là vabbè no alla fine è coerente con la storia cioè non è che è arrivato un giocatore football americano samoano ecco cioè perché sarebbe stato divertente sai quale secondo me è che l'hanno molto cioè se J è diventato Ciro Ciro dove sei andato Ciro Ciro è ritornato forse Ciro dov'è no Ciro è andato via è tornato Ciro aspetta aspetta diamogli due minuti voi state a mettere l'ansia c'è la prestazione arriva arriva l'ansia vedi vedi a nominare il match direi misterio cosa succede esatto pensi a quello di carri on cross cioè quando ci sarà raga c'è rispetto che crolla alla live alle una ragazzi come ieri sera non è cambiato esatto inizia sempre alla una alle una ma raga ma eccola ecco aspetta sono andato fuori grazie c'era l'abito che stava contando il count out arriva all'ultimo di sei ripreso hai fatto tipo Becky Lynch esatto se posso dire che sai qual è il discorso riprendendo su quel match è che secondo me l'hanno hanno appiattito Jimmy Jimmy è diventato una macchietta assurda cioè se Jay è diventato un personaggio indipendente cioè Jimmy è diventato una macchietta mostruosa che fa solo le espressioni di quelle così davanti sono d'accordo sono d'accordo però a onor del vero dobbiamo dire che pure Jay che è super mega tifato stringi stringi alla fine il moveset non è tutto questo granché ma andate questa rap di che dice queste cose intanto ieri sera ieri sera è uscita proprio sta cosa perché non ha funzionato il match super kick super kick super kick ieri sera ieri sera ieri sera ieri sera ieri sera ieri sera ti dico la verità io so se sappiamo i match che sappiamo fa ma se mi analizzi il match dicendo super kick super kick secondo me non è colta la chiave di lettura a sto giro sono d'accordo con me non basta la lettura secondo me ma ecco a te questa cosa ieri a noi abbiamo dato una lettura per chi non lo sape e c'eri che è stato un po' un braccio di ferro ma è quella lettura non è che l'abbiamo data noi è palesimo ti sarebbe piaciuto che poi avessero fatto altro ti è piaciuta quest'idea di fondo ma il match in sé non ha mai allora il match in sé non ha mai decollato perché non abbiamo visto manovre spettacolari eccezionali è stata una prova di forza tra i due fratelli io sono il fratello più forte io sono più forte di tenere a dare super kick questa è la nostra base questa è la nostra storia vediamo chi va più avanti non è stato un match eccezionale è stato solo un mettere in chiaro chi è meglio di un altro punto distruggendo così praticamente la storyline di Jimmy perché Jimmy adesso è già faceva il pagliaccio adesso non so che potrebbe arrivare Marcello Samp 9-9 un abbonamento regalato alla community grazie mille la storia grazie mille vabbè ma Jimmy non ha fatto quasi avanti la storia cioè nel senso l'unico match mi parlate di storia interna al match cioè no però cioè Jimmy c'è non ha niente da dire Jimmy ma è il poco che ho visto Jimmy l'unica cosa che c'era da dire era vediamo chi è più forte tra me e mio fratello Jay secondo me ha tanto da dire perché è un personaggio e sta già dicendo tanto cioè proprio il fatto che ha partecipato al wargame come parte attiva cioè per me è un segno che cioè il personaggio in sé è stato sta crescendo cioè Jay uso a senso di esistere fuori alla bloodline Jimmy no per ora poi chiaro se si inventano un'altra ma lo sapevamo prima dell'esito del match era chiaro già un mese fa due mesi fa perciò dicono che non è progredita la storia Ciro io invece io invece dico un'altra cosa visto che comunque abbiamo un po' i tempi stretti e tirati visto che tra un'ora e cinquanta inizia inizia lo show e abbiamo gli altri abbonati e poi tutti i cosi i quiz eccetera eccetera ti chiedo Ciro che match cosa ti aspetti stasera e che match secondo te ti stupirà sul match che ti stupirà togli il main event perché sappiamo che è quello che aspettiamo tutti guarda ho un'idea particolare penso che nel match di Cody Rhodes alla fine Cody vinca però ci sia Prince che incassa aia sei sadico quindi sai che nel concetto che stanno portando avanti lui alla fine che cosa fa completa la sua storia però apre un altro ciclo lo apre chiudendolo subito esatto però ci sta io non mi ti faccio una domanda ma in cassa vincendo o in cassa perdendo no vincendo ha detto vincendo la tua idea è bella però le interpretazioni che gli darei io secondo me sarebbe anche come bella ma come bella se vogliamo fare questo gioco a me mi viene a dire sì perché è il destino dei Rhodes questo avere il titolo e per vederselo come era stato il padre 40 anni fa e la storia però non finisce più cioè foraccio sto Cristiano si è preso 300 miliardi defrustate con una cintura in cuoio grossa quanto me ma date che sta cintura povera Ello cioè si è sgarato in un parcheggio dategli questa cintura ha fatto un match che era così cioè date che sta cintura povera Ello cioè mi fa pena ma non lo so aprire un nuovo ciclo cioè vedere tipo nel nel match tra Seth Rollins e Drew McIntyre entrare Prince che ormai era diventato praticamente un'ossessione nel cercare di prendere quel titolo lo vedo un po' ripetitivo e invece il match che ti può sorprendere di più stasera togliendo ovviamente il mini event qual è quello che ti aspetti di più Io Sky contro Bailey grandi va per la maggiore vabbè però posso dire che c'è un motivo cioè per me c'è un motivo perché va per la maggiore ma perché stiamo parlando ragazzi di una storia che va avanti da un anno esatto quindi per me purtroppo verrà anche di più anche di più purtroppo questo match verrà eglissato perché non è detto di no però come arriviamo a questo match se stupi cioè se fa bene stupisce perché comunque è molto bloodline centrica come Rez del Menio certo va anche detto che oltre alla storia c'è anche due performe clamorose su Ring sì sì Io Sky è un mostro ragazzi che poi dopo il Meneventi a risere io mi aspetto un altro un altro match da Drew e 7 un match diverso può essere può essere per forza sono cambiato le carte in tavola a proposito a proposito di mostri vorrei ringraziare un altro un'altra persona che ieri sera ha fatto i buchi ovvero il buon il buon Fabione che ha donato un altro abbonamento grazie Fabio grazie mille Fabio ha donato a vado a riprendere il nome ha eccolo qua ha donato a Trival Gabbo grazie mille Fabio per per l'altro abbonamento regalato stasera mi sa che sei irraggiungibile perché ne hai 33 quindi grazie mille amiche ma aspettate raga posso fare una cosa può fare quello che vuole lei aspetta entro le norme di Twitch esatto sempre 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 con le norme di Twitch no Ciro è nato uno no è otto Ciro 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 è un uomo pericoloso attenzione è stato un uomo pericoloso grazie è divertente così no Ciro ma sei l'architetto ma sei Seth Rollins cioè sei diabolico in realtà scusa che non devo essere sincero ho ammirato molto il vestito di Seth ieri sera era veramente bello quel doppio orecchio sulla spalla ma ci vedi bene scusa ci vedi bene oppure era una pustola una pustola di un metro che schifo mamma mia che caffanato bisogna precisare una cosa visto che in chat qualcuno l'ha scritto la indosserò solo se si arriva a 100 siamo a 59 quindi ancora bene ragazzi inventatevi qualcosa portiamo portiamo il parrucco a questo meme per favore la cosa più importante sono i 150 che sono lontanissimi anche se devo dire che noi abbiamo comprato gli abbonamenti a titolo di protezione nei confronti degli altri abbonati per non sentire l'SMR bravo no ieri non c'è stato l'SMR sì hai chiuso con l'SMR sì vabbè la chiusura è no 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 va splittato stasera la chiuso io va bene stasera la chiuso di te allora a proposito di chiusure di live direi che è arrivato il momento tuo di divertirci un po' noi dai dai comunque complimenti se è meglio senza tre C va bene grande Ciro grande allora spiego un po' le regole ai nuovi ragazzi praticamente adesso cosa faremo faremo un mini quiz a questo nostro ragattotto abbonato che è venuto con noi gli faremo sei domande con due facili due medie due difficili se dovesse azzeccarle tutte verrà in live con noi un'altra sera in una live di SummerSlam hai un aiuto a tua disposizione per tutta la live tra l'altro sì sì per tutta la live per tutta la live sicuramente non riuscirò perché comunque il mio mentor è a livello di conoscenza del wrestling Brachias ecco non puoi fare peggio di me ma tocca piano un uovo un'altra cosa che che chiedo è alla chat di non spoilerare le risposte quindi la chiudo la chiudo guardo soltanto il nostro di space bravo che gioca pulito bravo bravo Brachias fai partire le bet di un minuto se il buon Ciro le indovinerà tutte sì o no mamma mia lo stile delle domande è nello stile chi vuole essere milionario avrai un aiuto che è l'aiuto del conduttore all'ultima domanda non c'è l'aiuto del conduttore stasera fermati fermati te sei troppo parrucco centrico mi fai finire di parlare e sceglie l'aziendalista che lo deve mi fai finire di parlare no non ti faccio finire non ti faccio finire se arriviamo all'ultima domanda avrai il 50 e 50 non l'aiuto del conduttore puoi scegliere come conduttore o me o Rapsody visto che mi ha dato una mano a a fare a preparare il quiz quindi la prima cosa che ti chiedo è chi vuoi come conduttore me o Rapsody Rapsody ma perché voi non mi avete dato una mano mi ha dato una mano a Rapsody quindi è il momento di Rapsody beh sai per questo io ti ho dato una mano al primo quiz in assoluto non è stato il beta tester c'è arrivato a darmi una mano no stava alla mano moralmente aspettate datemi un attimo ragazzi l'ho tolto l'ho tolto possiamo festeggiare l'ho tolto l'ho tolto l'ho tolto take over poi altra cosa che ti chiedo altra cosa che ti chiedo quale cartella vuoi dall'A alla F allora tenendo conto che mi chiamo Ciro quindi la prima lettera è C voglio la E lei va bene bravissimo mi sentiamo pubblico hai fatto le better Brachias si stanno votando votate contro che vincete ma quanto hai fatto due minuti si ho sbagliato no va bene anche uno abbiamo poco tempo vabbè la prossima ma come diciamo non è che però capì comunque ora parti le scherze è vero se avete preparato le domande avete fatto un grande lavoro e tutto vabbè però non appararti non appararti no però secondo me è giusto che il concorrente sceglie l'azienda lista che vuole essere aiutato magari c'è una domanda che crede che Simon possa sapere e giustamente sceglie l'aiuto di Simon l'aiuto può chiedere l'aiuto di tutti voi per l'aiuto esatto per l'aiuto per l'aiuto deve chiedere a uno di noi quello esatto sì 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 no però chi condurrà il quiz adesso è il buon rap ah va bene va bene Marrucco puoi partire vai allora hai scelto lei confermi confermo mamma mia si parte caro Ciro quale atleta è soprannominato mister Vrestelmania A The Rock B Old Kogan Ciscio Michaels D The Undertaker eh questo è tosto non mi cadere alla prima eh buoni non diamo aiuti in chat non scrivete ragazzi non date risposte in chat lo senti il fiato di Braghias sul collo ma perché tu hai sbagliato la prima no 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 perché l'hai usata la seconda esatto ma sei sicuro ma l'accendiamo ma aspettavo più domande tecniche così mi avete spiazzato aspetto eh lo so ma non mi aspettavo sto domando mi sono pure preparato ho mandato la foto sul gruppo insomma scusa Ciro ma tu hai la serata di Wrestlemania non ti aspetti una domanda sul Wrestlemania sì ma no bando alle ciance facciamola ragionare ragiona pure a voceata ma sei come Gerry Scotti ehi Siri imposta timer di due minuti allora Rock dovrebbe essere di people champion Shawn Michael non ho mai sentito che sia stato associato a questa cosa eh dubbio tra Hulk Hogan e The Undertaker eh The Undertaker mi ha vinto sinceramente non ricordo questa associazione Hulk Hogan è stato uno dei primi comunque più presente all'interno delle di tutti i Wrestlemania sento puzza di buoni 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 aiuti no 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 non sto guardando niente vi faccio la foto insomma non sto guardando nulla eh vado per Hulk Hogan vai B ahia sei sicuro la tua risposta definitiva sì sicuro 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 ma è salutiamo io salutiamo io mi ricordo questo mister ma è hai fatto peggio di me hai fatto non ho mai associato no io lo chiamavano così io avevo un sogno Brachias che esce alla seconda domanda ha detto vabbè questa è imbattibile rimarrà il peggiorno e invece no e niente paghiamo le lose è andata così le avevo avvisati il resto delle persone in chat di votare contro ma Ciro John Michaels mi chiuderò in bagno per un quarto d'ora è il tempo che comincia il Wrestlemania peccato sicuro 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 raga ma non mi ricordavo proprio di questa associazione mentale zero sarà l'emozione il pubblico ti racconto un'interrogazione mia di italiano vi giuro che questa cosa è vera allora mi interrogo la professoressa di italiano sui promessi sposi cioè che a 15 anni ti fanno leggere i promessi sposi hanno questa fantastica idea un libro scritto nel 600 con tematiche mega anzi cioè mega complicato tutto è un pippone come infinito dicendo no 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 è ambientato nel 600 scusate scritto nell'ottocento bravo comunque io mi perdo diversi pezzi nel percorso mi interroga io non so rispondere alla maggior parte delle domande e al che mi chiede ma Don Rodrigo cosa voleva fare con Lucia io ho un momento diciamo stile Griffin e rispondo per la prima cosa che mi passa nel cervello mi rispondo mi senti io non sento Simon oh io lo sento no Simon sei molto basso ascoltami Simon ascoltami Simon dobbiamo andare veloci perché abbiamo altri 4 abbonati vabbè no allora non do la risposta ve la raccontare no no ora dai no allora io connetto non connetto il cervello alla bocca e rispondo con la prima cosa che mi passa nel cervello che è sesso cioè alla professoressa le rispondo cosa voleva fare Rodrigo con Lucia io sesso le risposi così non mi non mi mise in insufficienza e pura simpatia di stare interrogo settimana prossima cioè però un momento mimissimo dell'universo perché la professoressa è diventata il colore della mia cover in tutto ciò era di mamma mia Ciro ti ti ringrazio per essere stato qui mi dispiace che ti sia andata è stato emozionato peccato che sono rimasto praticamente all'ultima prima della fine non ho usato l'aiuto ma è stato bene sai qual è la cosa è che come al milionario tu devi accontentarti tipo dei 300.000 euro invece sei voluto andare al milione sei hai fatto bene fino a là sì grazie mille ragazzi è stato un piacere e un'emozione Ciro alla prossima ciao Ciro ciao ragazzi ciao Ciro salutone grazie ciao più tardi ciao ciao è arrivato anche l'altro abbonato sperando che faccia una figura un po' migliore nel quiz è un abbonato storico questo ragazzino qui è venuto diverse volte in live è un criticone storico è un criticone storico anche e poi soprattutto è un grandissimo tifoso della Juve Dark Star che è ben arrivato buonasera nel caso in cui lo fosse chiaro esatto peccato lo stavo per elogiare poi ho sentito Juve no no ma in realtà non so ah sono in speculare ah dici con team pq allora allora ti aiuto dai suggerimento su Annibale dissi che Annibale è bella però sai quello lo puoi spacciare per l'apsus cioè proprio sesso è una cosa indifendibile tanto come potete vedere io ho i poteri tipo Bray Wyatt io schiocco le dita adesso accende la luce sì ora 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 vacci piano quelli ce lo insomma quello è sacro gimmick infringement allora Dark opinione rapida su questa sulla Vrestle media notte 1 allora opinione guarda io ci ho ripensato un po' a freddo stamattì o meglio stamattì perché poi dopo in realtà non ho dormito ho visto il gran premio di Suzuka di Formula 1 ho dormito dopo quindi in realtà oggi pomeriggio quando mi sono svegliato ci ho un po' ripensato a freddo e cioè sul momento io ho rimasto un po' cioè soddisfatto perché comunque gli ultimi due match sono stati molto belli cioè Semi Gunther io personalmente non volevo che vincesse Semi prima del match ma l'hanno raccontato talmente bene è stato talmente bello il momento l'hanno costruito talmente bene all'interno del match che io mi sono alzato ho provito ce l'ho detto bravi bravissimi finale del regno di Gunther perfetto e poi il main event è stato secondo me più o meno tutto quello che si potesse aspettare desiderare diciamo io ero abbastanza sicuro che avrebbero buttato in cacciara quasi subito infatti io mi ricordo che Parrucco diceva no ma io alla prima notte il match è normale non voglio che facciano infrangano le regole eccetera io sentivo queste cose tra me no aspetta ti correggo subito io non volevo che ci fossero avvisaglie di una rottura tra Roman e Rock o comunque sette cose cioè io volevo una cosa lineare nel senso che non ci deve essere The Rock che guarda male Roman o viceversa cioè non mi devono dare possibili diciamo spoiler o indizi su quello che l'aspirsi però non è stata l'era fatta ma poi dopo Roman Rock non se l'hai presa capito quindi cioè magari se l'hai presa ce lo dice stasera però ce lo fa capire stasera però non mi ha dato indizi questo match qui capito è quello che ti voglio dire quello che volevo dire sì sì da quel punto di vista lì sono d'accordo anch'io infatti sono contento che non abbiano cioè si arriva oggi con l'idea di oddio ma che succede che era quello che volevo ed è stato anche un bel match e tra l'altro visto che prima Brachias giustamente diceva storico criticone sì io l'inizio di questa storia ne l'ho criticato tantissimo perché per me stavano stavano facendo un omicidio fondamentalmente cioè era una cosa di un controsenso totale però alzo le mani bisogna concederglielo cioè bisogna dirlo bravo ammettilo ammetti tu errori quando le cose sono brutte vanno criticate quando le cose sono belle vanno lodate bravo e sono stati veramente bravi perché hanno preso una situazione che per me era quasi insalvabile e ancora adesso se io mi fermo un attimo e ripenso a quel segmento famoso Smackdown diciamo che la figura da fesso che ci fa il personaggio di Cody non è proprio il massimo ancora adesso ripensarci però facendo finta che quel segmento sia mezzo non esistito sono stati bravi a creare una storia comunque coinvolgente bella e complimenti a The Rock che se è vero come ha detto anche lui mi sembra in qualche intervista che lui si è reso conto della situazione che si è venuto a creare e ha detto è meglio che io faccio un passo indietro per il bene della storia bravo lui a calarsi nel personaggio e io qui lo dico io voglio cioè se devono continuare a usare The Rock tenetelo così tenetelo Yield tenetelo Final Brass perché è un personaggio fantastico sì è vero vero però mai dire mai sì no diciamo che sull'insalvabilità la pezza in realtà era semplice che io la dissi non in live ma tra di noi su whatsapp noi abbiamo un gruppo nostro in cui ci chiacchieriamo noi aziendalisti ci organizziamo eccetera ci insultiamo volevi dire eh? in cui ci insultiamo volevi dire ah soprattutto io voglio dire una cosa scusatemi chat è un clima allegro stasera cerchiamo di mantenerlo mantenendo tale dai dai andiamo a dritto andiamo a dritto dai presti ci stiamo divertendo siamo tutti contenti siamo siamo in hype dai allegria allegria esatto sì e no niente no vabbè diciamo che la pezza era semplice cioè The Rock ha provato da girare Cody cioè quella era l'unica pezza che ci potevano mettere l'unica sensata che poi si fa la figura del fesso ma evidentemente sì però se tu ti fermi a pensare alla logica step by step dei vari passaggi cioè Cody fa la figura di quello che ha rinunciato per una settimana buona ha rinunciato volontariamente a quello che lui dal momento zero in cui è tornato in WWE ci ha detto che era l'obiettivo praticamente il suo obiettivo di vita cioè lui l'anno scorso prima di perdere quel main event in quel modo così rubato ha detto in faccia a Roman l'unico modo in cui io posso esistere in cui io posso vivere è sconfiggerti a Brestelmenia io non riesco a bermela che lui vince la Royal Rumble e con tutto il potere politico la capacità persuasiva di The Rock cioè io non riesco a bermela che uno dice una cosa così vince la Rumble e poi gli fa no vabbè The Rock prego all'anno scorso grossa variabile non c'era il titolo di set sì è vero però ormai la storia che tu mi stai raccontato da più di un anno è quella e quel passaggio lì per me continuerà a non avere mai senso hai ragione è talmente vero che sono tornati sui loro passi no è una premessa debole non dico che hai torto però dico comunque la pezza c'è ed è semplice The Rock ha provato a giudarlo partendo da quei presupposti lì per me hanno fatto il meglio che potessero fare ma anche senza dei presupposti fragili secondo me cioè hanno fatto una storyline da nove sì sì ma infatti su segmenti memorabili cioè a livello proprio solo se guardiamo solo i due main event il tag team di ieri sera e quello di stanotte questa qui potrebbe tranquillamente essere tra le road to rest e mania meglio costruite sicuramente degli ultimi anni ma non so anche tornando indietro perché sono stati veramente veramente bravi e mi hanno anche molto sorpreso cioè io che andassero così tanto a calcare la mano ad esempio sull'essere il di The Rock io non me l'aspettavo tutta questa violenza che ha tirato fuori ma anche perché comunque il The Rock storico si era violento ma non così tanto ogni tanto mi immagino qualcuno che magari non segue tanto il wrestling o proprio non lo segue che magari segue The Rock su Instagram ad esempio perché è un attore che gli piace e passa dai post più tranquilli qui del mondo a questo qua che mena con una cintura di pelle sì esatto ma lui poi posta cose lui posta cose tipo lui che gioca con le figlie che se fa fare peggio cose lo truccano e poi la storia dopo chiusa la telecamera poi non lo mantiene il personaggio vabbè sennò dovrebbe più accinghiare pure le figlie cioè nel senso no non è quello il punto non è quello il punto andando invece su stasera togliendo il main event ovviamente qual è il match che che vuoi che ti può sorprendere ecco quello che aspetti di più ecco per chiudere un attimo il discorso vai 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 D'Arco a freddo c'è un attimo ripensato e secondo me la prima sera a questo giro è facile che stasera ci divertiremo un po' di più che ieri perché tipo l'anno scorso la seconda sera forse è arrivata cioè la prima era stata talmente bella che alla seconda non dico che ci siamo arrivati un po' scarichi ma ti ha lasciato forse un po' meno quella soddisfazione lì e secondo me guardando le card e ripensandoci un po' freddo appunto oggi pomeriggio secondo me loro a questo giro hanno volontariamente puntato molto sulla seconda perché la parte in tre contro tre relativamente inutile gli altri match che ci sono sono tutti match abbastanza abbastanza belli mentre invece nella prima serata abbiamo avuto qualche match che è stato buttato lì così un po' infagiolata poi vabbè il match degli Usos che ne avete parlato prima per me quella lì è stata una delusione incredibile guarda Dark io penso che la prima serata il discorso che tanto qualsiasi cosa facevi salvo appunto una cosa clamorosa come Gunter che perde passava in secondo piano è un elefante nella stanza noi siamo tutti già puntati su stasera sul main event di ieri e poi quello che sarebbe successo oggi è stato Gunter contro Zain ragazzi capolavoro quindi l'anno scorso c'era comunque a notte 2 Cody Roman ma Gunter contro Drew Mc inter contro Shibus no è stata migliore secondo me gran bel match lo penerdi allo scorso di notte 2 gran bel match contro Lesnar mamma mia però guarda è più decente no sì fu carino il match che io aspetto di più stasera togliendo il main event ovviamente dove io mi aspetto 20.000 interferenze e dalla tua maglia che vedo la vittoria di Roman no io sinceramente McIntyre contro Hawkins sono deluso sono sono deluso che non ci sia Sian Punk a fare da arbitro perché io l'avrei voluto come arbitro speciale non è detto non è detto sì è vero potenzialmente potrebbero sempre tirarlo fuori così come giochi poi tra l'altro mi sono sentito un po' preso in giro in quel segmento che hanno fatto a Raw di Chicago dove Punk conta fa vedere che è sano e poi me lo annunci come commentatore lui la giustifica almeno un po' del personaggio perché comunque Punk ha sempre detto di essere uno schietto eccetera dice non sarei un arbitro parziale non sarebbe poter essere imparziale sì che comunque è nel personaggio secondo me cioè comunque Punk è uno schietto uno diretto che ci sì sì cioè non è di che Shawn Michaels Shawn Michaels fa il superkick Undertaker nell'Ele Nasell per pura vendetta il conto di due è più bello di sempre quello ma guarda io leggo spesso e volentieri quello che scrive Dark Star che mi trova spesso mi trovo spesso d'accordo con lui però ti dico alla luce del Menevent ieri sera io mi aspetto un altro match cioè se potessi tornare indietro al bar di mercoledì il gettone non me lo giocherei più su quel match ma appunto come stava detto su Beli perché io mi aspetto una mattanza cioè mi aspetto un trio addirittura che possa vincere anche Pulito perché un set uscito dal match ieri sera che cioè sì ma il fatto è che io non necessariamente mi aspetto del lottato incredibile da questo match nonostante questi sono due che il match lo potrebbero tranquillamente fare il match da 5 stelle magari la butteranno un pochettino più sulla narrativa sulla falsa rega di quello che è successo ieri ma c'è tanta ciccia lì da esplorare cioè comunque Punk sicuramente in qualche modo verrà coinvolto c'è comunque l'alone del Money in the Bank di Damien Priest che secondo me se proprio deve alleggiare su un match è più corretto che alleggi su questo anche perché se proprio devono fare un incasso al Wrestlemania chi meglio di Seth Rollins per subire un incasso al Wrestlemania per ovvi motivi quindi io mi aspetto comunque magari se prima uno poteva sperare nel match de Cristo tra virgolette adesso forse quello sarà un po' più difficile perché ci dovranno comunque vendere che Rollins è uscito distrutto ieri bravo hai capito proprio quello che volevo dire però secondo me si possono inventare tante cose e Punk ha reso questa faida molto molto interessante secondo me diciamo che da settimane che speravo tirassero dentro Punk perché lo citavano sempre l'hanno tirato dentro sono contento quindi ma allora non ci lanciano a provocazione non ci veloce Simon perché dobbiamo andare anche con non per cattiveria per Dark ma dobbiamo fare anche altro non ci fosse Punk quanto sarebbe il pipe per questo match non ci fosse Punk ah non ci fosse Punk probabilmente vedendo quello che è successo ieri sarebbe abbastanza basso perché senza senza questi elementi qui effettivamente uno rischierebbe di vedere quasi uno squash guardando quello che è successo ieri quindi da quel punto di vista lì sì lo capisco però comunque secondo me qua si inventeranno sicuramente qualcosa col botto secondo me diciamo che poi c'è Seth che uno dei migliori che abbiano mai cioè non so di sempre ma in WB sicuro adesso forse è il migliore proprio senza Punk c'era una lettura completamente diversa per me Rollins è il migliore quando si tratta di raccontare una storia dentro al match in questo momento che hanno che prima forse era Edge Edge non c'è più e mi dispiace un sacco che non ci sia più e di quelli che ci sono adesso secondo me Rollins è quello che quando si tratta di fare un match sia bello tecnicamente ma che ti racconta qualcosa lui è sempre una garanzia basta pensare ad esempio al match che fece con Roman che è finito in squalifica normalmente uno un match titolato che finisce per squalifica si mette le mani ai capelli io ancora adesso quando ripenso quel match mi ricordo che mi è piaciuto tanto tanto e spero che prima o poi quella fai da Roman Seth la vadano a risviscerare però chissà quando chissà allora vi ho fatto partire intanto il sondaggio chat secondo voi se Dark le indovinerà tutte oppure no io ho un po' paura come hai paura ma no dai che paura peggio di Ciro non può andare la sapevi quella di Ciro? si quella l'avrei saputa quindi se la sapevo anch'io vuol dire che è facile allora intanto ti chiedo chi vuoi come presentatore io o Rhapsody? ma dai visto che prima ha presentato Rhapsody dal parrucco andiamo su ok e che cosa e quale vuoi di queste di queste cartelle rimaste A B C D F ma C di Cody Rhodes così tanto la C di Cody potevi dire anche te però visto che il mio nickname è Dark Star che dico la C vabbè ma la battuta l'aveva già fatto quello prima quindi magari non voleva essere la C di Cody potrebbe essere la C di Carlito potrebbe essere la C di Carmella no di Cody vabbè la B di B Fab la C di la B di B Fab mancano ancora 30 secondi intanto aspetta che finiate di votare poi dopo scelgiamo esatto guarda possiamo andare avanti all'infinito dalla Dark Star la E di Eugene perché no il primo vestito difende un titolo mondiale in 4 vestimenti sotto l'unico regno sarà anche il primo a restare campione dopo 4 vestimenti di fila sì dai sì e para ho visto il commento di Aiden che vabbè non ripeterò per rimanere PG però sì proviamo la C di Clamorosa figura di è finito il tempo del sondaggio ragazzi delle scommesse sì ok quindi partiamo con la C esatto chi in cassa il money the bank avresti il mania avresti meno a 31 impossibile questa domanda mamma mia ma non mi spugge se lo dice Bragas come se non ne avessi pagato prima io stesso esatto vanno alle cianci vai andiamo a dritti set sicuro definitiva accendiamo sicuro ma sei sicuro che non sia dei guanti ma nella domanda potrei scrivere l'incasso più epico della storia in quali edizioni di Verstelmania si affrontarono The Rock e Sina 29 30 domanda orribile questa qui che domanda orribile allora 29 e 30 26 e 27 28 e 29 27 e 28 allora sono abbastanza sicuro di sapere però se posso esplicitare un attimo il ragionamento giusto? no 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 sì sì dai allora dunque Rock Sina dovrebbe essere 2012 2013 due anni dei due main event quindi la 30 fu quella del 2014 quindi dovrebbe essere 28 e 29 è la tua risposta definitiva? quindi sì 28 e 29 sì la risposta definitiva la accendiamo? sì la accendiamo è giusta è giusta ti ricordo che hai un aiuto che è l'aiuto di uno di noi quale di queste superstar femminili non è mai stata nel main event di Verstelmania? Bailey Sasha Becky o Charlotte? beh Becky e Charlotte sono due terzi del main event della 35 che fu il primo femminile Sasha nonostante secondo qualcuno che non nomineremo sia sempre stata non valorizzata come merita è una di cinque donne nella storia dove ho fatto un main event di Verstelmania mamma mia chi so fare? l'ha messa lì l'ha messa ha parlato un crucio tipo Bokba con Bianca Baghera è la 37 se non sbaglio bravo e quindi rimane Bailey definitiva e accendiamo? definitiva e questo era parato sempre tra l'altro di quella prima i numeri la mia opinione personale quest'anno se c'era un match femminile che si meritava il main event di una delle due noti sarebbe stato Peggy contro YoSky per Storyline gli è andata male che hanno beccato l'unico anno dove c'era il doppio main event fondamentalmente quindi mi dispiace esatto diciamo che l'anno scorso un po' è una versione Proto che è un prototipo un po' del main event collegato secondo me andiamo Proto andiamo avanti andiamo avanti in quale edizione di Verstelmania di Undertaker disputò il suo primo main event 12 15 13 14 facilissimo la 28 e poi manco era il main event all'epoca ma Rupert chi ha pensato questa domanda tu o Rhapsody credo Rhapsody questa non ne avevo dubbio non ne avevo dubbio allora no allora parliamo di Taker è importante quando lì ci dobbiamo ricordare scusate questa è la domanda 4 su 6 sì sì ti ero avviato tecnicamente ora hai un aiuto per ogni domanda un aiuto per ogni domanda no hai un aiuto hai un aiuto e se arrivi all'ultima senza usare l'aiuto diventa 50 e 50 ah ok ok però senza usare oddio se tu hai un aiuto in tutto il coso in tutto il quiz se non usi l'aiuto nelle precedenti domande nell'ultima è il 50 e 50 ah ce n'ha uno solo sì uno in tutto è l'aiuto di uno di noi ah ok ok allora io sono abbastanza sicuro che il primo main event di Undertaker fu con Psycho Seed mi ricordo questa cosa però non mi ricordo ho ho una mezza idea però non so se giocarmi l'aiuto adesso se provare a rischiarmelo non portandolo avanti io intanto mi googlo la risposta perché non ammetto la miglioranza 12 dunque 13 sono abbastanza sicuro che non oddio se che forse potrebbe essere perché sto anche cercando di ricordarmi i match della showcase ad esempio del videogioco che è un po' vabbè è una strategia valida bravo conta che sono main event quindi andiamo sul sicuro mi gioco l'aiuto e chiedo l'aiuto del FIND visto che siamo a tema Undertaker mi sembra FIND devi farlo arrivare alla risposta non dirgli la risposta esatta quindi devi farlo non devi dirgli per dire è la D devi dirgli guarda è successo questo questo e questo è molto semplice è molto semplice gli do un aiuto che non è diretto ma secondo me lo può aiutare vediamo un po' vediamo un po' allora dai degli aiuti utili non come quelli di parruccia no 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 un aiuto utile un aiuto utile io credo che lui possa già in mente sua escludere qualcosa da questi posizionando tempo a livello temporale se è più vicino al 10 o più vicino al 20 quello di cui stiamo parlando quindi secondo me se io gli do un indizio del tipo che è un numero dispari potrebbe arrivarci io potrei fare una roba del genere quindi è un numero dispari sì più vicino al 10 ti ha dato due aiuti hai dato due aiuti belli grandi perché no l'aiuto è che è il numero dispari fermati 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 non direi altro no no l'aiuto è che hai dato due grandi aiuti ma ci pensi che prepari bellissimo no vabbè figuraccia dunque se dispari perché io avevo dubbio che potesse essere la 12 o la 13 sinceramente quindi se il film mi dice dispari accendiamo la 13 la c se alla pari esco dalla live la accendiamo? accendiamo sfidiamoci del film è giusto è la 13 è la 13 è l'ultima domanda quali di queste leggende non lottò a Wrestlemania 25 Jimmy Snooker Roddy Piper Ricky Steamboat Mick Foley oh mamma non lottò non lottò dunque Wrestlemania 25 cos'è il 2009 dovrebbe essere investimento 25 2009 c'è una c'è una risposta che mi tenta perché mi sa tantissimo di trabocchetto perché se non sbaglio nel 2008 dovrebbe essere la Royal Rambo dove poi torno Sina col 30 torno a Roddy Piper per un'apparizione e quindi questo non lottò questo Roddy Piper che se non sbaglio in quel periodo comunque qualcosa l'aveva fatto mi puzza di trabocchetto quindi mi tenterebbe quasi a di questa è di là questa domanda secondo me non ricordo non ricordo in chat non suggerite ragazzi non suggerite in chat sono felice che qualcuno di voi sta giocando con noi giocate anche voi senza però scrivere la risposta ho fatto il tifo insomma giocate anche voi dalla chat come direbbe Parrucco Abragas leggi bene la domanda non lottò bravo quindi non lottò mi fermo la risposta è nella domanda fuori se era già ritirato a rire della 25 mi ricordo solo il primo match tra Sheldon e Undertaker che nel main event era Tripoli c'era non sbaglio questi sono i due fatti che mi ricordo della 25 non è per mettere le pretta ma direi di avviare il timer un timer da un minuto ok ehi Siri un timer da un minuto e chiama Roman Reigns così da nulla comunque mi ha dato una risposta dai un minuto di tempo dai che è fattibile te lo dico persino io dopo aver letto la risposta no stiamo in silenzio lasciamo ragionare Dark stiamo un attimo in silenzio ci puoi arrivare se pensi a modo a questi quattro nomi collocandoli esattamente in quell'era cosa stavano facendo esatto temporalmente eh ci sto ci sto pensando ok forse uno lo è scuso perché forse uno mi sono ricordato che forse cosa aveva fatto 10 Dark 9 8 C non so andiamo sulla C C la accendiamo era Mick Foley era Mick Foley perché loro tre lottarono nel match di Jericho nell'anno che uscì il film del wrestler perché tre leggende che lottano devi pensare a un match cioè è difficile che tre vecchiotti occupino quindi ti devi ricordare l'endita però grande prestazione di Dark eh c'ho provato Brachias nemmeno in 10 vite la riesce a far questa prestazione no mai ascolta Brachias eh sì Brachias Dark Star dai 4 su 6 non mi posso lamentare hai fatto meglio di Brachias comunque ritieni di soddisfatto di questo hai fatto meglio di Brachias quali sarebbe stata l'ultima domanda eh guarda ti dico la verità me la tengo per un'altra volta visto che è difficilissimo farle crearle queste domande non è per cattiveria ma me la tengo per un'altra volta secondo me solo il dottor Greeter Power può vincere in quizia potrebbe darsi no perché è una memoria storica mostruosa il dottore oh sì il doc sì Dark ascolta ti saluto e ti ringrazio per essere stato qui con noi grazie a voi e buona Verstelmania notte 2 buona Verstelmania notte e forza Cody forza Roman bravo ciao Dark ciao Dark ciao Dark ciao Dark ciao ragazzi ma chi di voi segue Chronic Ace poi ad oio nessuno non ci interessa io sì qualcosa ho visto voi sapete chi è Giuseppe Pastore quello che si ricorda a memoria ci vorrebbe Pastore del Wrestling cioè uno che si ricorda tutto c'è qua il Fing c'è qua il Fing che può fare mazza allora vado subito veloce con un altro vecchiotto del canale non di età ma di presenza uno dei veramente storici storicissimo del canale signori e signori Paolo Cervai grande Paolo buonasera mi si sente? mi si sente benissimo allora io vi saluto un secondo e faccio però Paolo la solita domanda cosa ti è piaciuto di più dalla notte 1 insomma la tua sensazione sulla notte 1 arrivo subito allora la sensazione sulla notte 1 è super positiva perché a mio parere non hanno toppato i match principali e quella nella visione generale poi la rende anche positiva come edizione almeno nella notte 1 a mio parere lo sconto tra gli Usos era il quarto per importanza perché c'erano i due match titolati più il main event e chi più chi meno il match di Rea di Gunther e il main event a sentire le opinioni un po' vostre di Rashad in generale sono piaciuti tutti e tre e quello degli Usos sì penso anch'io che abbia deluso però io non avevo grossissime aspettative quindi mi aspettavo una vittoria di Jay ma non mi aspettavo un match capolavoro ma era una mia sensazione quindi capisco anche chi invece avesse grosse aspettative come possa essere rimasto deluso io personalmente no perché mi aspettavo una vittoria di Jay in un match un po' migliore però niente di non mi aspettavo un capolavoro ecco poi gli altri match erano match marginali il finale direi del match di Rey Misty ne avete già detto abbondantemente voi quante rotule dai a tutta la night one io ho dato quattro rotule se non sbaglio ieri sera poi erano cinque e mezzo forse mi sbaglio però mi sembra di aver dato quattro comunque è un bel voto sì sì no perché facciando un po' la media di quello che è successo anche il ladder match mi ha divertito poi quando c'è un ladder match da più uomini di solito quelli sono difficili che escano male come match io raramente ricordo un money in the bank ora in quel caso era coppia però un money in the bank comunque un ladder match con sei otto uomini che si è venuto fuori male c'è sempre due o tre manovre spettacolari quindi quello ha aiutato molto oltre ai restanti match quindi per me la valutazione è super positiva diciamo che è difficile che escamare un match con Gargano protagonista ecco Paolo match tolto il main event anche per te che secondo te può rubare la scena di stanotte tolto il main event tolto il main event si va su chiaramente stasera a mio parere insieme al main event ci sono quello di Bailey quello di Seth Rollins principalmente quindi perché quello degli Stati Uniti può venire fuori bene però è un triple threat dipende molto è anche difficile da fare non è il match principale della card quindi bisogna vedere anche la partecipazione del pubblico per me nella riuscita di un match è importante anche quanto partecipa il pubblico presente nell'arena perché rende tutto anche se un match magari è meno bello però il pubblico partecipa magari te lo fa piacere anche di più a questo punto direi il match di Bailey con YoSky è un match che credo che possa piacere al pubblico poi dipende anche dalla collocazione magari il pubblico è stanco perché è stato tre ore a urlare magari è un pochino meno se invece lo fanno nell'opener magari il pubblico è più freschissimo e quindi partecipa molto di più però mi verrebbe da dire che ci avrei anche piacere il match di Bailey che la storia l'abbiamo detto tutte le volte è bella è lineare è duratura quindi ha tutti gli ingredienti per avere un finale come tutti vorrebbero immagino nell'arena come vogliamo noi che ci sia un finale felice ecco io penso ci possa essere io penso le stesse cose che ha detto Darstark prima la presenza di Punk questo possibile Damien Priest quindi senza stare a ripetermi le cose che ha detto Darstark quelle che pensavo anch'io quindi penso possa esserci anche oltre all'atmosfera secondo me del match di Seth con Drew che secondo me sarà caldissimo fra cantare di theme song e robe varie credo ci possa essere un grandissimo tipo anche per Bailey stasera secondo me sì sì Bailey per me anche per me Bailey sarà iper tifat penso di sì vi faccio questa vi faccio questa domanda qui non so se l'avete già risposto oppure no scusatemi nel caso mi sono dovuto assentare un attimo Bailey entra con i pupazzi o no? no secondo me non stasera penso anche no Rapsul no 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 ingegnere Brachias spero di no mi fanno un po' schifo pazzi io penso che è una cosa che potrebbe riaccadere ma non stasera io vado controcorrente e dico di sì magari anche solo tipo come fece Drew McIntyre che all'inizio con la sua vecchia Clash of the Castle tipo che all'inizio con la sua vecchia e poi con quella nuova magari una roba così se la sono sincero cioè One Night Only secondo me potrebbe essere anche Bailey sì sì no 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 anche una sola notte sì 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 cioè potrebbe anche starci a Brass e Man una cosa del genere magari che si ripresenta anche con la coda laterale infatti secondo me si sta facendo crescere tanti i capelli anche per questa cosa qui potrebbe aver senso però i pupazzi secondo me è una roba tipo One Night Only io ci vedo un po' quando lei li tagliò un po' come quando Wyatt tagliò la vecchia figura di se stesso nella fan house come dire questo basta come un capitolo chiuso che però puoi rispolverare a seconda del momento sì sì no no sono sono d'accordissimo con con te però una cosa nuova così diciamo la anche solo per una notte la farei allora faccio partire intanto le bet dai dai sul le indovinerà tutte sì o no vi do solo un minuto però sto giro chat quindi affrettatevi a votare che se no arriviamo arriviamo veramente lunghi sei in ansia per questo Paolo che mi avevi detto che non eri al meglio ed eri un po' in ansia ah sì no però per fortuna in questi giorni ma se Dio vuole anche dopo dopo quasi due settimane sto discretamente quindi ti sento la voce molto meglio cioè c'è avuto un periodo daccio c'è avuto ho avuto quattro giorni di mal di gola fortissimo senza neanche inghiottire la roba da mangiare ricordo un chat che scrivevi è stata pesante finito il mal di gola ho iniziato mi si è tappato il naso dal raffreddore ma proprio ma è fortuna non l'ho avuto insieme e poi nel frattempo ho sempre avuto la febbre ma è anche un po' colpa mia che in questo periodo c'è il primo caldo dopo mesi di freddo tempo che frega un classico tempo che frega vediamo se la vipera si prenderà il titolo vediamo allora chi scegli intanto come presentatore me o Rhapsody ma non voglio fare un torta a nessuno sicché mantengo l'ordine alternato che c'è stato quindi tocca a Rhapsody ora e allora ti metto qui buon Rhapsody guarda eccolo qua un aziendalista vero insomma un aziendalista vero quale gruppone vuoi A, B, D o F facciamo A A A di Paolo vai A di Paolo è finito il tempo del sondaggio scusatemi delle scommesse Brachias credo di sì credo di sì che detto tempo scommesso è finito sì 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 ok poi aspettate dobbiamo ringraziare Filippo Milan 19 che ha rinnovato l'abbonamento grande grazie mille per il rinnovo allora si parte con la prima vai vai aspetta che c'è il messaggio dell'abbonato vai pure Brachias ciao ragazzi bello presto almeno a ieri però secondo me con la vittoria di Rocco e Roma nel benevento di stanotte sarà un po' scontato non vedo come Cody possa affrontare l'intera bloodline vediamo Filippo vediamo può succedere di tutto esatto vai pure Rhapsody quale fu il main event di WrestleMania 38 notte 2 A Roman Brock B Roman Brian H C Owen Steve Austin D Roman Seth eh non me lo ricordo allora un attimo perché io a volte mi impappino dove è più facile non è non è nessuna delle ultime due eh perché Roman Seth non c'è mai stato Gwen Secondo Austin era nella notte 1 allora ripenso un attimo all'anno non suggerite in chat chat mi raccomando non suggerite eh oddio eh non devo sbagliare adesso non devo confondere no no senza ansia senza ansia no no certo ti ricordo che hai un aiuto sempre nel frattempo che pensi Vande Rosorio 91 ha rinnovato l'abbonamento grande Vande grazie 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 mille caro allora 38 notte 2 è no era la 37 quell'altro è 38 notte 2 è Roman contro Brock è la tua risposta definitiva? sì la accendiamo? sì ma no dai 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 la prima andata bravissima vai quale leggenda è famosa per la sua streak a Vestelmania? Triple H faccio una premessa faccio una premessa non è la streak di Asuka che è 0-7 ok non è neanche quella di Sasha Banks che ha rotto soltanto l'ultima volta esatto ma a me stai da mandare una maniera a me eh no queste sono facili eh ok ma quanti peli della barba ha Triple H tipo queste cose quella lo so difficoltà che va a salire la terza domanda sarà a che ore sono e andiamo col Finom e andiamo col Finom eccola eh e andiamo di tercera quale fu l'opener l'opener di Vestelmania 36 night one eh ora si inizia a dover ragionare ora si inizia a dover ragionare Ria contro Charlotte Flair Bayley Sasha Naomi Tamina Lacey Evans quindi un five women Nicky Cross contro Kabuki Warriors parliamo di opener ah quindi di 36 quella è la notte 1 quindi si sta parlando proprio del primo match non so non gli aiuti FIND no contestualizzato solo la notte 1 dovrebbe essere bene 36 in un gremito performance center raggiungerei calmi facciamo non date aiuti eh non date aiuti dai questa è easy dai allora non è eh sto contro Bayley contro non era l'opener Becky contro la China credo non ci siano neanche mai affrontate a presto almeno no sicuramente non si sono affrontate ah ehm vorrebbe essere B Maria contro Charlotte l'accendi è la tua risposta definitiva ehm sì la accendiamo sì parrucco parrucco fa finta che chiede chi è il conduttore poi fai lui ah scusami 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 mi viene no è scherzo scusa no eh no allora ci avevo preso ai 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 erano tutti i match che facevano parte di quell'edizione ah Becky Becky tra China l'avevo proprio perso sì vince la c'è per China che gli staccò l'orecchio tipo in una puntata una cosa del genere comunque si fu comunque alla quarta dai dignitoso dignitoso dai mai come come Ciro sì è stato ormai fra il 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 benchmark ormai Ciro cioè Ciro però voglio citarti voglio citarti salvato parrucco ti ho salvato ma Rea contro Charlotte era all'opera 2 no no ma ho fatto anche RSM36 per il titolo di NXT però sì ma erano 8 e 2 sì sì erano 8 e 2 sempre opener sì sì sempre opener ecco mi sono sbagliato lì allora il mirordavo era l'inizio infatti allora niente ho usato vabbè Paolo peccato peccato Paolo ascolta ti ti ringrazio per per essere stato qui con noi e buona buona Wrestlemania notte 2 amico buona anche a voi tanto ci sentiamo rimango con in chat sempre un piacere Paolo un salutore grazie Paolo ciao ciao Paolo ciao caro buon notte ciao e ora penultimo dei ragazzi che è venuto qui a a farsi torturare da noi aziendalisti è un grande JPL esatto è un grandissimo fratello per me perché è un grandissimo giuventino oh ma te li sei scelti tutti i giuventini mamma è anche membro è anche membro del team ASMR signori e signori Lulupo grande Lulupo ciao ragazzi ciao a tutti buonasera un saluto con il nickname Lulupo quindi Lulupo è Tifi Juve dovresti essere Zebra Zebra ma sempre messi la domanda ma sei per casa abruzzese no non ti senti più non ti senti più non ti senti più no no che da noi si di Lulupo si dice Lulupo vai vai ora ci senti ora ci senti no no ho detto io sono piemontese mio papà c'è metà Veneto e il nome arriva dal Veneto quindi ah ok proprio semplicemente perché il dialetto è Lulupo da noi ci è andato vicino ah no 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 perché sono le montagne quindi no per il nick per il nick raga allora Lulupo tu opinioni su Notte 1 no Notte 1 mi è piaciuta parecchio mi è piaciuta tanto soprattutto quattro cose vero che Rea Ripi ha tenuto il titolo la vittoria di Sami Zayn perché è stato costruito molto bene il match a mio avviso e finalmente Gunter può andare verso i titoli mondiali secondo me sarebbe lui che meriterebbe di detronizzare Roman e la quarta che comunque The Rock è tornato bene non è tornato solo per fare le classiche marchette diciamo ma c'è anche a livello fisico si è messo a posto quindi sono contento di quello beh è riuscito a combattere bene e altro sì diciamo che mi ha impressionato a me ma più che altro la cosa già del fisico è proprio sembrava che ogni giorno è tornato come vent'anni fa con quella voglia lì con tutto quindi sì sì ma poi proprio come interagiva è impressionante cioè pareva veramente che non abbia mai lasciato wrestling sì si vede che diventa un altro livello proprio con quella gente che c'è poco da fare cioè ma sì per me The Rock ha dimostrato ha dimostrato anche solo ieri notte che se lui è il numero uno c'è un motivo cioè sì esatto ma pure ragazzi per dire una cosa cioè il tempismo della cinghiata non è tanto facile cioè no è raggi perché bisogna una cosa flessibile ma non farsi inquadrare al momento sbagliato in generale nel match cioè ha fatto una serie di cose che non sono scontate calcolando e comunque il wrestling è una roba che si fa ogni settimana ogni giorno qualcuno lo fa da dieci anni eppure cioè ha veramente un tutorial su come sia carisma cioè impressionante una cosa devastante e poi quello che ha ha aiutato a tirare su la serata dico anche lo sbrocco che ha fatto parluco nel match dei dei latini con gli è stata tanta roba bello bello mi è venuto dal cuore forse non avevi parlato per due o tre minuti forse è restato due o tre minuti c'è stato questo sbrocco che ha illunto no è che ho avuto un po' di problemi con la linea e tutto andava e veniva quindi ero ero già arrabbiato per questa cosa qui che il ladder match praticamente e in più lì stavo stavo uscendo dei problemi di linea e tutto a un certo punto vedo sta cavolata qui e mi è venuto proprio ma poi è bellissimo ma poi l'ha detto tranquillo in realtà se provate a dare forse da solo in cameretta così mi è venuto ha tirato fuori l'emigliano che è in sé dai salutate Rhapsody è stato bello bello stasera ciao Rhapsody perfetto ok è romagnolo come usate è romagnolo ma poi mi fa ride perché uno dice ma sei emigliano no sono romagnolo vabbè tu sei laziale beh tecnicamente io sono laziale perché sono nato nel Lazio quindi tu sei tifoso della Roma ti dico sei un tifoso laziale non è la stessa cosa è come se è la stessa cosa grande seto grande combattiamo contro gli emigliani si scherza se mi dici sei laziale inteso sei nato nel Lazio rispondo beh sì cioè l'atium cioè cioè l'Emilia Romagna ancora non era stata scoperta qua già c'era il Colosseo cioè purtroppo quattro c'è uno sopra l'altro in cerchio wow Lulufo dimmi qual è il match che ti aspetti come show stealer a parte il main event allora secondo me a livello di lottati io sono un fan di Kevin Owens e quindi il triple treat secondo me potrebbe regalare emozioni con Logan Paul anche qualcosa di bello esce però mi accodo anche ai ragazzi che ho parlato prima spero nella vittoria di Bailey e lì secondo me uscirà un bel match perché Bailey a mio avviso come non tanti atleti nel main roster che magari uno può essere The Miz e una dove la metti qualsiasi cosa ti fai fare lo fa bene sia che sia nel parlato match titolati match per far crescere qualcun altro comici o altro quindi fa tutto bene quindi ce lo merita ce lo merita sono d'accordo è la più versabile Pamelona ma secondo me guarda grossa provolazione cosa che secondo me chi lince invece non riesce a fare non riesce a fare tra tutte le tra tutte le forors women secondo me la più versata in assoluto sempre detto io che in tempi non sospetti salvo Beggy salvo Beggy è l'unica che ha cambiato personaggio negli anni paradossalmente molto più di Beggy se in me delle quattro è la più completa poi sono gusti personali sono gusti personali questa Jade Cargill non vi fa paura che possa subito interromperlo così nel caso vincesse Beggy un po' come come fece ma secondo me mandano magari prima Bianca contro ancora basta Bianca basta un match inedito beh Bianca Belair contro Bailey è un match inedito comunque ma che cavolo dici che ci sono contati due anni ci sono contati di tutte le salse nel ladder match orrendo nel last woman standing ultra orrendo gli scleri di parrucco fantastici parrucco parrucco c'è avuto le zone le treccine che gli hanno stretto il sangue al cervello ogni tanto gli riesce per quello gli esalti stasera no è che c'è carry on cross stasera c'è carry on cross io sono in agitazione per carry on cross che può vincere a Vresta e il media carri on cross stasera può essere uno di pochi aver vinto un match cioè nel senso avere il blasone di dire io a Vresta e il media ho vinto sono imbattuto no imbattuto non importa ma lui ha vinto un match a Vresta e il media cioè è una cosa che non lo può dire c'è chi non lo può dire c'è chi non lo può dire è vero ma l'Uruvo altra domanda ma a te ti piacevano le treccine di parrucco mamma mia ma sei sincero non essere cortese se non ti piacciono dirlo eh ma sinceramente non ce l'ho neanche fatto tanto caso no beh meglio ancora a lui ci ha mandato la foto guarda bravo bravo fai gliela vedere un po' cioè ma le avevi solo quelle davanti o le avevi in tutta la testa tutte in tutta la testa erano di bello è vero che non ci ha fatto tanto sì sì cioè ci ha sprecato pure tempo capito esatto se aveva due teste se la faceva tutte e due le teste aspetta che aspetta che ti ingrandisco vai ragazzi ciao vai quella di vai con la mia foto guarda come ci tiene a farsi vedere è una roba clamorosa sto parrucco è un pavo parrucco allora no abbi pazienza no mamma mia ma che sei Travis Scott mamma no è tipo Lil Wayne ma io l'ho visto malissimo Lil Wayne ieri stava concordo mi hanno detto che ero mi hanno detto che ero il Gali della Romagna ma pensati uguale uguale ma davvero non sapete chi è Lil Wayne no no e Simon le chiedo scusa ma dobbiamo stringere andiamo avanti stringiamo che Simon va per le tangenti esatto per le superstrade autostrade allora le best non in quel senso lo sapevo vedi 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 come vedi come capiscono vedi vedi si guarda come capiscono guarda come capiscono vedi vedi vabbè Ciro ma te hai perso la prima non fai testo andiamo avanti andiamo andiamo allora Lulupo ti vuoi come conduttore parrucco dai vai vai tu eee Team ASMR andiamo BDF sembra una fila la D di Del Piero vai la D di Alex grande Alex mamma mia mamma mia io comunque sono ai livelli di Ciro la sua la sapevo ma sono a quei livelli lì quindi preparatevi il terzo giocatore italiano del Ciro però su tutte allora quali chi tra questi vinse il main event di Restylmania 37 notte 2 beh questo penso sia Roman B Roman Edge e Bryan Roman B qui vado quasi sul sicuro la accendiamo? si è la prima andata dai veloce veloce dalla 30 in poi dalla 30 in poi è presente solo Roman la risposta quindi chi furono le due superstar ad affrontarsi per il titolo WWE a Restylmania Seth contro Lesnar Kofi contro Bryan AJ Style contro Nakamura e Drew contro Lesnar Restylmania 35 35 35 qua mi viene un flash che mi è venuto subito che era il periodo della Kofi Media però non sono sicuro quindi mi gioco l'aiuto giochi subito l'aiuto così? da parte di sì almeno vado a due non sono l'ultimo uscire vai due aiuto 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 di chi vuoi l'aiuto? FIND FIND io? sì il tuo aiuto ok allora facciamo una cosa perché poi non bisogna essere troppo espliciti potrei fare la stessa cosa tipo di prima del come si dice posso dare una mano? no? no forse ha chiesto il FIND ha chiesto il FIND 50% più semplice secondo me aspetta 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 facciamo così facciamo così no ma c'è difficoltà clamorosa no una cosa clamorosa stavo pensando a darti l'indizio non è semplice questa questa non è semplice io avrei un indizio semplice posso? aspetta un attimo no è un indizio non troppo non troppo pesante ma comunque che ti devo dire? no beh allora chi ha vinto questo incontro è diventato per la prima volta campione del mondo e allora è come dicevo io la coffee mania la B la tua risposta è definitiva? sì accendiamo? vai è corretto perché 7 Lesnar era per il titolo universale no però c'era anche Drew Lesnar che Drew McIntyre è diventato campione per la prima volta sì ma l'anno dopo sì ma 36 chi vinse il main event di Wrestlemania 2000 The Rock, Mick Foley, Big Show o Triple H? Burka 2000 avevo 18 anni quindi non lo so la Big Show non so neanche se abbiamo mai fatto un main event di Wrestlemania io andrei su eh ci puoi ragionare se seguivi da B ci puoi arrivare quale fu il main event eh quei periodi l'avevo persa di vista quei periodi lì quindi devo proprio dare caso direi giustamente questo è la Wrestlemania 2000 sono 24 anni fa quindi era Wrestlemania 16 Mick Foley Mick Foley è la tua risposta definitiva? sì la accendiamo? accendiamo era il triplo la paella di McMahon era la paella di McMahon era un Fatal 4 erano tutte e quattro protagonisti facevano tutte il Fatal 4 con qualche personaggio suo strano Mankind o qualcos'altro c'era Mick Foley c'era diciamo che non è uno dei main event più ricordati eh a tua a tua discolpa Lulupone no ma poi avevo perso il wrestling in quei periodi lì quegli anni lì ma guarda ti capisco io all'epoca avevo un anno quindi non era facile esatto Lulupo ti ringrazio per essere stato qui qui con noi amico grazie a voi ci vediamo a Bologna ci vediamo a Bologna a Bologna a fine forza Juve del Piero che ha valutato buonanotte salutone ciao buonanotte ragazzi ciao Lulupo ciao 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 non è vero che esulto quando sbagliano le risposte no fatti a vedere la clip di questa domanda poi non lo dici è vero stavo provando a riprendere sì sì no era il film il film il film è vero però il film ha provato dolore non ha detto mi forno no è dispiaciuto il parrucchio esploso in un'esultanza ho detto no era era tu per fare no cosa stai facendo vabbè e chiamiamo l'ultimo abbonato chiamiamo l'ultimo abbonato non è di quelli storici è uno dei nuovi arrivati nella famiglia bardica sdendalistica è un immenso piacere presentare il buon Vincenzo grande Vincenzo ciao raga grande Vincenzo benvenuto buonasera allora visto che avete avuto tutti ospiti Juventini mi sentite sì sì Dark è milanista in realtà ho fatto una gag io gli altri ti faccio vedere questo qui abbiamo l'Inter qui abbiamo l'Inter c'è uno che ti fa per la squadra della propria città in questa community io so di Voggia che devo di fare Voggia sì cioè è più vicina di Milano se permetti eh lo so lo so no no ma guarda c'è una mia amica che è provincia di Brindisi pure lei interista spiegatata la prima categoria ed in cieco ti supporta grande allora Vincenzo intanto J. Devil ha rinnovato l'abbonamento per il sedicesimo mese grande J. Devil quale è il migliore grazie mille J. Devil Mc Donald eh sì saliamo a 62 intanto su 100 dai dai Vincenzo tu opinione su notte 1 eh tu opinione su notte 1 è stato come facciamo lì in salita cioè match un po noigiosi opinione personale vai 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 sei liberissimo vuol dire quello che vuoi all'inizio un po noigiosetti poi vabbè gli ultimi due gli ultimi tre forse anche l'opener noigiosetto anche anche l'opener noigiosetto aspetta qual è la l'opener Ria per me sì ragazzi per me sì è ladder perché per me Ria sta qua Begis sta qua non sei l'unico a pensare in questa è ladder e ladder mi sono divertito mi sono molto divertito voglio vedere però ieri ne parlavamo non c'era stato ancora un match che ci ha dato quella scintilla che è arrivata secondo me al match titolo intercontinentale ragazzi sicuramente per me è arrivato l'amore titolo intercontinentale più il match più brutto per me è stato quello dei messicani per me è stato quello perché la fine è stata la fine è stata una cafonata pazzesca come diceva Fantozzi per me la cafonata pazzesca non era Fantozzi cioè Fantozzi diceva un'altra cosa riguardo alla corrazzata Podionkin era una cafonata e cosa è Cristian De Sica la cafonata no le ho unite una cafonata pazzesca ho fatto una grazia 92 minuti di applausi sì ma poi c'è per me la cosa la scena per me la cosa più brutta di ieri è stato tanto che se non ci fosse stato scritto Wrestlemania non ti saresti accorto che era Wrestlemania cioè pubblico zitto scenografia zero questo lo non so forse lo l'ho visto solo io non lo so no beh allora è un gusto cioè a chi piacciono magari gli stage come quello dell'anno scorso era bellissimo no però sai a me questa cosa è più minimale è un po' una direzione ne parlavo pure con i ragazzi in privato è una direzione c'hanno pure tanti concerti tante cose no che è molto più ridotto rispetto a prima al palco magari parlasse di pubblico però Simo no no anche di stage però il pubblico sì io ho sentito poco audio perché se no abbiamo il il ritorno che si tratevo nella live però ho letto parecchio questa cosa del pubblico quindi immagino che sia vero secondo me è stata controproducente farla all'aperta a Philadelphia cioè finché lo fai a Los Angeles e sti posti qua va bene io ho letto anche in pagine americane che scrivano worst crowd ever cioè peggior pubblico diciamo che gli stati disperdono pure molto eh uno stadio all'aperto chiaramente il suono va verso l'alto rispetto a un palazzetto che sta al chiuso e rimbomba sì non c'è rimbombo poi vabbè diciamo che parla a Philadelphia che fanno sette gradi è un po' un'idea ma quello è il problema non l'ha chiuso e Vincenzo invece il tuo il tuo momento il match che attendi di più per questa sera qual è? beh tranne il main event vabbè Seth Rollins contro Drew sono sono un po' affezionato diciamo alla storia di Drew cioè la la trasmetto anche diciamo nella vita reale non so se mi spiego che poi è questo il wrestling alla fine è questo ah certo morali non morali eccetera ma dici quale storia dici l'idea di vincere un titolo davanti a nessuno cioè raggiungere un obiettivo ma meno mato oppure c'è la cosa di fallire ricostruirsi e andare avanti la seconda questa seconda sì sì beh è mirabile perché tanti wrestling magari escono dalla WWE e no perché questo quello su giù lui ha detto no no io si partitele scommessi intanto per il quiz di dopo è mirabile ecco ragazzi votate no perché votate no ma no votate dicevi allora scusami su due set sì no attendo questo match perché perché gli altri che match stanno allora c'è questo c'è Bailey eh vabbè questo qua è orribile secondo me questo che per me l'avete citato in pochi ma questo qui per me potrebbe essere la gran sorpresa soprattutto perché sono in tre e non ci sono squalifiche quindi si possono inventare oh io ci ho buttato il tour nei pronostici su questo oh ma parlavo degli abbonati che sono che sono venuti la butto la butto così la prime sarà un oggetto decisivo ai fini del match una bottiglietta di prime ma no ti giuro per favore Vincenzo ti fidi ti fidi del ninja come direbbe la Ingolán ti fidi del ninja l'ho pensato anch'io perché è così ormai che va vabbè ma non la voglio vedere sta cosa no lo so lo so ma i soldi i soldi non fanno schifo purtroppo cioè è il motivo che qui loro sono miliardari e noi non ci abbiamo una lira infatti ci abbiamo gli euro esatto se io ho iniziato a vedere fuori parrucco chi ha i poteri non lo faccia vai vai ho iniziato a vedere in wrestling quando a smackdown c'era il pugno come sfondo e c'è per me il ricordo di quando non c'era il dressing era quello adesso vedere il ring con sotto la pubblicità vabbè è avuto l'olio secondo me vabbè ci sta ci sta e a gusto per me abitudine poi non era il solido logo della prime che è coloratissima era comunque molto in trasparenza quindi a me non mi è caduto l'occhio per esempio troppo no a me non sul logo che stava nel ring è l'idea no sotto al ring come si chiamano parla delle bottiglie a bordo ring no neanche no alle proprie led che all'epoca ok no no però vabbè uno si deve pure sai che non siamo abituati i macman su queste cose non era molto però sai comunque se non guardano gli sport a combattimento cioè io guardo la UFC ci hanno pure sul bordo dell'ottagono alto i sponsor cioè capito è questione di abitudine noi guardiamo i partiti del calcio ci sono un miliardo di sponsor cioè no per esempio oggi ho visto la formula 1 cioè sulla macchina praticamente è piena di pubblicità quindi esatto vero anche questi ma bella perché giustamente sono cioè sono soldi che sono importanti questi eh poi se sono seguo l'NBA sa che c'è una pubblicità ogni 5-10 minuti ma no basta guardarla cioè non so se tu vedi le dirette oppure vedi ne so il voto della diretta prima che esca la puntata tagliata cioè tu facci caso quante volte ti scompare e ti scompare sì il bello della DAW l'immagine di discovery cioè raga questi sono gli americani sono imbottiti di pubblicità in Italia credo che sia addirittura regolamentata la pubblicità quanto ce ne deve essere negli Stati Uniti no no esatto allora Vincenzo ti lascio scegliere perché ne abbiamo fatto abbiamo fatto uno slot in più proprio per farti scegliere anche qualcosa intanto ti chiedo quale conduttore vuoi io o Rapsody qual era l'ordine che abbiamo fatto prima toccherebbe Rapsody posso farlo io Rapsody sei simpatico sì simon vai mi chiede la Rapsody Rapsody sei d'accordo vai 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 come no come dai dai ci sono ok allora Vincenzo F o B dato che mi piace la F non la F la F come lettera non la Formula 1 la Formula 1 ho fatto una gaffa allora andiamo con la F vabbè c'è un tutto tuo vai per la domanda del primo step quale coppia di amici uscì trionfante ha reso il meno 20 Angle ed Edge B Ray Guerrero C Benoit e Guerrero D Edge e Christian questa mia 20 anni 2004 si ma 4 eh ma la parla tanto eh a 2004 c'erro 7 anni tipo 6 anni eh abbiamo parlato tanto non suggerite in chat no calma calma c'ho il kick-off di resta il mania sul televisione no ma è un discorso in generale purtroppo sì 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 eh madonna lo vedete che devo uscire la prima domanda come Ciro oh ragionaci beh amici quella che mi ricordo io amici vabbè Edge e Christian hanno fatto la coppia il re e il guerrero erano amici si ne parlava in questi giorni eh vuoi un aiuto eh io se parlo l'aiuto cioè dall'aiuto devo usare vabbè usiamo l'aiuto dai chi vuoi che trovi via eh chi la sa dai fint vai vai fint la scena finale fu un abbraccio tra due wrestler che avevano vinto i loro rispettivi match non è una domanda su una coppia diciamo stabile non è un tag team ma erano due wrestler che avevano entrambi compiuto le imprese esatto beh qua l'unico team serio che vedo è già Christian no non ha detto team vero ha detto una coppia non parliamo di un tag team ognuno il suo Vince ognuno il suo match ah io ti dico Chris Benoit è di Guerrero sei sicuro? l'accendiamo? sì e la risposta è giusta pa 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 dove sta Gerry Scotti? scusate chi era campione di WWE a WrestleMania 28 A Chris Jericho B CM Punk C The Rock D John Cena che anno era? scusate raga WrestleMania 28 questo anno è 40 40 2012 2012 quindi 2012 si è un punk potrebbe pure essere si è un punk The Rock lo escludo The Rock lo escludo Jericho pure lo scuderei 2012 era il periodo di John Cena pure vince abbandonati al tuo destino che incombe incombe quindi vuol dire che sto andando lontano da quello se lascia da te sempre aiuti eh lo so vabbè dai dico John Cena dai la accendiamo ma sì dai è sicuro sicuro l'importante è partecipare mi piace il tuo approccio ma la risposta è sbagliata il campione era la CM Punk che sfidò il campione era CM Punk ti si è abbandonato eh vabbè dai ai 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 niente nessuno di voi ce l'ha fatta nessuno di voi abbonati purtroppo ce l'ha fatta ascolta Ciro Ciro scusami Vincenzo mamma mia che brutta persona che c'è adesso a schermo mamma mia io ah pensavo io no c'è c'è lì il coso come si chiama eh ah che ne ho ah l'amico tuo mamma mia ma che ci pari non devi neanche combattere stasera vabbè con la maglia da ACW ragazzi ma che cazzo che non esatto la ACW beh basta dire che sappiamo noi fa ridere fare uscire eh ragazzi buon divertimento a tutti Vincenzo grazie 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 che sei passato qui e buona Vrestelmenia amico grande Vincenzo un saluto grazie vi ringrazio grazie a voi mi sono mi ha passato oh davvero grazie Vincenzo grazie mille siamo contentissimi di questo vale più di grazie mille cose guarda grazie mille saluto anche la ciao ragazzi che mi sono perso di Vincenzo scusa no ha detto che siamo il motivo per cui si è riappassionato la Tabitha Pi no grazie mille no scusa mi ero un attimo perso mi ero un attimo laggato grande Vincenzo a me queste cose posso posso essere sincero e stare un attimo mi fanno veramente non dico saldare rende conto che non lo è allora ragazzi io ne avrei ancora una volete azzardare voi si dai 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 provo io ok la squadra fin de abracchia se noi la sappiamo esatto io te la sappiamo quindi oh mamma questa è una tragedia allora siamo io bra e Simon bra se non ti esprimere perché insomma tu ha preso ragazzi Criso è entrato e già già il cuscino accanto grande Criso Criso partecipa fai il quarto lo voglio allora aspetta un minuto chat le indovineranno tutte un minuto per il sondaggio vai dai 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 facciamo una testa aspetta che finissi il sondaggio visto che non ho mai fatto visto che non so mai cambiare su un quiz no no una testa è una condizione dai voglio vedere quando esco no lo fai tutti assieme con gli altri dai così posso citare insieme risposta un grande calciatore posso citare il più grande calciatore italiano ho paura concedetemi dire che ho paura Del Piero non lo disse Del Piero non è il più grande calciatore non è neanche il top ten non è neanche il togliete marrucco vabbè il mio essere giuventino deve venire fuori dai allora dai mancano pochi secondi su scommettete i vostri ultimi punti canale dai 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 ok altrimenti viene un po' per il parrucco ASMR magari ma qui stanno non solo perché ci sono io esatto dai ragazzi let's go dai 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 consultiamoci eh la B di Bfeb vai bra vai inizia tu inizia io quale fu il primo Sina contro Diori Sina contro Diori non ti ha fatto manco legge va bene va bene a rischio l'oro a rischio l'oro no vabbè finché non si conferma Simon Post vai Rhapsody chi era nel due avversari di Gunther nella scorsa Vrestelmenia vai Sina Sina contro mandata quante volte si sono affrontati Romano e Brocca a Vrestelmenia 4 5 3 2 allora 31 no dovrebbe essere 2 no 31 34 la 38 se la mente non mi inganna sì se non ci sono la 38 l'abbiamo detta prima scusa prima è la 31 per forza 32 è Romano contro Tripoli quindi no 33 il mini event è Romano contro Undertaker quindi no 34 quindi sono due è la 35 Romano affronta Drew McIntyre la 36 Romano non la fa la 37 affronta Daniel Bryan Edge a 38 quindi sono tre sì dai 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 tre via andiamo mamma mia disumano Simon bravo Simo queste erano facili quanti match disputo dei Mitz Vrestelmenia 39 quindi parliamo dell'anno scorso 1 0 un ponte wikipedia per tutte le domande che abbiamo fatto ragionateci bene vabbè pensiamoci un attimino allora allora io mi ricordo si infortunò no era no non era di Mitz a caso mai era Shane era Shane allora 2 e Snoop Dogg gli ammollò un pugno per sdraiarlo però io non mi ricordo se poi con Pat McAfee ha fatto un match la sera prima non suggerite chat no io non ho la chat a schermo perché io mi ricordo che lui eh però un attimo aspetta aspetta secondo me si rischia di arrivare a 3 allora Pat McAfee night 1 sì io se è per me dico 3 perché nella notte 1 ha fatto una fia e il terzo ne fece uno dopo l'altro no nella notte 2 sì ma mi viene il dubbio uno è partito di match magari era ora partito secondo me sì ma soprattutto Snoop Dogg l'ha schienato cioè ha fatto un match effettivamente Snoop Dogg gli fa la manovra più legnosa di sempre eh ma lo schiena tipo dopo lo schiena lo schiena lo schiena no mi sa di no chiediamo un'aiuto chiediamo un'aiuto regalo no 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 Snoop Dogg lo schiena sicuro Snoop Dogg lo schiena è 1 poi poi c'era Pat McAfee e quelli su 2 e 2 e il terzo chi è ammesso era schiena perché si rompe tutto era schiena che si infortuna tutto nel match nemmeno parte no no come non poi quello dovete decidere come non poi ragazzi facciamo a maggioranza vogliamo vedere io dico 3 io dico 3 io mi accudo mi fido di voi mi fido di voi accendete raga se sono 2 io mi mangio il computer accendete la 3 io dico la 3 io dico la 3 accendo dai 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 vabbè io non mi ricordo cioè oltre al titolo intercontinentale quale altro titolo aveva Cortengola Vrestelmania 2000 europeo Stati Uniti hardcore o WWE allora io mi ricordo quello fu un triple threat con Chris Gergert tipo Chris Benoit mi sa e c'era l'europeo che era unificato mi sa quello perché lui era doppio campione vabbè WWE no perché non c'era all'epoca la distinzione di roster e nel main event mi pare Triple H fu campione era campione Stati Uniti non credo che esistesse ma io secondo me europeo perché non mi ricordo l'arco sul di lui almeno eh mi viene a dire europeo perché lo Stati Uniti secondo me è stato introdotto dopo anzi no sono sicuro perché il titolo il titolo europeo facciamo un percorso il titolo europeo è stato fuso dentro un'altra cintura che è l'intercontinentale intercontinentale e allora io andrei con quello sì ma perché l'arco mi pare strano Cartengol con l'arco avete un aiuto ancora vi ricordo non ci interessa no no siamo sicuri siamo sicuri regà che non sono nella B e nella D perché cioè quelle sarebbero state storiche comunque no 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 Stati Uniti sì hardcore però mi pare strano capito che nel 2000 nel 2000 non lo so io secondo me l'europeo anche io dicetto dire europeo però secondo me qualche rischio qui si corre io dico europeo anche io sì sì andiamo dai prendiamoci sto rischio non furono non furono unificati ma furono due match distinti due triple tre diversi dai 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 è una pronta così quale fu il primo match nella storia di Versternese qui ci vuole un anziano Paul Ordo contro The Magnificent Murraco Randy Savage George Steele Ricky Stimbo Hercules Hernandez questo è l'ultima Dito Santana è l'ultima allora fermi aiuto aiuto l'aiuto sì l'aiuto sì lo prendiamo 50 e 50 all'ultima l'ultima è 50 e 50 sì aspetta che però vado a vedere che non me la ricordo ma è il peggiore però io mi ricordo che era un match improponibile io ne ho mezza idea ce l'avrei quindi ora vediamo sul 50 e 50 se va a via adesso vi dico cosa va via allora perché non mi fa vedere la card se poi la guardo io no non sarebbe il caso parlo questa è una domanda di un'infamia fra te che cioè ti dico eh vabbè il primo match ci si può arrivare ci si può arrivare allora parlo posso andare? vai 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 allora vi lascio vi lascio vi lascio la A e la D ok ok per me è la D allora io nell'impatto della domanda avrei detto la A e sembra che rimanga però Tito Santana contro l'executioner Polonov contro Muraco ma tu facciamo un altro ragionamento tu te li ricordi questi atleti un po' Fint sì Polonov aveva un fisico pazzesco eh però come era posizionato nella card cioè beh secondo me il suo grandissimo periodo era precedente a Brass and Man quindi arrivava diciamo già cioè aveva già un nome però da lì in poi non è che poi abbia fatto un da via lui almeno a memoria ero veramente piccolo però secondo me aveva già dato tanto prima secondo me io non so perché a me mi dice qualcosa la A pure a me ma non sarà che l'hai detto tu però io la per la che rendi allora Tito Santana io purtroppo lo ricordo benissimo ma nella versione Matador e secondo me Matador tra l'altro che fu anche campione intercontinentale ma dopo quindi lì non me lo ricordo io Tito Santana io lo ricordo proprio ma sai che uno nei tanti video che guarda eccetera cioè a me che il primo cioè una cacchiata come Tito Santana contro The Executioner cioè te la ricorderesti capito secondo me De Magnificent Muraco contro Polordroff senti io vado da vado di cioè vado sul sul getto che avevo avuto all'inizio e avrei detto la anche senza 50 poi magari sbaglio ragazzi si parla di 40 anni fa quindi 40 anni fa i miei genitori non erano ancora sposati forse manco stavano assieme mi sa 40 anni fa il FIND raga io calcolati il mio primo ricordo di BSMN è BSMN3 quindi io di questo non ho ricordo però sono più vicino a voi d'età ecco ecco come dice Manuz coinvolgete Criso coinvolgiamo Criso Criso cosa ne pensi? non era Wendy's perché si è vero si addormente è lotta in pigiama ma non è il tuo caso in questo senso no la butto a casaccio a me mi sa come nome simpatico Paul quindi dico Paul cazzo che argomentazione ragazzi era bella che diceva tipo la B o la C sì Artruth Criso Artruth non aveva gimmick davvero Paolo che famo che famo che si fare ragazzi vabbè ragazzi facciamo fidiamoci dell'anzianità del FIND ho di grosso Braghias che dice Braghias io mi fiderei del FIND ragazzi semplicemente mi fiderei del FIND perché noi andiamo a culo a sentimento è profondamente diversa come concetto l'accendete raga sì è sbagliata sicuro ma questa quindi secondo me è sbagliata raga posso dire che Braghias era stranamente informato stasera le sapeva tutti che schiaffo morale tutti citti adesso porca miseria salutiamo prima però salutiamo i nostri amici di Juve and Me official che anche stasera ci hanno raidato con 31 spettatori ben arrivati amici ben arrivati siamo qui resta il menu fino a notte 2 carichi 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 dai che abbiamo avuto una gran notte uno e micro verso la postazione di ieri sera anche io ancora due secondi al buon corpo Raffaello io voglio sfidare il prossimo quiz è un bel avversario però non mi ero comportato male finora io sui numeri sono come Braghias mi fregate ma scusate ma una domanda Rhapsody ma il match di Ordorf c'era ma c'erano tutti li conosco c'erano tutti credo che ci fossero tutti l'ho fatto la 1 o la 2 erano nella 1 o nella 2 forse abbiamo pescato anche dall'opener della 2 forse i tre opener della 2 i tre opener della 2 e l'opener della della 3 intanto volevo anche ringraziare J Devil che ha regalato un abbonamento al buon Crickian grazie J Devil per per l'abbonamento regalato saliamo a quota 63 quindi meno 37 al primo obiettivo che scemo e meno 87 all'obiettivo a cui tengo di più ovvero a quello dell'ASMR che è quello a cui ambisco di più vedi l'errore dove è andato sapete che ho sbagliato lo sono andato a vedere perché Ordorf era nel main event di Night One porca miseria questo è l'absus proprio 6 minuti avreste il main amici 6 minuti avreste il main intanto guarda dove sono ragazzi abbiamo pure io questa è la memoria questa è la memoria che fa danni eh Finda vuoi fare una domanda io come si può diventare aziendalista ma guarda Gesdo se cresciamo di numero e comunque se è una persona che partecipa sostiene eccetera eccetera quando faremo dei quando riteniamo che ci sarà l'opportunità ci sarà l'occasione di e l'esigenza di avere una persona in più comunque lo ve lo ve lo diremo e poi sceglieremo in caso come diventare un'aziendalista noi eravamo e siamo anche tuttora esattamente come come voi cioè noi eravamo in chat poi dopo si è creata questa opportunità sono entrati per prima Criso il FIND Simon e così via io sono arrivato qualche mesetto dopo e quindi niente si è creata questa opportunità ma eravamo tutti lì in chat con voi a ascoltare il bardo in live non c'è il parrucco smr leo perché purtroppo me l'hanno tolto venerdì che ho perso una scommessa purtroppo per la visione di parrucco per fortuna per noi però però ti dirò ti dico questo se arriviamo a 150 stasera mi toccherà togliere l'smr fino a summer slam compreso quindi sto sperando che tutto ciò non accada quindi la maglia di Cody però se arriviamo a 100 già c'è uno step beh la maglia di Cody è una bella rottura di scatole che cattiveria è questa cosa dell'smr dotta fino a summer slam ma diglielo Criso diglielo sarà possibile adesso Fibie vado a recuperarti l'ho salvata la domanda Fibie c'è la cosa allora una cosa pacchetti che ha spacchettato ho trovato un blocco da 10 venduto a 80 così per scherzo ho buttato lì 20 euro di offerta accettati subito in settimana mi arrivano ottimo grande dove è il messaggio dove l'ho perso e qui l'ho evidenziato io ho cercato pacchetti che ha spacchettato un blocco da 10 venduto a 80 oh pensa te pensa te grande bravo bravo perché hai fatto una bella bet insomma 20 su 80 accettata bravo bello allora dicevo una cosa prima di andare su press e media che mancano 4 minuti ragazzi e mi rivolgo a tutta la chat per chi magari è solito seguire le nostre reaction ovviamente lo sa di già al warning quindi quando a schermo ci sarà il warning cliccheremo su pausa ci sincronizziamo tutti facciamo un countdown poi a 5 4 3 2 1 play partiamo tutti con il play in modo da essere tutti sincronizzati altra cosa chi magari dovesse essere leggermente avanti non scrivete niente in chat ovviamente come so Bailey wins Roman vince cioè no perché state dando spoiler a tutta la chat che magari è 30 secondi indietro e lì non si vince niente arriva per primo in chat quindi 200 beats di Smith intanto grazie mille grazie mille Smith grazie veramente tante e è il tuo compleanno quindi tantissimi auguri tantissimi auguri cantiamo la cantoncina a Smith di tanti auguri tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a Smith tanti auguri a te questa cosa non succede non si ripeterà mai più è capitata solo una volta è capitata a Smith quindi gli auguri cantati non capiteranno mai più sappiate da parte mia può capitare ancora perché mi piace cantare tanti auguri a te ti piacciono cantare cantare sì 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 ok grazie perché ho cambiato un po' setup quindi per finire mancano due minuti mi raccomando no spoiler in chat su quello che sta accadendo aspettate a scrivere il momento in cui noi diciamo la chiusura del match ovviamente uno due tre è finito allora potete scrivere cosa vi pare però non anticipate la nostra cronaca dei match perché andate a rovinare un po' tutto quello che magari sta seguendo in chat cosa succede e gli andate a rovinare tutto tutto l'hype e tutto il finale del match quindi mi raccomando vai vai finisci se avete spoiler sull'ordine della card tutte ste robe non ci interessano se vuol vedere in diretta cosa arriva arriva non ce ne frega niente di sapere l'ordine della card cioè proprio niente ce ne frega se avete rumors fotografie perché hanno visto sponcosti vostri in un aeroporto non ce ne frega niente tenetevele per voi se vi piacciono gli spoiler ve li guardate ve li tenete qua stai monopolizzando però eh sto monopolizzando se tra l'altro se vedete Brachias che sta cercando un pelo nell'uovo ovviamente potete fare richiesta c'è un fischio e noi possiamo provvedere a toglierlo io direi che si parte io direi che si parte con Punk visto che sta entrando così io direi che io direi che si parte con Punk 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 sta andando al commento aspettiamo sempre la scritta eh no si 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 siamo ancora nel pre-show altra cosa ragazzi siamo molto in 250 chi è nuovo chi sta passando di qui ci faccia un favorissimo lasci un like al video o il follow al canale non vi costa niente è un attimo ma a noi ci aiuta tantissimo e se magari vi piace il brassi vi piace passare la serata con noi ci ritrovate anche più facilmente perché avete il like al canale a voi non vi costa niente è solo un attimo dateci questo sostegno che ve ne siamo gratissimi io invece vi aggiorno sui campioni di settimana prossima visto che questo sarà l'ultimo l'ultima serata per diventare campioni della della settimana intanto vi faccio partire le bet su chi vincerà il match che sarà questo questo match qui cinque minuti per votare attualmente Fabio ha staccato tutti con trentatré abbonamenti segue Ciro a sei Lulupo a tre e Alex Asia Reins a due Beppe K a due e Alec a uno warning pausa 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 vi hai fatto venire l'ansia Griso ci siamo tutti alla pausa ragazzi sì ci siamo tutti sì cinque quattro tre due uno play ok Crizo in realtà sta già al mini event non ha messo pausa sta già quindi hai notato rispetto a ieri come era più giorno perché era sereno sì vero invece altra cosa comunque tanto questo day now forever è bellissimo bello bello che è successo Finder sto mettendo questo metto questo perché così possiamo passare i messaggi sotto sta monopolizzando beh insomma è come sempre altra cosa altra cosa perché se no l'ultimo del totem non lo vediamo mai sì sì no lo so ma vi avrei messo così in base a dove visti che eravate a destra o sinistra e vabbè lo facciamo però vabbè e per quanto riguarda invece quelli degli Stati Uniti al momento svitellone primo con 2100 segue Smith con 7 con 700 e una scarrellata di 100 che non sto a dire Criso si è abbonato per il 28esimo mese grande Criso mancano 20 secondi a live train dai facciamolo partire prima che inizi il restere il meno dai dai facciamolo partire dai forza forza ragazzi è ora il momento se avete 2 bit 3 bit un abbonamento non fatelo partire che siamo vicini all'obiettivo se no fatelo partire con dei bit Dario Gianni 60 bit manca poco per il treno dai manca pochissimo manca pochissimo dai con dei bit dai con dei bit 100 bit al limite ma non è partito troppo in ritardo vabbè grazie lo stesso ragazzi grazie mille ad Incecco per i bit grazie lo stesso grazie lo stesso ciao Manuela ben arrivata ben ritrovata amica per pochino Ciro un abbonamento regalato un abbonamento regalato da Fabio cos'è qui in Ceco ne regalo un altro sta arrivando l'hyptrain evviva quindi tre abbonamenti più uno di prima quattro grazie mille amici regalato a Francia il Gappo e a come si chiama l'altro ho perso chi l'ha regalato l'altro 100 bit di Dario Gianni grazie mille Dario anche a te per i 100 bit devo aggiornare tutto il montatore quasi ha fatto una giornata Dario Gianni 100 bit va a 200 Edin Ceco va a 200 anche a Edin grazie mille Lulubo un altro abbonamento regalato a Noz Cimmi e Fred un abbonamento grazie mille amici quindi sono 5 totali quelli che hanno fatto tutti Stratto un altro abbonamento regalato a Community siamo a 6 quindi 69 P.J. King anche a 300 bit ma che è oh ma che è grazie superiamo il record del live train lo superiamo vediamo che livello è siamo a 3 ma è ripartito è ripartito Gedo 50 bit grazie mille Gedo terza stazione 4 minuti grazie ragazzi grazie mille davvero siamo a 69 su 100 e buona presto e meno a tutti ragazzi ci sono 4 ore dai dai che ci si può fare a far vestire parrucco di Codi Rose dai dai sta per iniziare Gabri Gabri siamo all'intro siamo all'intro siamo siamo Gedo di 50 bit già detto già detto eh scusa vedi io prevedo il futuro tu subito mi stoppi grazie Gedo grazie altri 50 grazie mille grazie mille amico tra i minuti e 40 per live train intanto sono mandando un video molto buoso comincia adesso il primi un live event parte 2 Cristia ti sentiamo bassissimo alla medda comincia adesso il primi un live event non ho capito ci siamo ci siamo siamo già nell'arena ragazzi stanno già facendo arrivare CM Punk hanno fatto vedere arrivare le damage control siamo in piena arena sta passando un promone quindi dai 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 promo assurdo si ma questo che è puoi un rapper si è Macmill rapper di Philadelphia no non ci sarò a Bologna no no allora Macmill ragazzi è un po' un memone però ho fatto sto pezzo che è fighissimo siamo ok Dream and Nightmares è molto bello che c'è tutto orchestrale particolare appunto c'ha dice no nightmare construed queste robe 2 minuti e 40 intanto per il treno se vogliamo provare a superare la terza stazione siamo al 26% conteggio è 69 su 100 Dark secondo me no e se si perderà 100 bit di Willy di X-Punk grazie mille Willy per i 100 bit eh sì Giorgio Bardi sono appassionato di rap americano da quando ero piccolissimo che oh raga lo stadio è sempre gremito sono malato eh sì no non facciamo vedere Anna facciamo la live reaction far vedere l'evento è illegale non è illegale poi nel senso sai è banna Criso ha regalato un abbonamento all'altro suo account grande Criso che è fuori aziendalista di se stesso aziendalista di se stesso cioè ci sono le persone che si è vera aziendalista di se stesso ragazzi siamo siamo al ring andiamo in cronaca andiamo in cronaca 55% un minuto e 40 intanto per l'ip train è l'inno americano l'evento si vede solo su WD network solo su WD network costa 10 euro e si vedono tutti gli eventi oh ma chi è che tri ha il pianoforte questa era bella bellissimo un minuto rimasto per l'ip train intanto ma Kerry no no è più guarda 500 ho pensato molto Criso si auto regalava la sab ragazzi è pazzesca bellissimo fantastico ma questo forse ti vogliamo bene perché sei così come? non credo sia America stiamo nell'arena stanno cantando la canzone di intro siamo già nello stadio la canzone di intro è l'inno americano no non è l'inno americano non è l'inno americano ieri sera l'inno credo che sia America di beautiful potrebbe essere America di beautiful ma è una versione strana quindi non riesco poi si sta parlando quindi non so se è un indizio nel kick off punk non aveva il tutore no ce l'aveva ce l'aveva quando è entrato ma ce l'aveva ce l'aveva in Corea del Sud oh ma io io mi so 776 primo mese di abbonamento col Prime grazie mille Tony grazie mille grazie mille amico e il Prime no si ferma è l'innomilità grazie ragazzi grazie saluti grazie un'istinzione buonissimo Tony Roma 776 siamo a 71 ben lontani vuol dire una cosa molto patriottica ma noi abbiamo molto più bello del loro secondo me come testo di gran lunga se parli alza la voce perché sei massissimo intanto cantano mi sobbisco che però non ci sia Drew McIntyre con l'ora cantare esatto non arriva Drew McIntyre che esista tra l'altro aspettate voi da che parte d'estate 7 o Drew McIntyre Drew team Drew set Drew intro finita team Drew io dico 7 è Fanny McMeon chi non la voleva vedere arriva Stefani McMeon a fare un po' da contraltare ieri sera c'era stato il marito ieri il triplo stasera Stefani anche un po' a mettere il nome il goz diceva la milf calma calma mi ha chriso 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 mi dissocio scusate no 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 mi dissocio mi dissocio mamma mia ma tu l'hai detto che ti dissocii cioè da me stesso no 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 sei un dissociato mi fa tornare in mente l'epoca in cui ho ricominciato a seguire il il wrestling ring eh se devi fare così puoi anche non seguirlo più però dai chriso cioè no 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 non non c'è scusate ma non non mi era venuto in me che potesse una cosa sconveniente scusate infinita vabbè ma non te preoccupi tranquillo sentiamo sentiamo allora Stefani arriva sul ring mi sentite? mi sentite? si 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 va meglio? sentiamo la traduzione si Stefani sul ring prende il microfono quando avevo otto anni allora ma che? ero all'entrata di WrestleMania 1 avevo l'uno del privilegio di essere parte di ogni di ogni singola WrestleMania da allora di ogni WrestleMania voce Simon per le sue ragioni ma la WrestleMania 40 sarà quella di cui sono maggiormente fiera perché questa è la prima dell'era di Paul Lavesk Triple H beh certo e stanotte abbiamo persone da 64 paesi e di tutti i 50 stadi tutti tutti i background differenti credenze differenti per vedere quella cosa ci porta tutti assieme e nessuno capisce nessuno capisce niente meglio di Triple H di questa cosa meglio di Triple H eccola rubare una una rima fidare ah you ready stati pronti? ecco bra la voleva ieri sera no no vedi vedi FIND come si fa bastato chiedere e senza dilungarsi iniziamo la notte 2 di Wrestlemania no FIND ma sai cosa ho fatto ho fatto così guarda con Triple H esatto no col Stephanie che ho col Triple H col Stephanie no attenzione perché entrata speciale per McIntyre c'è tutta la banda scozzese in kilt lui c'è mio nonno napoletano scozzese cornamuse tamburi rullanti ragazzi ma avete scommesso in chat che vedo delle bet bassissime ve le ve le rifazzo ripartire perché veramente avete scommesso poco ma poi ragazzi per suonare le cornamuse sono dei polmoni mostruosi quindi quelle di prima sono annullate sì le faccio ripartire perché magari c'era live train e non hanno e non sono riusciti a vedere a vedere le scommesse arriva Drew niente Broken Dreams no ripartite le bet ripartite le bet bellissimo Drew che si è fatto prestare un cappottone dall'Undertech e gli ha tolto le maniche o sei riuscito a menzionarlo anche a sedizione Undertech non è Cain non è Cain non è Cain non è Cain ma secondo me quelli che gli stanno alle spalle sono tutte cose di football americano mamma mia molto bella comprata uno è Eric dei vichinghi è tornato sì esatto l'altro bella molto bella secondo me con il buio sarebbe stata ancora meglio bellissimo con l'arcata delle spade porche gaudine peccato la luce del giorno come l'Undertecher con le fiaccole così che si alzavano e invece dei druidi con le fiaccole le spade ma questo è il rituale dei carabinieri sempre celtici sono sì ma si può dire che ha una cosa che a me queste infatti fanno sempre ridere perché là in mezzo magari c'è il prossimo miniventer di Resilmania queste cose fanno cioè Brombreger era uno zombie di Demis vorrei ricordarvi bellissimo bello ragazzi bello bello nell'entrata ripeto peccato il giorno secondo me leva un po' di suggestività dalla cosa però bello eh sì le fiammate perdono molto però l'entrata veramente perché loro fanno comunque gli stadi chiusi i guanti sono bellissimi sì i guanti bellissimi quasi da drago sembrano ma non credo che ci combatta no penso quelli che arrivano male in faccia ti uccidono sono tipo quelli di Batman capito c'hanno dietro uno spuntone carico Drew eh molto carico è perché già sai i Pyros come che comunque ti immagini se sbagliavano l'azione dei Pyros che lo accendevano anche quello davanti di doveva sul paletto mamma mia nel problema sai che ci penso ogni volta con le pallentata eh Randy Orton ai tempi della rivalità con con Wyatt salvò un arbitro praticamente dalla situazione che era vicinissimo al paletto nel momento in cui dovevano esplodere lo gli urlò proprio di allontanarsi e partire le Pyros un attimo dopo no non credo ragazzi riferiamo cancellerò cancellerò le bet il match è questo qui se deve succedere l'imprevisto elimino le bet comunque anche dovesse esserci l'incasso comunque c'è un vincitore esatto non c'è un vincitore quindi eh cioè il match tra di loro se ci dovesse essere l'incasso è no contest perché il match viene annullato e fatto un altro no 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 fa calmo no se incassa aspetta se lo fa diventare aspetta aspetta che è sta roba che è sta roba ah ok se incassa durare il match è annullato il cervello di Griso si se diventa triple threat è annullato è no contest in altri casi no in altri casi in altri casi no ragazzi vi state distraendo probabilmente da carnevale del messico tipo ma no ma che questo è una specie che sono è il 5 di maio cioè no che sette sia sobrio nel vestirci quindi via della nuova della scuolerta eh si sta che entri anche così ah ma è uno dei vestiti ma pensate che a uno dice ogni quarto wrestling e si trova sta cosa no mamma mia eccolo meraviglioso ora se ci fosse se ci fosse sangai direbbe un c'è una meraviglioso ma come è messo meraviglioso beh molto meraviglioso sto pensando fin che te ti danno te trovi una reliquia di questo match e ti danno una piuma bellissimo bellissimo ti voglio una card con un pezzo di statile qui ma c'è la foglia di qua dietro cosa c'ha tipo di ledera le foglie le foglie finte mamma mia meraviglioso ma guarda sto carosello di gente tipo 50 persone dietro mascherate in ogni modo è per rendere omaggio a No Way Usè bellissimo ma che mi ha ricordato fra ma dentro ci sarà il prossimo Braun Strowman questa meravigliosa è l'evoluzione è l'età media un po' però c'è un coniglio una specie di coniglio lì cosa aveva Braun Strowman ma c'è di tutto c'è di tutto lì dentro c'è di più oh amici ho male qui cosa c'è qui il pela birza ma questi si sentano famosi che danno le mani agli spettatori ma fanno bello lo farei anch'io vestito così cioè vestito così in universo visione il coccolerino è fantastico grazie per il pollo ma Fred proprio No Way Usè comunque aveva ragione si era Adam Rose che entrava col coniglio cosa non metti c'è anche io tipo un cavallo lì cioè qualcosa a caso un cavallo vero oppure che bellezza voglio un match così combattete così vi prego mi prego guardate Drio guardate Drio mi prego lui è entrato serissimo posso vedere la serie quando finisce sta pagliacciata sì che bellezza allora questa per me è la prima entrata veramente di scena di questa presemenia compresa notte 1 no per me per me l'entrata è quella di De Rocco ieri sì però molto più certo alla fine De Rocco ieri questa è questa è fuori questa è sopra questa è sopra è sopra questa questa è divertente quella di De Rocco 30 bit di Smith grazie mille che meraviglia 30 bit anche di Dario grazie mille entrambi amici grazie mille grazie mille grazie mille bit quanto vi pare abbonamenti basta fermi con gli abbonamenti no no abbonamenti ragazzi se ci fate arrivare a 100 qui si esulta come De Matti cioè il coronamento del sogno di stanotte è arrivare a 100 abbonamenti e che Carrion Cross vinca il suo match di SMR ma no per noi per Parrucco questa entrata qui batte tutte le bizzarragini delle entrate che sono state fatte nel corso pazzesca ragazzi mettetevi nei miei panni per me stasera può essere una caporetto su tutta la linea cioè immaginatevi se arriviamo a 150 che non ci arriveremo mai devo togliere l'SMR fino a SummerSlam vedermi Carrion Cross vincere Roman che perde cioè io stasera ne potrei uscire con le ossa rotte ed in cieco ha regalato un abbonamento alla community a Mike Mella portaci alla vittoria ne mancano solo a fermo doc ragazzi portaci alla vittoria sta fermo Edin grande Edin Edin devi stare fermo sarà quota 3 se non erro tanto qualche coro let's go Drew ma saranno degli scuzzi no c'è una parte di ti ha regalato l'altro a il ma a il a in marco ed in cieco sta fermo Edin mamma mia che annuncio della siamo separati per tifo parrucco perché separati per tifo separaci separati io vado per Drew ah io sono due allora siete tutti sei Drew stasera c'è la frutta con me il grande concerto il grande concerto il grande concerto si entra nel vivo si parte si parte ragazzi si vinta no che ha fatto no oh Claymore Claymore 1 2 bra ho stoppato ho stoppato ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto ok scusate non pensavo suona la campanella Claymore di Drew attenzione ne provo un'altra attenzione perché ne provo un'altra è set rotola fuori è set rotola fuori set rotola fuori scusate mi sono allineato mi sono allineato perdonatevi intelligente l'attacco di Drew McIntyre che va sulla narrativa del match di ieri sera Drew Sir Trollins è uscito da una roba pesantissima il match di ieri sera e giustamente Drew McIntyre va subito con l'artiglieria pesanti belli to belli sul pavimento fuori dal ring Drew McIntyre in totale controlla già una Claymore e una manovra sul diciamo sul duro fuori dal ring ti fa un selfie con dei ragazzi che indossano una maglia scozzese tra l'altro mamma mia mamma mia no ragazzi finiva in uno squash era un po' sì stavo male mamma mia giustissimo secondo me la partenza così partenza così secondo me giustissimo sì attenzione altro belli to belli over the head bella la cosa che hanno messo che c'è la cintura fuori poggiata anche ieri anche ieri l'hanno messe non ci avevo fatto caso ieri sì sì anche ieri c'erano le cinture lì fuori anche il match di Ria Ripley sta parlando con CM Punk Drew McIntyre guarda cosa li faccio future shock di DT no reversata da Seth Rollins subito attenzione pedigree mamma mia assegno il pedigree di Seth Rollins qui Drew McIntyre ha peccato di egocentrismo perché prima di fare la sua manovra ha iniziato a parlare con CM Punk ha stuzzicato CM Punk il ginocchio fa male e ora Seth torna sul ring mi manda ancora vendendo ancora i colpi ricevuti alla gamba di ieri sera parte Seth Rollins stop stop di Seth Rollins uno due due e mezzo due e mezzo si salva Drew McIntyre che partenza ragazzi mamma mia ma che sanno fa che sanno fa che partenza e c'è la storia lì entro ancora con la mano sul ginocchio Seth Rollins è uscito però lo stomp non mi è sembrato pulitissimo credo fatto apposta esatto mamma mia sono partito subito l'artiglieria pesante che partenza ragazzi comunque per ora tutti e due sono riusciti a uscire dalla mossa principale dell'avversario attenzione Seth Rollins scalcio al corpo prova un altro pedigree no no Drew reversa Drew reversa io ora è Seth a cadere a terra si tocca ancora le gamba mamma che scarpe strane che c'è Seth questo è il pello dell'uovo solo le scarpe attenzione perché Drew McIntyre si avvicina di nuovo a Seth vediamo cosa fa destro Seth ancora a terra reagisce Seth un destro per lui ora però Drew McIntyre sembra averne di più in questo momento destro ancora il Seth Rollins ma Drew non si sposta quasi di un centimetro e colpisce ancora lui scambio al centro del ring destra e gomitate destra e gomitate per ora entrambi in piedi chop di Seth Rollins chop di Drew McIntyre destra e gomitate che botte che botte rimbalza le corde sette super kick su Drew McIntyre Glasgow Kiss di Drew McIntyre vediamo Stefano vediamo si incassa attenzione neckbreaker di Drew McIntyre ora si rialza in salto sì penso di sì sì eh sì keep up di Drew McIntyre in piedi e ora può anche pensare di andare con la seconda 3-2-1 player eh sì va all'angolo va all'angolo chiama la seconda chiama la seconda Drew 3-2-2-1 parte Drew preso al ball prova addirittura lo schieramento Drew rotola via pedigree pedigree attenzione prova il pedigree Seth Rollins assegno il pedigree eh però scusa dolore al ginocchio Seth però si prepara per lo stompo attenzione perché se va a segno questo è un problema per Drew sto male sto male l'ho fatto l'ho fatto conteggio uno uno due ci siamo due mamma mia incredibile mamma mia ci ho creduto ci ho creduto ci stiamo vedendo questa è una guerra che botta che botta l'ha preso l'ha preso Big Booth in piena faccia Big Booth in piena faccia ma dire che belletta che bello è vedere Seth che fa lo stomp non atterrando sulla gamba ma atterrando quasi con un leg drop per vendere il dolore alla gamba quasi in protezione la sta raccontando totalmente può essere anche vero che abbia male veramente però è una piccola è una piccola gem cioè è una gran cosa di Seth nel caso non sia vero fare una roba così perché attenzione perché Seth era in piedi e Drew no Seth Rollins si guarda un po' attorno perché insomma è già fatto due stomp ha fatto un pedigree ora c'è da inventarsi anche qualcosa e Seth decide di andare sul paletto non scelta secondo me intelligentissimo visto le precarie condizioni della gamba però ci prova comunque Seth Drew intanto si sta rialzando vediamo cosa si inventa Seth va con uno stomp super stomp mega stomp attenzione per la clamor evitata la clamor stomp evitato anche lo stomp attenzione photoshop DDT a segno scambio clamoroso uno due si salva salva Seth mamma mia mamma mia bellissima combo anche questa super stomp però Prista se non arrivi adesso non arrivi più no ma davvero ma io da me in Prista ora no ragazzi è anticlimatico siamo d'accordo però se non arriva adesso non arriva più beh sono ancora tutti e due abbastanza come stiamo a McIntyre se lo mangia infatti sì forse adesso sì sì cioè non sono ancora cotti forse si è tipo drogato non lo so che ti è bellissimo l'avevamo visto entrare che era super carico punta punk continuo a guardare punk mi fa il gesto della go to sleep mi fa il gesto della go to sleep a punk vediamo se si diventa sta finisher hai ragione Daniele vediamo se va a fare la go to sleep attenzione perché si mette in posizione attenzione potrebbe provarla a vincere con la go to sleep Seth si mette su se lo carica per la go to sleep ha caricato go to sleep di Drew McIntyre no pulla mamma mia mamma mia si corre di nuovo Claymore 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 conteggio uno due due pazzesco pazzesco grande grande raga dunque Mr. Braselman è moderno pazzesco incredibile pazzesco non c'è un attimo di pausa ragazzi non c'è un attimo di pausa si sono dati tipo tre quattro finisher a caso si si è vero più di DT più cioè più anche altre power moves pedigree pedigree Glasgow Kiss abbiamo già visto di tutto ragazzi occhio qui occhio ora Drew non devi fare sti errori allora Drew McIntyre esce dal ring va a sparecchiare il tavolo dei commentatori dove c'è anche si è un punk pubblico pubblico ragazzi è completamente in piada pubblico è tutto in piada comunque ragazzi se un giorno incontro uno scozzese e mi vuole dare una scozzese e mi vuole dare un bacio voglio stare attento Glasgow Kiss non fa benissimo attenzione si prepara per una power bomb sul tavolo tirato su Seth Rollins vediamo se va a segno no Seth reagisce comitata in testa e Drew decide di appoggiarlo lì perché arrivavano delle comitate a raptica e ora è Seth Rollins a far battere la faccia di Drew sul tavolo ripetutamente già un paio di volte super kick di Seth Rollins su Drew sono prevedo un fedigree Seth Rollins è sul tavolo che ora sparecchia anche quello dei commentatori spagnoli ma più lo Stomp forse bra e probabilmente si prepara per uno Stomp da tavolo a tavolo forse prepara la rincorsa Seth Rollins parte Seth Rollins corre ma sullo Stomp a segno Stomp Stomp sul tavolo e ora si atti deve prendere Drew e portarlo sul ring che dice soppicando tra l'altro soppicando stai zitto punk Drew ho portato sul ring Seth Rollins va dentro vediamo se va lo schieramento subito no perché c'è schieramento 1 2 2 2 2 2 2 3 5 3 attenzione Drew ora Drew dice basta subito subito un'altra subito un'altra è già all'angolo è già all'angolo è frustrato però è livido è già all'angolo ne chiamo un'altra ne chiamo un'altra ne chiamo un'altra deve aspettare solo che Seth si alzi se va a segno questa è finita ragazzi se va a segno questa è finita Drew è pronto parte Drew Claymore a segno Claymore Claymore è finito è finito abbiamo un nuovo campione abbiamo un nuovo campione del mondo per ora nulla giusto così tanta roba ragazzi tanta tanta roba che meccione tanta roba e io mi aggiungo i complimenti a Seth Rollins per il regno fatto primo regno di questo titolo dove ha riportato una cintura da zero a essere totalmente rilevante ma credo che la vittoria di Drew McIntyre per quanto fatto negli ultimi mesi ragazzi sia totalmente meritata l'avevo detto prima durante il kickoff vittoria pulita assolutamente vittoria pulita è grande situazione anche per Drew McIntyre che a questo punto direi che si consacra a livello altissimo terzo titolo ma questo credo che sia quello forse che sposta di più a livello di asset proprio di percorso Drew si inginocchia riceve la cintura ci mette la testa la guarda Seth Rollins è fuori che ammira il momento in cui Drew riceve la cintura si guardano i due Seth sembra quasi come dire wow piange Seth Rollins Seth piange Seth piange guardando Drew McIntyre lo indica e lo riconosce quasi come dire è tua onore al merito e forse dentro di sé dice forse avevi anche ragione quando mi hai detto che andare a far quel match mi avrebbe tolto qualcosa per stasera secondo me è venuta anche una specie di passaggio ai buoni da parte di ma allora al pubblico è tutto in piedi e ha gradito questa vabbè match c'è poco da discutere credo un'ovazione ovazione per Drew McIntyre ovazione totale per Drew McIntyre io credo che li stiano riconoscendo il merito per quanto fatto finora si se non ci fosse la storia di Punk io ho gradito tantissimo che Punk non sia stato invasivo in questo match io l'ho gradito tantissimo no no non ha fatto nulla me lo sentivo allora vado a leggere le vostre rotule chat intanto mamma mia allora abbiamo Shadow con 5 Orati oppure con 5 Lollo 5 Manetti 6 rotule 5 rotule per Fabio 5 rotule per Zender 5 rotule per Granduca 3 per il Mastino Asia Rains 5 Simone a 5 Francesco 2 4 4 rotule per il finale Vindiezo 5 Mr. Edinceco 5 Fabio Vargio 4 aspettate che occhio che è lì attenzione Drew McIntyre si toglie la cintura e la mette sul tavolo davanti a CM Punk CM Punk non fa niente si limita a applaudirlo Drew è seduto anzi in ginocchio sopra il tavolo con la cintura in faccia a CM Punk gliela mette proprio davanti quasi come dire te l'avevo detto io sto match lo voglio eh ragazzi beh ormai diciamo inevitabile anche a tutte le menade che ha detto che ha fatto ha fatto la maglia sta un po' provocando Punk però Punk per ora è impassibile seduto che non muove un dito ora bozza un sorriso questo è il mio momento perché sei qui perché sei qui dice se sei perché Punk si inizia ad alterare però Drew ancora si avvicina ancora le la mette in faccia la cintura chiede un'inquadratura migliore la regia è a 20 centimetri dal viso di Punk con la cintura adesso Drew si mette in piedi e gli fa il socket gli fa il socket della DX in faccia e Punk però ne può più Punk reagisce Punk reagisce dai che arriva Pristo dai che arriva Pristo che la toglie se la toglie se la toglie Punk si toglie il tutore Punk si toglie il tutore si toglie la giacca e qua veramente può arriva Pristo raga prende il tutore che sbatterglielo in faccia e lo colpisce ma succede il patatrack io ragazzi se arriva Pristo voglio che Punk li impegisca l'incasso la storia è tra loro ragazzi eccolo ci siamo ecco Pristo ecco Pristo però io voglio che Punk interrompa questa cosa non lo so io voglio che Punk faccia fallire l'incasso Punk deve far fallire l'incasso attenzione valigliata in faccia a Drew McIntyre valigliata in faccia ma non se ne frega Pristo va l'incasso Pristo va l'incasso l'arbitro prende la valigetta gli deve fare il dispegno Pristo sale sul ring Pristo sale sul ring l'arbitro sta personale e gog campanella suonata ci siamo finisce assegno schieramento uno due tre prisa è campionato del mondo hai visto non l'avrei mai detto non l'ho capito non l'ho mai detto ma raga mi sentite ora si piano sei pianissimo Simon sei pianissimo ora si adesso si però prima no si veramente piano non l'avrei mai detto adesso Punk si sta prendendo una rivincita capito Finde cioè il dispetto gli doveva fare adesso non può combattere si 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 può starci ovvio ovvio certo certo mi sarebbe piaciuto di più una cosa di quel tipo Pristo è il nuovo campione del mondo ragazzi non ho messo lo suono il nuovo campione del mondo guarda come se è in Punk se la gode guarda come se la gode tutto il judgment day sullo stage che accoglie Pristo con la cintura tutto il judgment day sullo stage tutti abbracciati a Bologna sei pronti a vedere il Benjamin Prist come campione no ragazzi ma che inizio è stato bello ma anche se la ride come un matto come un matto sta a ride mamma mia bella sta storyline però a questo punto a me serve spontanea ragazzi fan che è meraviglioso eh sì è la rivincita è potuto togliere il tutore perché cavolo allora non ha combattuto a Brest Elmenia perché non ha lo che non ha mica fatto un match chiuso non ha mica fatto un match ha usato un tutore come arma con il braccio infortunato con l'altro braccio ma anche se fosse ormai cioè hai fatto la chamber non è che puoi ma ma io sto male non so cosa ho visto sto male proprio pazzesco allora sincero sincero dispiace un pochino per me che interma bellissimo bellissimo però ha senso sì 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 assolutamente assolutamente cioè in diretta mi sarebbe piaciuto più di più vedere Punk che protegge il titolo perché vuole il titolo però ha senso totalmente senso ragazzi abbiamo avuto abbiamo avuto 40 minuti di fuoco mi posso azzardare a dire scusatemi un attimo scusami Rhapsody mi posso azzardare a dire che forse solo l'opener di Brest Elmenia 36 notte 2 è stato meno bello di questo cioè io a memoria non mi ricordo un opener così boh non lo so cioè andando indietro un po' adesso non dico non dico negli ultimi 40 anni perché è impossibile non lo so negli ultimi 10 anni una partenza così come fai a cioè io non me la ricordo a memoria una partenza così ma ricordo bella 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 adrenalina ragazzi adrenalina adrenalina poi si può discutere se ci piace per gli stampi o no ma questa è adrenalina Funga perché poi tutti i pezzi giusti nel senso lui ha festeggiato col pubblico ce l'ha avuto il suo festeggiamento breve ma ce l'ha avuto si si ha finito la storia si la sua storia ha finito no semplicemente dicevo che a me è ricordato Brock Lesnar contro Seth del 035 no troppo all'inizio forse sì un pochino però no secondo me è troppo lontana come cosa io non riesco a fare questi paragoni ragazzi secondo me i miei vicini stanno chiamando la polizia anche secondo me allora ragazzi una cosa sola siamo oltre 350 ragazzi intanto grazie perché veramente siamo tantissimi e questo ci fa ci dà veramente tanta gioia scusa un attimo nel ringraziarvi tutti magari per chi è qui di passaggio ci lasci un like al video ragazzi magari un like al video un follow al canale perché ci dà un sostegno grandissimo e per voi è un attimo cliccarlo fateci questa cortesia e vi ringraziamo già tanto perché siamo tantissimi veramente e ora forza carry on cross ragazzi 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 io qui non voglio rotture di scatole mi raccomando lasciatemi stare se vi parlo sopra vi sfogo voi non fate caso a me e niente mannaggia 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 il mio momento mannaggia dai via il dente via il dolore dai Samantha muoviti a sto squash di carry on cross conto al commento signori c'è il commento stop dog oh chi stop dog ma perché quello legnoso fendi ti ricordi quello con la flessibilità di un platano no l'anno scorso fu meraviglioso ragazzi dai magari snoop dog snoop dog in stile street profit tipo test ford e quindi magari potrebbero vincere dai dai potrebbero fare lo switch durante il match esatto tra montesford e snoop dog non se ne accorgerebbe nessuno dalla frog splash dai ragazzi cliccate sul cuoricino del canale dai fateci questo sostegno volante al volo ragazzi è tornato un pezzetto di sasha si cugino esatto quindi un decimo di sasha banks avreste il menu è in w per chi voleva il ritorno di sasha con un campione così debole comunque ballor campione oramai in più ragazzi la sicilità è quella esatto no ragazzi io qui sapete già ora per chi magari non è del canale magari che è passato ora c'è un meme tra noi parrucco cross che è diciamo il suo antagonista diciamo per per dinamiche delle nostre live reaction quindi noi faremo quasi tutti ma che ha detto c'è un arbitro speciale babba rei dadeli babba rei dadeli dai tutto a favore di bobby tutto a favore di bobby dai si babba rei babba non ho sentito male non ho sentito male hai lo stesso look di bobby lashley dai perfetto tutto conduce a bobby lashley dai babba bobby babba bobby babba bobby bibibu insomma dai 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 graffiamoci a questo autentica leggenda dei tech team delle scale dei tavoli questi a livello di tech team hanno vinto tutto ma tutto io sento questo odore di fagioli incredibile io basta a me basta che vince cross ma hanno benissimo anche fagioli dai 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 subito si smusava il simbolo del team 3d ovviamente si entra si entra arrivo al final test o la leggenda di gona di icon potrebbe essere una bella entrata però questo per i loro modi di entrare potrebbe uscire bello chi no vabbè l'entrata di cross in genere non è mai brutta nel senso è sempre brutta mamma mia quanto cacchio è brutto con so baffo paru sheriff ma no a fare un attore a luci rosse anni 70 esatto non c'è polellering non c'è polellering ah no c'è polellering non l'avevo visto è stata al dentista meglio meglio è tornato fin di distratto eh no è proprio l'era perso ha rubato la giacca a ria ripley che arrivo arrivano ragazzi arrivano che sono seri ruba solo la scena a tutti ma ruba solo la scena oppure ruba la scena e basta la scena buzzler esatto ruba scena buzzler 30 bit di jeso che dice avessi incassato domani a row adesso esigo che drew vinca di nuovo di nuovo e tenga e tenga il titolo per almeno un anno vediamo vediamo grazie intanto per i 30 bit bravi se volete sostenersi usati i bit e non e non gli abbonamenti bravi bravi oh brava ma com'era la storia della scozia però ci avevo visto giusto oh ragazzi nulla vieta che se lo riprenda chiaro ed in cieco ha regalato un altro abbonamento alla community basta ed in cieco è rotto grande ed in portateci a cento ragazzi celestia vai a quota 5 ed in se non ho contato male primo è Fabio con 34 quindi mi sembra veramente irraggiungibile 74 abbonamenti no è il mio momento è il mio momento bravo bobby 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 ma il senso di questa faida esattamente è far perdere carry on cross però mai me lo sento di segnare barrucco nelle live reaction notturne dai e carry on facci sognare io sono contento per demi non meritava dispiace anche a me per set ma mi andava di cambiare sicuramente non credevo in una giocata del genere proprio avresti almeno 40 e ci sta sì Simo a lei a lei ma come Mazzarri forza forza carry on farci farci segnare Emanuele Wikipedia la possono scrivere chiunque stiamo vedendo un evento in diretta quindi c'è poco da controllare che cosa no dice Wikipedia ha appena spoilerato chi vincerà il male evento di un sml eh vabbè vabbè un 50 e 50 quindi cioè ma poi lo può scrivere chiunque su Wikipedia basta andare lì che può scrivere cosa di quale raga su Wikipedia ma poi stiamo vedendo un evento in diretta quindi non è che è registrato quindi loro lo sanno esatto ma voi calcolate raga che ci fu una pagina dedicata a una guerra che non era mai avvenuta che ne so la guerra tra Argentina e Francia con tanto di date di cose di governatori di cose cioè se prendiamo le notizie da Wikipedia sono a posto spoiler il titolo lo vince o Cody o Roman Ciro basta questo è grave spoiler basta ti tengo in chat ancora solo perché sei venuto qui con noi ma vedremo vedremo hanno il 50% di possibilità di prenderci non è che è una cosa così difficile che accade può capitare cioè è una delle due c'è una strana voglia di bermi la Gin & Juice le vanda di StukTokio e Dr. Dre non so voi dai su è partito dai state buoni dai io facciamo la storia dai Bobbi Bobbi addirittura in piedi ci si è alzato il matto guardalo sono in piedi sono tipo accovacciato sto stringendo forte lo schienale del mio no cos'è sta sta cosa bravo Bobbi dipenditi dove sono gli altri dove sono gli altri no bravo Bobbi bravo bravo no che fine hanno fatto gli altri dove siete ma dove siete cosa state facendo ma basta ma dove siete oh è un complotto grandi ragazzi così chat grandi tanti carry on cross basta vi blocco tutti mi avete rotto le scatole vi blocco l'avevi uscito a favore di carry on cross lasciamo a togliere carry on cross dalla vita esulteremo alla fine no 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 cos'è già chiude no 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 cosa fa no no dai dai Montesford sei lì che non stai facendo niente oh Angelo chi cavolo sei dei due dai no no arbitro arbitro grande no ma basta vai 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 Montesford chi altro sei tu mannaggia carry on mannaggia ma che basta basta grandi ragazzi in chat grandi ma hanno polverizzato una candlestick basta svegliati qui c'è un gioco qui c'è un gioco troppo ragazzi dai cos'è cos'è così grandi ragazzi grandi ragazzi in chat meravigliosi no basta un bardo faraone basta basta cos'è ma cos'è in chat è un plebiscito bravo 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 sicuramente mi sono perso qualcosa posso dire che Scarlett poteva far meglio le cose da quando mi fai no no criso stai zitto criso stai buono in chat è un plebiscito ragazzi c'è tipo una divergenza tipo di 10 a 2 state buoni dominio sì ma tanto adesso recuperano 30 vizi di smith grazie mille smith grazie mille grazie smith grosso combattere non combatte scatola di fagioli dai bravo bobby bravo bobby bravo dividi i contendenti come mosea ha diviso le acque bravo bravo così bravi anche voi di come cavolo vi chiamate street profi bravi bravi su vai bobby vai bobby sì bobby sì bobby la spia con capriola vai con la spia vai con la spia vai con la spia bobby 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 bravo 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 angelo bravo angelo vai è il momento angelo oh mamma ford non so cosa ha fatto ford ma sei stato bravissimo vai bobby vai bobby hai rischiato di andare nel pubblico ragazzi qualche volo ha fatto vai bobby 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 vale bobby c'è 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 andiamo andiamo ancora ancora vai vai ancora così sei equivoco scusa shock slam shock slam vai è la fine del principio questa questa parola il match di parrucco è proprio preparala preparala vai scarlet fatti cavoli tuoi ma basta sì scarlet candlestick su bobby basta allora il furbo bobby bfab servi per una cosa nella vita brava bfab oh mamma bfab brava mamma mia è facciolata brava vabbè ci sta qui appena hanno detto fila denti a slit fight cosa fanno cosa fanno che fa oh oh distrutto il tavolo bfab spartlet perché loro due sono fuori gioco perfetto no carrion no no dai carrion cosa fa dai carrion dai carrion no bobby bravo carrion no bobby regalaci no cosa fai no bob no alzati alzati devi fare una cosa nella tua vita alzarti alzati 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 no questo è il match di parrucco ragazzi alzati uno due due no ragazzi questa è roba mia vi chiedo scusa se non sono se non solo se non sono imparziale ma questa è roba mia sì questo è il match di parrucco ragazzi c'è un meme che dura tipo da due anni ma anche l'adrea come sa vai carrion bravo distraiti bravo 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 tanto rhapsody si è abbonato per il ventottesimo mese dico bene no rhapsody non devi contribuire anche te però sto spiegando le mani spiegare 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 vai vai ma fate qualcosa vai 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 cosa fate cosa dovete fare bravi perdete tempo perdete tempo muovetevi 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 dai dai perdete tanto tempo dai muovetevi cosa devi fare così urgente muoviti va beh va bene questa fa male non era quella ma montasi forte che sta a fa dai 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 bravi perdete tempo ma perché chiedono il tavolo dai è la ma il tavolo di boys che anche questo fabio 25 abbonamenti cosa hai fatto sto per cadere get the tables fabio dopo ti ringrazio fabio grazie grazie niente mi sa che abbiamo superato i 100 credo abbiamo anche superato i 100 abbonamenti vediamo il tavolo ragazzi gli street profits preparano il tavolo dopo ti ringrazio per bene scusami dopo ti ringrazio bene fabio attenzione perché se carry on cross finisce lì sopra mi sa che è finita gli altri sono ben spariti spariti completamente dai oh si si butta oh tavolo tavolo rotto ahiaia un difetto di fabbricazione il tavolo si è rotto nel montarlo quindi devono rifare tutto da capo peccato perché questi ragazzi non se lo meritavano una cosa del gioco dai vabbè non dipende da loro no questa prova non dipende da loro no no assolutamente è il tavolo è un parto sto match è un parto ma ci metti uno da 100 kg sopra però sanno a tempare già bene vedi si si dai povero cross però distrutto lì ragazzi oh mettila di nuovo oh e dagli mettitela a modo sto tavolo dai one more time one more tavolo allora l'unico in piedi del testamento è Apple Allering è l'unico in piedi in questo momento dai fuori dalla corda frox flash il tavolo il tavolo distrutto si 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 uno due tre che delusione ma che ha fatto parrucco l'abbiamo vinto che delusione l'abbiamo vinto l'abbiamo vinto l'abbiamo vinto l'abbiamo vinto l'abbiamo vinto l'abbiamo vinto match migliore della serata grazie Fabioschi Fabioschi grazie allora adesso rientro rientro dal meme e da tutto quanto Gesdo 30 bit ha dato una medaglia a quello che ha dato il gettone a questo match allora ragazzi al di là al di là di tutti i meme adesso sono contento che ha vinto chi doveva vincere comunque Fabio grazie mille per i 25 abbonamenti regalati grazie infinite Fabio grazie tantissimo ne hai regalati 50 in due giorni praticamente qualcosa di più quindi un grazie enorme Fabio grazie mille grazie grazie tante grandissimo grazie tantissimo grazie tantissimo e volevo anche ringraziare però che forse non li ho ringraziati bene a dovere sia Smith che ha messo anche Smith che ha messo 30 bit quindi grazie sì l'avevo ringraziato l'avevo ringraziato io ah ok ok quindi adesso facendo facendo un rapido conteggio di tutto era il nome di mio padre quindi il nome è una garanzia facendo un rapido conteggio amici quindi sono 27 abbonamenti quindi andiamo a 101 superati dai dai grandi ragazzi di qui davanti indosserà la maglia di Codi Rozzini live ragazzi che bellezza da quando è tornato che dice che non va bene mamma mia che bellezza tanto Snoop Dogg arriva a festeggiare la stepo di Wobby questo match ragazzi è un altro che facciolata proprio sì però è una cafonata a me è divertito devo essere sincero perché la facciolata è sgradevole invece la cafonata è divertente capito e ora un altro abbonamento regalato a Govo 177 quindi andiamo a quota 102 meno 48 meno 48 lo dico per il prossimo step che è quello del parrucco ASMR che andrebbe andrebbe tolto fino a Summer fino a Summer sarebbe un sogno allora ragazzi ora c'è da tornare serie perché probabilmente c'è il triple threat per il titolo degli stati io il mio match l'ho vinto io sono a posto comunque raga io non mi sono espresso sul match di prima gli do 4 rotule e mezzo perché poco se cioè è un po' esagerato però comunque il match allora Mariotti di 94 quarto mese di abbonamento col Prime grazie mille Vico ora forza che io esatto no forza Randy Orton invece però però grazie mille per il rinnovo dell'abbonamento io chiedo scusa aspetta un attimo Criso io chiedo scusa ho detto Kevin Owens perché se ne proprio perde Logan perché Randy Orton per me sarebbe un grosso passo indietro per lui perché lui ormai non è come Giancina che può fare anche il titolo degli Stati Uniti non ce lo vedo proprio Randy Orton col titolo degli Stati Uniti ormai Fabio guarda hai fatto tantissimo cioè anche anche per dire se ne regalavi 2-3 a parte gli scherzi andava bene uguale cioè Fabio grazie veramente di cuore un abbraccione per il sostegno che hai dato in questi in questi due giorni anche negli altri giorni perché comunque ogni settimana comunque uno o due abbonamenti li metti sempre questa settimana ne hai messi una cosa come 60 credo se non ho super giù quindi grazie veramente Fabio grazie per il sostegno meno grazie per il fatto che ora dovrò mettere la maglia di Cody allora c'è Paimon che sta parlando attenzione vabbè sta provando il match di dopo dai io devo chiedere devo chiedere scusa a chi è nuovo che non conosce i memi che mi ha visto insomma in queste in queste condizioni così non è sempre così però è un match che per per la la lord del canale doveva essere interpretato così quindi mi scuso se non c'è stata la classica la classica diciamo reaction del degli altri match dai dai ora si torna a serie si torna a serie che ora si inizia di nuovo a far sul serio ragazzi credo ci sia il triple threat per il titolo con Randy Orton Kevin Owens e Logan Paul quindi subito un altro titolo in palio è uno dei match che abbiamo anche discorso parecchio nel bar su le possibili scenarie anche dopo quanto visto ieri sera con la vittoria di Sammy e il capolino di Kevin Owens potrebbe essere veramente una possibilità di split nel senso un 33% per uno a portarsi via sto titolo quindi bello 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 anche a livello di competitività secondo me è molto aperto molto aperto due cose scusami no mi scuso perché alcuni in chat si erano lamentati che volevano il classico un classico commento ecco non c'è stato quindi ragazzi torna torna dai torna scusarmi hanno riscattato Seven Find parla bene male di quindi Andrea Lanza dici di che cosa il find deve parlare bene o male dai posso chiedere il find che parla male gratuito posso chiederti una parla male gratuito per parrucco no devi riscattarlo la regge di Dine Ambrose ma cosa bene o male Andrea Lanza deve parlarne bene o male il find di Dine Ambrose adesso appena e le night che fa ah è una pubblica lo slingino è una pubblicità andiamo ad andare avanti bene devi parlare bene Dine Ambrose Dine Ambrose secondo me a suo modo personaggio comunque iconico che ha lasciato il segno ovunque sia andato lo ha fatto un W vincendo titolo massimo e essendo rilevante assolutamente a livello di della parte tutta la parte iniziale con lo shield poi nei W è andato di là e ha fatto comunque anche di là bene arrivando a portarsi via titoli anche a ritagliarsi una parte diciamo nella versione un pochino più ICW per assonanza quindi con match estremi quindi si è spinto anche un po' oltre e in questo comunque ha sempre portato con sé un carisma è sempre comunque seguito quando entra nell'arena quindi io credo che si sia ritagliato il suo spazio ovunque sia andato in qualsiasi ring sia stato lo noti e ha sempre un suo perché di essere guardato secondo me poi sa interpretare sia il match diciamo canonico sia il match appunto nel recente che abbiamo visto con le regole diciamo più estreme però ecco sicuramente è uno che è uno dei tre che dallo shield comunque chi in una maniera chi in un'altra comunque è emerso di una stable pazzesca che si andò a creare nei primi del 2010 degli anni 2010 quindi Dean Ambrose Moxley attualmente dai pollice pollice su per Dean Ambrose ci sono ancora le bette attive Ciro mi devi dire di che cosa Bracchias deve parlare male in napoletano veramente l'hanno riscattato sì adesso vediamo Ciro cosa dice comunque stanno mandando AJ Styles contro LA Knight cambiate le bette ha scritto Bracchias voglio la testa di parrucco in che senso in che senso Ciro scusami mi sa che devo rifare le bette Dark Stark mi ha taggato ancora con parrucco che è successo sicuro che c'è tipo 3 torra no è vero forse c'è LA Knight oh che ne so prima ci hanno fatto vedere Logan Paul che si preparava vabbè adesso ragazzi non posso la rifacciamo la rifacciamo annulla parla male di qualcosa ti lascio piena libertà devi parlare male di qualcuno ti lascio piena libertà la parlo male di qualcuno in piena libertà si accettano suggerimenti dal fin dai che conosce tutti i miei peli allora guarda voglio voglio è il mio momento è appena stato il mio match distruggi come si deve beh dai visto che hai d'inceco scritto di parrucco no perché c'è egocentrismo è la chat è la chat parla male di me non l'ha deciso lui l'ha deciso Ciro che l'ha riscattato allora sì allora sì mi scuso mi scuso l'ha deciso Ciro che l'ha riscattato te la smetti di voler monopolizzare tutto dicendo che ti auto candidi per essere parlato male ma è lui che l'ha deciso te smetti la direzione tra avanti egocentrismo e tutto sei anziano te cosa vuoi che ha fatto quasi quasi parlerei male di film quasi quasi esatto quasi quasi ci sto va bene va bene non mi toccate male parrucco ma che vi devo dire a ieri parrucco è venuto in live con le treccine ma tutto a posto che ci ha mandato le foto su whatsapp tutto soddisfatto voglio guardate che ho fatto che ho fatto frana in scimità bra oh bra ci ha perso pure ti scarica la foto guarda la foto ma ce l'ho pure in galleria è in galleria perché ho un petto di galleria le sta preparando le sta preparando sono partite adesso le bet sono partite adesso sono partite sono partite ma poi è ridicolo parli tutto l'anno di cosa come si chiama di di carry on cross arriva il badge forza bobby lashley stai proprio ridicolo ma parlo male di carry on cross appunto che dico forza bobby lashley cosa devo dire forza cario cross si qui ti stai rampicando sugli specchi brachias esatto qui è che chiunque fosse andato contro carry on cross avrebbe divato no dai io avevo pronosticato carry on cross vincitore vabbè ma di te cosa me ne frega adesso fate gli scherzi io sto con parrucco qui io sto con parrucco basta però essere così egocentrico di dire io sto io faccio io qui parrucco egocentrico ragazzi fermatemi mangiamoci un bello slim gym ragazzi c'è un po' di ingerenza su sto slim gym mezz'ora che cos'è un dolce un salato che cos'è no credo sia tipo carne essiccara un barrette sì allora Rappone in tutta onestà no è il mezzo però perché non c'è spunti secondo me io spero che finisca presto è l'unico match di verse e media per cui non ho hype è già l'entrata sta durando troppo già mi sono scocciato l'unico match anzi se devo essere sincero l'unica cosa che mi cioè mi farebbe piacere vedere questo match è una vittoria delle night ma non perché cioè Jay Stiles mi tolgo il cappello mamma mia sei proprio un garantista mamma mia trovi sempre il pelo nell'uovo per questo giro per chiudere sta run secondo me è una vittoria delle night a Biasi Mania ci può anche stare dai tre mesi fa cinque mesi fa si pensava dovessi vi incertito come vogliavi dai fateli di qui scrivo ragazzi c'è una nuova song si no secondo me è la stessa un po' remix si 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 è una parolona dire la stessa fin no è la stessa remix le stesse parole le stesse si anche secondo me mi sembrava molto simile mi sembrava abbastanza simile diciamo che anche la chat che scrive intanto il match è partito subito immediatamente che scrive volevo un church match una stipulazione speciale cioè anche pro non c'è nulla in palli cioè questi se la litigano perché non hanno vinto contro Roma Rennes comunque posso dire che questa aggressività che ci fanno trapelare è veramente ingiustificata esagerata ma se l'ho detto la loro la loro cattiveria è perché hanno perso contro Carion Cross contro Roma Rennes è come se ti vogliono far credere una cosa che però non è mai vero simile sì 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 no no ma sono d'accordissimo con Tà sono perfettamente d'accordo con Tà l'hanno molto esasperato secondo me cioè litigano per per il nulla cioè no ma qua ti trovo tutti i peli nell'uovo perché mi ha preso male litigano per una sedia facciamo una colletta o comunque non l'ho detto ieri Becchi ha fatto quattro leg drop caduti vero appoggiandosi c'è anche la corda dovevo trovarlo il pelo sì 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 devo dire ampio repertorio quello non è un pelo quello è la ciocca ampio repertorio tecnico tanto Simon è giorno da te che c'hai la pianta dietro tipo con l'illuminata cos'è? sembra il giardino fuori con la luce è un'opera d'arte fatta da mio zio sì ci siamo poi faccio vedere sembra tipo una finestra che fuori si vede il giardino ah ok ah ok immondizia e dentro un led tra l'altro colore è un colore Castile Meier esatto è fatto da mio zio lui era un architetto poi ha preso Scrivizze e Pasticose esistere che anche lui mi sembra un po' più asciuttino non posso dire una cosa però la musica di esistente non è vero no disgustosa basta deciso ma invece è stata la mia impressione Roman era molto più asciutto sì Roman sì l'abbiamo detto e che sai cosa non te ne rendi conto perché ha sempre la felpa è sempre vestito con la felpa però sulle braccia era visibile proprio no anche nel petto nella pancia aveva meno lardo secondo me si è tolto 5 kg si è asciugato più il grasso su Roman non c'è non me sembra mai in sovrappeso ragazzi sto match sta già durando tanto sì perché ma ti devono far vedere che lavora sulla gamba Vagos mamma 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 questo era il classico match da mettere subito subito prima subito dopo l'opener questo è nel kickoff parru no ok dato che non lo vuoi mettere nel kickoff questo lo devi mettere subito dopo l'opener e il match di Karrion Kross subito prima del main event rilancio la frase di Brachia se dico questo lo devi mettere a Smackdown sì anche anche devi spostare l'Andrea di Giant batterio al QI e metterci questo il kickdown sì sì oppure lo lasci nel performance center il match addirittura a te è piaciuto a Jason l'entrata di Jay Style a noi non ha fatto impastire più di tanto no non era secondo me era il remix della precedente la prima la precedente a me non dispiace però ora questa abbiamo anche il volume non ottimale per sentirla bene io l'ho al vero l'ho fatto un attimino ma vabbè già attenzione questo match è un parolone no vabbè almeno dire chi lo vince ma cambia qualcosa cioè no Criso cos'hai nel tavolo nel divano hai apparecchiato una roba per 50 persone questo questo match ragazzi conta quanto a Coppa Peroni cioè il trofeo birra Moretti cioè se vanno oltre il tempo limite fanno gli shout out come come era all'anno senza i rigori allora parliamo di cose serie Criso cosa stai mangiando Anacardi come? Anacardi è tardi? Anacardi sta mangiando la Cargill la Cargill Jeff Hardy Anacardi Anacardi ok ok guarda Matteo non ci vogliamo pensare a questa cosa qui cioè noi ci limitiamo a vedere a vedere il wrestling dispiace nel caso però speriamo di no ecco ah quando finisce mi faccio una partita alla play no dai adesso ci stupiscono e arriva Maxine ad aiutare le Knight così 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 oppure arrivano lì Mansoire e Massé a riformare la nuova Trim & Band mamma mia dove vai Giustice dove vai il capo il capo il capo stable di Mansoire chi sarà d'ora e poi chi sarà il capo stable della nuova Trim & Band il rientrante Heath Slater beh certo Heath Slater a capo lo mettono a capo della Bloodline stasera dopo la sconfitta di Roman morde addirittura Elaine Knight la pronta di AJ Style magari è una capa insalata comunque ogni giusta nota di colore ogni manovra di di Elaine Knight è dita negli occhi di AJ Style intanto sottolineata dal pubblico con lo yeah è importante sottolineare no vabbè giusta una nota sul clima che c'è nell'arena comunque stanno ancora partecipando oddio mamma oh mamma oh Cristo Santo German suplex dalla terza corda si salva i gestites è bravo German con capriola di AJ sì sì mamma questa è stata bella vedi per esempio sì però manovra bella nel match sbagliato Bribella hai detto no no l'altra non mi ricordo l'altro come si chiama Nicky Nicky eh di fatti Nicky era la più carina dai Nicky è quella di Sina era più carina ah preferiamo attenzione le mostro di sottomissione di AJ Style intanto applicata qual è come si chiama parrucco qual è quella di Sina già no 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 mamma mia mamma mia no delle belle delle gemelle belle Nicky è quella di Sina non c'era Nicky Nicky Bri è di Daniel Brian no il match non è non è male perché scrive che il match è bello però non ha cosa c'è in paglio non ha mordente non ha nulla che non c'è la mordente esatto chi vince chi vince cosa vince sta uscendo bene ma se non sei tipo fan di AJ Style o fan delle night ti coinvolgi poco cioè dovete chi vince però bravi però bravi lo schippiamo lo schippiamo schipponi sai che io non schippo nulla schipponi tanto è registrato l'ho scritto anche in wikipedia ora attenzione perché G-Stice va a lavorare sulle gambe usa rimposte leva addirittura la protezione alle ginocchia delle night aia aia questa fa male questa fa male gestarsi in totale controllo ora anche colpito pesantemente la gamba sinistra di e le night togliandoli la protezione e facendola impattare con il rimposte però e le night qui riesce con una manovra a far sbattere la testa di gestare sull'imposta a sua volta e le night può prendere l'inerzia anche se riesce a malapena stare in piedi perché la gamba è veramente molto dolorante ora vediamo se si inventa tanto l'arbit lo sta contando beh non così dolorante ora corre ora corre protezioni dal pavimento ora c'è il concreto sotto oh guarda sapò va bene sapò bene con il completamente esposto pavimento esposto vediamo cosa si inventa che gli fa la stessa clash fa la stessa clash no ha reversato ci finisce le night sul cemento le gestare di l'internet vai vattene gestare si va a interrompere il conto no va a far partire il conto si va a far partire il conto rimane sul ring quindi viene contato fuori le night siamo a tre quattro cinque tutta una gran rabbia per vincere di count out bello sette otto nove rientra le night mamma mia ha un ginocchio un miragolato raibeck in diretta pibie ma anche male calcione di jay styles alla testa di le night per gestare sull'epo pronto per il feromino al cuore pronto per una delle sue manovre più iconiche no fa un 4 e 50 ma viene parato dalle night comunque per essere il mini event è ben fatto il match è ben fatto presso il mini event di smackdown si presso il mini event di smackdown si e andrea no avrebbe vinto se finiva con il conteggio fuori avrebbe vinto le night perché ha vinto le night per count out quindi non avrebbe testizzato si è g style per count out si scusami testo di le night forse siamo ai fuochi d'artificio finali testo di le night siamo in mezzo al ring testo di le night scambio di pugni siamo il primo che prende il vero vantaggio tanto ogni colpo di le night comunque sottolineato ancora dall'idea del pubblico comunque c'ha le protesi nel ginocchio non si spiega rovesciata di pele kick di jay styles assegno ora jay styles può correre però si reversa le night prova ora il fenomeno da forer ma segno no si sposta le night prova la finisher reversata la lap di jay styles che tramuta di style clash no si libera ancora le night bravi eh comunque ragazzi bravi bravi ma basta il servizio centro dell'attenzione ecco mi sa che no si salva ancora le night facendo cadere jay styles ora può chiudere jay styles finish rassegno uno due e tre e le night se la porta a casa prima vittoria in carriera per le night beh comunque posso di una roba cioè match sufficiente però bravi si dimostra per l'ennesima guarda bravi sanguaiate ne ha fatto ma che un poche selling ma non sta su bravi no no ma correva dopo dell'apprisoria dopo un minuto no ma io vorrei vado così vicemente ci dimostra i limiti delle night secondo me c'è che non può andare oltre il mid carding upper carding non è per cattiveria ma perché proprio non cioè gli manca pure quella roba cioè per dire jay styles con tutto è un mostrato un attimo rovinato fisicamente perché già 50 anni però ha tutto una serie di cose sul ring cioè sta meglio e le night però su questo non sono d'accordissimo aspetta passo da farti una mossa come tipo il german suplex complicatissimo all'errore sul selling che è banale magari cioè è molto la cosa che lo salva è che è carismatico molto carismatico in questo programma qui in questo tipo di cose di sport entertainment tante volte abbiamo visto arrivare un carismo magari senza dover eccellere il ring però arrivare io credo che il problema di le night più che questo sia magari anche l'età io ribadisco una cosa paradossalmente Vince McMahon tanto male non ci aveva visto perché comunque gli faceva fare il manager uno che parla bene intratiene sì sì McMahon tutto è di scemo scevo non era tanto scevo ha capito aveva visto se parlare nel lottato non sei in grado hai 41 anni non ti posso insegnare chissà cosa perché sei già formato e no formato adeguatamente è chiaro vado sulle rotule comunque hai ragione devi finire di dire qualcosa da Simon no no il discorso sarà questo alla fine raga no per me hai ragione sì sì ritaglio costi no Smith l'età invece conta perché se io devo iniziare a pusciarti per me è quello 41 anni e ti devo formare nel senso ti devo formare il gioco non vale la candela magari i J Styles che non lo dovevano formare era già King of the Ring intanto sì era già in là con l'età valeva la pena pusciarlo ma perché perché era già formato Damian Priest pur lui ha 40 anni praticamente ma comunque quando è arrivato in WWE pubblicato era già era già formato per meno come adesso è più completo per fare un quadro su Ellen Knight ragazzi intanto ha 41 anni e quindi si deve investire veramente a lungo termine magari ci pensi un attimino però Ellen Knight è già stato al top per esempio a Impact dove è già stato campione del mondo dove è stato campione Tech Team in NWA quindi c'è Ellen Knight è arrivato in WWE come? New Japan Pro Wrestling anche in New Japan Pro Wrestling esatto io non sono d'accordo però ecco secondo me in uno sport entertainment dove sei bravissimo al microfono c'hai un carisma particolare puoi ovviare magari a qualcosa sull'ottato però qui secondo me è l'età che può aver fatto scegliere di dire fermiamoci un attimo perché questo ha già 41 e magari ha anche tanti bump già presi in carriera magari le condizioni fisiche non le conosciamo neanche benissimo quindi c'è tanti aspetti su Ellen Knight secondo me io volevo dire anche un'altra cosa che Priest poi col fatto che viene da Puerto Rico comunque da quelle parti lì può prendere sul pubblico latino che è comunque una buona fetta di mercato comunque vado con le rotule un attimo solo giusto un secondo le Fireflies per Breguet sì giusto un secondo ricordiamo che il padre è stato esatto inserito nell'offame probabilmente ora torneremo nell'arena no fanno vedere tutta l'offame Andrea 3 a 3 d'altrata vado con le rotule scusate Dario 3 Smith 4 Giordano 4 Geso 4 Brock Lester 4 Alfo 2 Svitellone 3 Simonea 3 Zendler 3 di Inceco 3 Fabio Vargio 2 a che ora sarà il match di Romani Cody vado a sapere 3 Granduca 3 Emanuele 2 Fabio 3 Lulupo e 3 anche Malvo Vandersorio Shadow Waves che ne mette 2 ok vi ho letto tutti Dani Super Saiyan 3 Mattia Mattia ne mette 3 Francesco 242 anche Manetti 2 vi dovrei aver letto tutti ragazzi 3 e mezzo anche io volevo rispondere al volasia perché magari vi sono spiegato male 2 e mezzo ok ok per me 3 le prendono e c'è Stice anche per me cioè se si parla di ring ragazzi c'è Stice che li voglio niente il mio era un discorso solo su Ellen Knight anche di Simon non era un paragore con e c'è Stice era proprio concentrarsi su io ho citato i G Styles perché i G Styles era di in WB comunque non è che era proprio giovane no 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 certo però è un altro fisico un altro ritmo no ma i G Styles ragazzi cioè uno che comunque era come se qualche anno fa fosse arrivato Kenny Omega esatto esatto quando arrivò era quella sensazione lì vabbè di fatto che è un'altra che è un'altra che è un'altra che è un'altra perché G Styles che era va in WB quindi è quella figura io invece dico una cosa Dark Stark ha scritto che il match di Priest contro Drew McIntyre è il più corto match per il titolo a Vrestelmania sì vabbè certo quindi è un non credi? certo no perché tipo ti cito giusto al volo Kane eh no eh sì che infatti Chavo Guerrero per il titolo si dava in sei secondi quindi occhio ah ok bisogna capire cosa si intende per il titolo vi faccio un giro su X per capire vai capischi capischi è vero Shimos e Brian è vero anzi è vero 18 secondi quello ti metto anche Rock contro Rowan no però per il titolo ah ok allora ok quelli lì ma lo stesso ma lo stesso con la porta chiusa tra Goldberg e Strohman quando durò sì ma mai meno di sei secondi sì no no per dire sempre meno di quello di stasera sì 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 gli ho dato 4 roto e tutte le G-style ci sta ci sta ci sta oh con la maglia di Brain eccoli guarda con le maglie guarda lui è il padre non è il fratello del padre allora Barry Wingham è il fratello della madre della madre ok e Mike Rotund è il padre è il padre sì terza generazione perché prima c'erano i Black Jacks Black Jack e l'Elligan era Bunda Cano a me è piaciuto anche il suo di discorso io ho detto Napoli manca la questa è la mamma di The Rock mi sa la nonna no sì questa è la madre ma è lì era la mamma ah sì ok rappresenta la madre sì credo sia morta sì l'ora più grande atleta della storia Cassius Clay diventato poi nuovamente da lì sì sì anche secondo me Dark ecco lo poleman con la vecchia musica dell'ECW vediamo se viene col cappottone in pelle è presentato anche col cappello nella figura del cappello dell'ECW tutta l'arena sta cantando ECW è stato un momento storico iconico quello sì a me è piaciuto tantissimo ecco perché mi è piaciuta anche quella situazione molto forte che ha fatto nel discorso sì è l'headline di questa sì esce per ultimo ecco lì rotunda wingham bullnakano passa la carrellata di tutti c'è la con la cintura con la cintura con la cintura con la renza alla cintura infatti non capisco e poi abbiamo anche il buon thunderbolt paterson problema nel personaggio anche qui ragazzi ma quanto sarebbe stato poetico se si spegneva tutto un attimo il god all world in his hand il god che poteva starci poteva starci vabbè penso l'anno prossimo ma però io sono contento che non l'abbiano fatto subito paradossalmente anch'io anch'io Mike Rotunda ha detto in un'intervista di qualche giorno fa che praticamente è un po' come se l'avessero chiesto loro perché è un momento veramente ancora troppo fresco fresco la torta di rispetto io ho visto mercato uno spezzone del documentario che mente parla a bordo il momento in cui dicono che è morto c'è un raga che è straziante straziante e dai adesso andiamo sul lato più diciamo un po' più divertente ecco siamo a metà della card al momento abbiamo rimasto questo match Bailey contro Yoskay il main event che sarà Roman contro Cody e l'incontro a tre dovendo scegliere dovendo scegliere esatto l'incontro a tre o Bailey adesso non lo so perché se parli a livello di pugilato il sottoclou è un match importante e potresti mettere il triple threat match ora quindi potresti fare così altrimenti se vuoi staccare e mettere il sottoclou come stacco diciamo come diversità allora puoi mettere il triple threat nel mezzo ai due singoli però è molto simile la posizione quindi io ora sinceramente metterei Bailey e Yoskay perché il triple threat è proprio concettualmente diverso dagli altri due quindi staccherebbe un attimino però qui è solo questione di Andrea si però di Lilio Carper potrebbero metterlo benissimo ma magari un giorno metteranno forse la White Family come penso di sì c'è che di aprile non ha fatto eccolo mamma mia 80.000 Fireflies posso trovare il perone nuovo no no piazzo le marchi in mezzo no voleva dire 74.000 quanti lo dico 80 ah sì ora sì ah subito pensi a male mamma mia no no non mi ricordavo neanche che numero avevo detto in verità e Fing ti chiedo ti chiedo una curiosità a te che sei fan di intanto c'è l'incontro tre triple threat ok quindi l'hanno messo tu ti chiedo una curiosità preferiresti puoi sceglierne solo uno puoi preferiresti l'inserimento di Wyatt e Basta oppure tutti i membri della White Family puoi scegliere solo uno secondo me ci vanno tutte e due cioè sono quasi cioè secondo me ci vanno tutte e due non ti penserebbe di più un unico riconoscimento con la White Family da prenderli tutti più che uno da lui e poi la White Family mi viene un momento un po' mi viene un momento un po' la situazione di per esempio Hogan con Land W.O cioè Hogan per dire l'ha presa ce ne ha due ma anche Booker T per esempio ne ha due quindi è una cosa che fanno sì sì però quello che ti volevo dire io era il fatto che una sua creazione vada nella Hall of Fame cioè una stable creata da lui una sua creazione entra nella Hall of Fame con lui come capo ecco diciamo sì può starci anche quella lettura lì sinceramente però non lo so sincero non lo so cioè io credo che purtroppo quello che è successo anticipa i tempi di una decisione del genere e magari se volevi fare una roba del tipo che fai la White Family quando si sono ritirati poi fai Brian White dopo oppure fai uno prima e poi dopo cioè ora purtroppo ti trovi a dove parlare di queste robe perché è successo l'incredibile legge di tre anni cioè sono scomparse due le bet sono partite le bet se non le vedete uscite rientrate io sinceramente magari sarò impopolare ma si ha portato parecchie cioè delle importanti parti delle storie WWE ma io ancora da non ce la vedo la White Family beh comunque diciamo che è per quello anche che ho fatto la domanda al fin della White Family non ha fatto secondo me tantissimo cioè è stata una stable originale però non è stata dominante non ha avuto per come la vedo io la White Family ha fatto tanto a livello scenografico però non non ha ottenuto nel trio tanti risultati secondo me cioè l'unica cosa che mi ricordo è quando era con Randy Orton a livello di tutti e tre i titoli di coppia disponibili hanno battuto lo Shield della rivalità Shield White Family sì ma si è persa molto Luke Carpio da Family ha vinto l'Intercontinentale cioè attenzione Luke Carpio ha vinto l'Intercontinentale sì 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 cioè c'è chi c'è andato con meno nell'Hall of Fame sì ma anche chi non c'è andato con più sì però insomma se guardiamo anche in generale secondo me al netto di cosa è successo comunque sia sono stati tipo per 6-7 anni tra NXT e WWE presenti dentro storyline io non direi cioè hanno fatto parecchio fatto parecchio ma no ma ci sta adesso io e la mia era solo per poi secondo me non è tanto il discorso poi otticamente solo sulla White Family ma è che vai a mettere nell'Hall of Fame dove è Logan Paul? quattro figure no no ci sta ci sta ci sta c'è lo stesso Strowman così lo premi che comunque è un ex campione del mondo è un ex campione del tag team lo stesso Harper in qualche maniera ce lo metti forse Rowan è quello meno forse Rowan è quello che ha raccolto meno mamma mia cosa spara spara la Prime a tutti che c'ha lì il jet mi sa di sì mi sa di sì c'ha un cannone di Prime beh dai dopo il latte di Cortengo nella birra di Stone Cold no spara e basta che fa? pochi d'artificio no vabbè ma ti pare che sparava il liquido all'assalaggendo no io pensavo sparassi tipo delle bottigliette salivelle tipo fa compiabili stanno per aria l'avrei voluto prendere io il latte da Cortengo così suona male però eh oh voi siete siete sempre cattivi pensatori che ci posso fare? la bottiglia Prime sì forse vent'anni fa avrebbe sparato sulla gente sì come stanno andando le bet intanto siete un po' timidi stasera con le bet eh parrucco cento punti così così dal nulla timidi veramente timidi stasera con le bet non mi immaginavo così o vi tenete tutto per gli ultimi due match che sono Bailey e Roman no parrucco a andare a refuso con le bet nei quiz una strage è stata il quiz è stata una strage io non lo so come finisce sto match ma ho la sensazione che lo da un po' lo perde sicuro io l'ho detto io vado con Orton anch'io anch'io anche se come diceva il borrazzo l'angle di Samy Zane potrebbe anche essere relativo a una cosa del genere però vediamo vediamo se Samy Zane si presenta ora come ha fatto Camino Gomez prima del match ti può caricarlo nell'ingresso ma quella bocchetta prem interverrà nel match facile sì sì facile è un senza squalifica ragazzi quindi ecco Camino Gomez vediamo se fanno la stessa scena c'è Samy Zane c'è c'è o non c'è no ci sarà per porta di fare la stessa scena dai o arriverei di fare un'arche io così dal nulla tra l'altro come Samy lo stesso tunnel eccolo si fa trovare con la cintura in mano sentiamo questo ormai è un prologo al fatto che vince Kevin ora è il tuo turno ora è il tuo turno vai e prendilo vai e prendilo vai e prendilo mamma mia che sensazione che sensazione deve essere usciti lì e vedere quello stadio così guarda là guarda là guarda là che roba sì lo penso a me pure quando sai i concerti no eh bravo la botta che c'hai cioè magari vai a persone che tu in quella canzone c'hai pianto dentro a scriverla no e cantano le due canzoni cioè per dire io io a distruggere la macchina penso di sì no no è fissato la macchina da golf lui però c'ha la fissa queste macchine lui con la macchina da golf fa sacchita la macchinona di Logan Paul ma c'ha scritto che io ho sulla macchina da golf la versione povera di quella di Stone Cold è la versione povera di quella di Stone Cold esatto a sto punto l'ha personalizzato cioè ci è stato investito da Roman Reigns ci ha fatto la rincorsa ieri sera allo stadio l'altro ieri l'altro ieri e ora ci entra ormai è sua dai datele va entra solito la vipera ora Randy entra su una vipera dai esatto su un pitone lo va a prendere lo va a prendere Marcia lo va a prendere forse sì lo va a prendere lui come a Smackdown dai fanno come a Smackdown chi sta hanno fatto la stessa roba a Smackdown dai monta su li dice però posso dire che non ha fatto una buona manovra perché comunque non ci si mette in quella posizione per fare retromarcia sì e poi infatti quando ha dato Cass era andato in avanti non aveva messo ancora la retro entra a stile è un piano è un po' chiaro tutto bello perché non ci voglia ad ascoltare il match preferisci arrivare in colume tutto bello perché ora arrivano come amici ma poi every man for himself esatto poi te le devi dare vediamo se sarà con rispetto o se ci sarà qualcuno che tradirà l'altro ma sicuro prima regola ho l'impressione che duri poco la tregua ragazzi la prima regola del wrestling è non fidarsi di Kevin Owens e di Randy Orton comunque in Germania due vestiti in stile diciamo Bray Wyatt nella family sì posso dire che dopo il cammello con Riddle niente batterà mai il cammello con Riddle mamma mia quante finisher qui per me vediamo cinque finisher più finisher un capriole di Bianca Peller l'altra sera no per l'arriere ha fatto due capriole di un tanto è stato anche bravo dopo questo mi aspetto il tradimento di Randy può essere Emanuele può essere che c'è il tradimento di Randy Randy Orton tradisce pure suo padre tanto Logan Paul scappa Logan Paul dice ma voglio vedere che fate rimangono sul ring Kevin Owens e Randy Orton allora ragazzi l'uomo prime cosa gli passerà a Logan Paul scelterapugni non si picchiano decidono di andare a attaccare Logan Paul quindi per ora collaborazione totale Logan ha provato a mettergli uno faccia a faccia all'altro per ora non ha funzionato l'odio nei suoi confronti più grande sì mi aspetto di vedere sbucare Jake Paul da dentro il costume dell'uomo prime e poi Mike Tyson a risolvere tutto esatto beh dai è il sogno di tutti vedere una auto archeio Logan Paul finisce già sul tavolo dei commentatori Kevin Owens ha chiesto anche la utilizzazione per farlo ha chiesto il permesso sono molto educato gli dà anche i consigli per come realizzarla meglio ora gli fa vedere buttano via tutte le bottigliette liberano il carrello terza manovra sopra il tavolo che per ora non si rompa rendi la favolare sì ma rendi più t'altro gli ha mostrato come si fa cioè gli ha detto ora si fa così in quarta vediamo vediamo cosa fanno si libera però Logan Paul e uh Kevin Owens sbatte da Seren D'Orton D'Orton ci ha creduto tranquillamente eh sì ma l'ha visto l'ho visto l'ho visto le amicizie di una volta chi dei due diventerà Shawn Michaels beh allora chi fa il super Kevin Owens quindi ricordi continuo l'accordo tra i due Randy Orton solleva per i capelli Logan Paul lancia verso le corde gomitata sento di Kevin Owens schieramento ecco il problema ecco un problema chi lo schiana si guardano eh ma lo problema il che si fa a Randy dice vabbè Randy dice continuiamo a dargliele poi si guarda uh 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 la libera prova anche io Kevin Owens però resiste rimane in piedi e ora Kevin Owens dice oh ma davvero me la voglio di fare allora Kevin Randy dice eh Kevin eh io sono la vipera perché io me si dice vabbè allora vabbè e parte la rissa parte la rissa parte la rissa in maniera concordata tra l'altro sì sì vogliamo picchiarci picchiamoci dai picchiamoci allora senza tradirci è un match di rispetto doppia clozza oh Logan Paul con rispetto con rispetto e Logan Paul ci mette il punto esclamativo rispetto ecco il punto esclamativo posso dire che sta manovra la fa meglio di Angman a tampeggio comunque la fa bene la fa meglio di a tampeggio sì beh anche Panca in novellito non l'ha fatta male Logan Paul ha messo in terra tutti e due in simula imita Randy Orton sì ha fatto la mossa di Randy Orton quando sta sul paletto pubblico è diviso tra il non ti fare Logan Paul e il fischiare Logan Paul al pubblico gli va bene chiunque tranne Logan Paul sì c'è stato un bell'insulto nel mentre sì l'hanno bippato cioè l'hanno punta Randy oh va a segno su Randy occhio dietro Logan super kick è preso piano super kick di Kevin Owens preso piano Logan Paul che si accaccia proprio dove c'è Randy Orton può fare la cannonball doppia infatti fa doppio socket cannonball su entrambi la segna su tutti e due principalmente Logan allora Kevin può volare faccio che qui c'è l'arcaio è sicuro facile proprio alza le ginocchia Logan Swanton Bomb parata da Logan Paul Logan Paul si alza attenzione Randy Orton lì dietro occhio Logan se faceva l'arcaio all'area di guarda mio di matrix a segno e splash 1 schienamento sul Randy Orton 2 e mezzo avanti blocco un po' i secondi ora va a schienare anche Kevin Owens ma è un 1 2 2 2 cortissimo non spoilerate in chat non vincete niente se scrivete se scrivete no ragazzi non scrivete niente in chat sul match aspettate che l'abbiamo dichiarato noi se no rovinate il match a chi magari sta seguendo proprio dalla chat find sono avanti metto pausa un paio secondi non lo so cioè se se vado in cronaca io e a te non ti disturba non è un problema no 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 se sto io sto davanti forse che in punto sei ora european uppercut di randy horton european uppercut di logan po di uppercut non so dove sei ma chi è sesaro sto per dirlo io come sesaro logan po la la meglio si randy horton cade in ginocchio si pulisce l'occhio magari dal sudore sfida al pubblico con l'orecchio come dire dai dai forza fischiatemi fischiatemi ora attenzione perché siamo a doppio incrocio cioè randy horton oh colpo nelle occhi di randy horton va a colpire gli occhi di logan po e lo butta fuori dal ring attenzione perché c'è cavinoves dietro cavinoves attacca randy horton lo lancia le corde si va a correre close line di rimbalzo però di randy horton ancora close line di randy horton prova che vi non vengono a reagire scoop slam di randy horton fa danzare i pettorali randy si comunque regali tanti randy horton la staccia così eh ciao e se perché randy sembra si prepara per la silvers punti di t si arriva a ball e colpisce randy horton attenzione perché logan può volare anche lui caduto male scoop slam comunque di randy horton vuole provare una baccia non mi è piaciuta questa scoop slam no è perché è accaduto male Logan Paul si secondo me ha perso l'attimo per quel rimbalzo lì ora prova la silverspool su Logan Paul probabilmente anche sul cavinoves vediamo se la prepara doppia si la prepara doppia silverspool a 29 anni ops assegno doppia silverspool dtt e ora devi chiamare l'archeio ragazzi ora devi chiamare l'archeio è pronto randy tutti in piedi tutti in piedi chi se la becca chi se la becca è il primo che si alza però punta Logan punta Logan Paul ma si alza però si alza prima che io si alzano insieme no va su Logan Paul super kick di Kevin Owens super kick anche su Logan Paul attenzione Kevin Owens specie di un codebreaker con caduta su Logan Paul si alla fine va a schienare Logan Paul ma è un 2 molto carino grosso segno delle corde sul corpo di Logan Paul proprio una strisciata terza corda Kevin Owens va a volare si arrampica sul paletto però arriva Andy destrone Logan e Kevin Owens deve accopacciarsi lì tanto Logan Paul ha modo di prendersi sopra il paletto la seconda corda Randy ma arriva anche Logan Paul che probabilmente la proiezione a 3 con power di Logan Paul e superplex di Kevin Owens vediamo se viene la catena per ora Kevin rende a pugni entrambi e Randy sembra uscirne meglio di tutti però c'è Kevin Owens testata sul Randy Orton ancora testata sul Randy Orton anche Randy cade giù l'unico sul paletto rimasto è Kevin Owens però arriva Logan Paul destro e ora è Logan Paul a salire sulla terza corda si carica Kevin Owens per un superplex reversa che reversa tutto forse prova lui risale prova lui andare a chiudere moonsault di Kevin Owens assegno il moonsault secondo schienamento 1 2 2 2 e mezzo ma vedete che ben riuscita quella che era una Fisherman di dirti venuta male no secondo me era quasi una sorta di vicino con driver io pensavo fosse una Fisherman venuta male si diciamo non è stata pulitissima come manovra perché io ho evitato la culla culla 1 2 2 prova la stunner no lo lancia pop up pop up bomba evitata da Randy Orton stunner la culla sta facendo anche io assegno Archeio si va allo schienamento c'è Logan 2 2 Kevin Owens esce da solo all'Archeio senza l'aiuto di nessuno Kevin Owens esce dall'Archeio 2 e mezzo bello bel match si Kevin Owens è trovato da fuori intanto Randy Orton mani nei capelli dice ma davvero ha fatto la migliore mossa che potevo fare ma è uscito a 2 e mezzo che oggi sfugge ha i capelli nel frattempo lo ha fatto roba eh lo può usare tutto legittimo pronto a colpire Randy si alza lo percepisce si gira chi vato evitato il colpo prova l'Archeio no glielo ruba glielo ruba prova a rubare il tirapugni ma viene no no se lo tiene ancora Logan Paul colpito Randy Orton dal tirapugni e ora Logan può chiudere va allo schieramento 1 2 2 e mezzo si salva Randy Orton manca solo la standard abbiamo visto il tirapugni abbiamo visto l'Archeio l'Archeio si manca solo la standard più eventuali altri la prima volta che viene chiccato il il destro col tirapugni si con tirapugni secondo me non Kevin Owens anche alla Rumble con tirapugni ma lì lì glielo ruba se non sbaglio tirapugni ancora su Kevin Owens doppio colpo con il tirapugni prende due pugni un impancio Kevin Owens per me è fuori ragazzi si secondo me pure lotta a due questo doppio tirapugni e ora si va su Randy Orton poi mi sa stappare l'Archeio da far paura lo tira su gli urla qualcosa in faccia ed è scala Archeio di Randy Orton può chiudere ora Randy ma non ha la forza per coprirlo Randy non ha la forza per coprirlo era in modalità sopravvivenza è istinto puro Kevin Owens allora Kevin Owens è fuori combattimento al momento si in questo momento Randy può ancora provare a schienare volendo ci va forse si ci va ci va ci va però no va a togliere il tirapugni va a togliere il tirapugni glielo toglie vediamo cosa fa dice se dobbiamo giocare così giochiamo così Randy al tirapugni no incredibile lo consegna Randy vuol vincere pulito uh calcio leggendario prepara il calcio leggendario ragazzi punt kick prepara il calcio leggendario ragazzi parte Randy parte Randy arriva la bibita però arriva la bibita Lomino Prime tira fuori Paul dal ring la bibita porta fuori Logan e vale tutto chi è? toglie il viso toglie la masca ah sempre lui no hai spinta mamma hai show speed come cacchio si chiama vabbè ci sto se lo capisco match senza squalifica lo posso capire match senza squalifica lo accetto ora finisce malissimo lui secondo me ah lui subì l'archeiosa non è stavamo dicendo ha resistito anche alla mossa più potente di occhio a questo punto rientra in gioco pure Kevin Owens perché si perde parecchio tempo sì 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 diciamo che ha il suo speed non sa che farà arrabbiare Randy Orton è la peggior scelta che si possa fare gli togli la bibita di dos quindi lo lascia senza no io volevo l'archeio sulla bibita anch'io anch'io lo mette sul tavolo dove mettere i meme che abbiamo visto archeio fatti sugli squali cioè i meme hanno fatto di tutto fai un archeio su una bottiglia attenzione perché qui si va l'archeio sulla ex bottiglietta sul tavolo dei commentatori li fa il verso archeio il tavolo non si rompe no forse ti fai anche più male quando è così sì quando non si rompe è peggio ti rendi arrabbiato fatte me il caffè impazzito vai occhio arriva la ponte dietro lo lancio anche da noi sono bippate Logan Paul ha preso il vantaggio da tutta sta situazione perché si è però che io si sta rialzando Kevin Owens si sta rialzando Logan Paul dal paletto vola con la frog splash a vuoto Randy Orton evitato a segno e Stunner su Orton può chiudere uno due si salva Orton bello bello comunque bello bello sì sì mi fa troppo ridere l'homo in vita disintegrato e ora la cosa bella è che ora tutti e tre praticamente hanno le stesse possibilità sì è un 33 si è rialzerato tutto ecco ora se vedo uno fuori dal match è quello della vivisa sì la vedo dura che rimetta rimetta al naso nel match difficile ok io provo a rialzare Randy tanto c'è un drone per Simon è un drone facitato Randy e Kevin Owens si si tira la pop up prepara qualcosa Kevin Owens si prepara quella ma è stata bellissima bellissima di Randy Orton occhio dietro però occhio dietro reversa Randy Orton però silvers.dtt forse no lanciato sul rimpost colpisce il rimpost Logan Paul può chiudere con lo splash assegno lo splash su Kevin Owens conto uno due tre non può mantiene peccato wow bello bello peccato peccato per non me lo aspettavo come risultati e ora vediamo che avevo fatto avevo fatto Logan Paul che però schienava Randy Orton peccato bello bello non mi aspettavo neanche mi sorprende sia il risultato che il match è stato bello io posso dire una cosa che sono contento del risultato perché almeno puoi costruire magari una gelosia tra loro due tra Kevin Owens e Sammy Dane con uno che ce l'ha fatta e l'altro no visto che c'è il draft tra un mese anche se il semi contro Kevin Owens l'abbiamo visto già in tutte le salse vabbè sei quanti match hai già visto in tutte le salse però sarebbe sì 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 una possibile una possibile storia ecco mi assento due minuti ragazzi tanto replay ci fanno vedere anche io e tutte le robe varie bel match dai bravo con le rotule bravo vi vado a evidenziare e ora arriva il match di Finde qui io le devo soffrire e poi Finde siamo anche tifosi di Io quindi caschiamo sempre bene però a sto giro però lo sai io vado no 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 ma sono con te sono con te direi che la media è abbondantemente tra il 4 e mezzo e il 5 nei voti quindi ora c'è un 1 per il finale ma comunque tantissimi 5 addirittura qualche 6 quindi tantissime 4 spiegate a Simon perché date 6 i rotule 6 all'eccesso di Menzer Menzer no io per esempio ecco per me le 6 rotule non possono esistere però a me a me il match mi ha piaciuto ma divertito è da 7 e mezzo si 3 rotule 75 ce stanno tutte si si per un attimo per un attimo per un attimo credevo facessero un paper view a Roma sai che una news così sarebbe pazzesca invece annunciato avreste mea che vorrebbe dire Giovanni vinci campione chiaramente per la logica di Braghias che vorrebbe trovare un pelo nell'uovo ulteriore ecco 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 guarda come viene guarda ecco ma poi ragazzi ma perché si dice pelo nell'uovo e non ragazzi guarda official clock l'unico posto dove in Italia si può fare un paper view secondo me è l'Alliance Stadium Audi no cosa da Juve ah ok realisticamente parlando perché lo stadio lo stadio di Roma fa schifo lo stadio di Milano è bello perché però non è a quei livelli l'Alliance Stadium da quello che so da quello che vedo nelle partite della Juve mi sembra di livello si però diciamo che è un pochino più piccolo di capienza eh si sono 20-30 mila persone pochino ragazzi l'arena di Perona è tipo un palazzetto sono testo ragazzi chi ha seguito i nostri guarda un anno a questa parte sa quanto abbiamo seguito sta storia e quanto io ho aspettato sto match anche quando sembrava lontanissimo quindi a questo punto divento tifoso faccio un po' alla rovescia di Parrucco prima che era il meme contro Carriam Cross io qui sarò andrò in cronaca da tifoso quindi perdonate magari chi è per Io Sky ma qui la storia e sono anch'io un fan di Io Sky però qui la storia ripeto chi ha seguito i barri in questo anno sa quanto l'abbiamo cavalcata dai quindi vediamo bad partite comunque ragazzi gli stati italiani fanno tutti schifo tranne veramente l'Allianz Stadium e pochi altri quindi cioè di che vogliamo parlare non abbiamo gli impianti ma pure il Mediolanum Forum Paladottomatica guardate che stiamo a parlare vogliamo metterli con gli stati gli stati di palazzetti americani dai siamo pronti per partire con la Pamela section dai 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 ho un po' paura perché io non non so se cioè le damage control probabilmente proveranno a fare qualcosa non credo che sarà io contro Bailey e basta quindi potrebbe esserci della confusione d'intorno e il fatto che il prossimo premio la vivente sia Backlash che si presta a rivincite mi fa dare una finestra comunque alla possibilità che gli oscari possano mantenere e magari Bailey può vincerla Backlash però per ovvi motivi la scrittura vorrebbe far chiudere il cerchio a Bailey qui poi l'eventuale rivincita a Backlash farla confermare campionista però vediamo vediamo è molto aperto io credo che a livello di performance possa uscire un gran bel match che sono due super esperti l'abbiamo sempre detto due che insomma i main event ormai li hanno fatti in ogni salsa si adattano un po' tutti gli stili quindi però a questo giro parere proprio da tifoso frega nulla del match fatemi vince Pamela dai Pamela Anderson ovviamente non non c'entra niente il problema è quello esattamente che è una burocrazia molto lunga in Italia quindi costruire delle strutture come uno stadio in piega del tempo cioè a Roma la questione stadio va avanti da Marino mi sa era sindaco Marino prima ancora della Raggi cioè e sì e gli ultimi volte come dici giustamente gli ultimi ultimi hanno fatto gli stadi di massa era con i soldi di Italia 90 cioè l'Olimpico ha una struttura di base che è degli anni 60 ok cioè non puoi andare a vedere una partita di calcio con la pista atletica in mezzo non puoi per non parlare poi del Maradona che è un stadio bellissimo col pubblico caldissimo però è una struttura comunque fatiscente purtroppo chi è? chi è? uh Bailey bello con i capelli lunghi sciolti capello lungo sciolto Ali portata come una una cleopatra a temegizio a temegizio a temegizio tipo una sorta di cleopatra mi è andata sì i quattro i quattro che la sorreggono una maschera di Yanubi ma ero bellissimo incredibile fantastico chi sarà tra questi il nuovo il prossimo e rientra con la musica di role model remixata remixata comunque Ciro Ciro tu ci scherzi ci crede belli ragazzi ci crede Ciro avevo un mio caro amico che vi ha vissuto lungamente ad Eboli e stava su una collinetta e da lì vedevo il palasport di Battipaglia che è una struttura bellissima dentro non ci sono mai stato però da fuori era stupendo e cos'hai qua che hai riportito Belli carica a mille palazzietto l'arena lo stadio in questo momento è tutto in piedi cosa avete fatto con le bet siete tutti i suoi belli se dovessi vincere io Sky si fanno vincere dei bei punti canale se dovessi vincere io Sky tutti in piedi che applaudono Belli è attesa alla prova definitiva direi della carriera forse io amici vi aggiorno un attimino intanto su come siamo messi siamo ancora in più di 250 un grazie mille a tutti se ci seguite dal dal social rosso mi raccomando un like è importantissimo a voi non cambia nulla per noi vuol dire veramente tanto poi se avete la possibilità ovviamente di sostenerci o con una super chat o con un abbonamento ve ne saremo molto grati solo però mi raccomando se siete maggiorenni qui su Twitch invece l'abbonamento è gratuito se avete Amazon Prime se non avete lasciato il follow lasciatelo per rimanere sempre aggiornati sulle nostre live e attualmente siamo a 103 su 150 per il prossimo finito l'ingresso arrivano le damage control vediamo se arriva io sola entra con la sua musica gli ultimi due match ragazzi due titoli massimi negli ultimi due match dopo abbiamo il man event arriva YoSky si presenta sullo stage tutto colorato di bianco blu e si con i classici colori anche di YoSky dietro un po' di fucsia un po' di viola un po' di giallo un po' di tutto YoSky arriva con le altre YoSky arriva con le altre tutte le damage control si presentano ma come ballano? mamma mia ridicola cari serine ma che è? ha fatto per errore le emoji di Fortnite mi è partito il pollice beh a sto punto non a sto punto devono arrivare anche le face esatto le tre face io spero che non arrivino subito anch'io voglio no ma non stanno seguendo io non stanno seguendo io sono andate via le altre sono andate via? mi sembra di sì quindi si fanno solo vedere come minaccia come dire se succede qualcosa c'è da fare conti anche con noi cosa che faranno anche le face ovviamente sappiamo che questo match è sicuramente probabile di contorni YoSky io direi buon regno il suo soprattutto nell'ottato anche nei prom è stata bravissima poi il microfono è eccezionale no è promo un po' meno però c'era da quota c'era una storia già scritta quindi è uscita abbastanza bene Samantha Irwin qualcosa il vestito di il vestito di Bailey però non mi riesco a capire che cosa potrebbe essere il vecchio attire che aveva quando i colori di un vecchio suo attire quando vince una cintura o qualcosa può essere magari di un'altra tonalità però perché questo è parecchio cioè di una tonalità scusa tessuto un tessuto un po' diverso sono curioso credo che vado a dare un occhio che sono curioso di una cosa scusatemi un attimo perché io mi ricordo quel vestito lì di Bailey in una cosa speciale i colori sono quelli sì però mi sa che la prima volta che si presenta comunque il ringattare bellissimo sì anche i capelli tutto lo stadio che canta Bailey 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 lo avevamo annunciato è questa cosa probabilmente sarà una delle più tifate di questa prima butto tale per io Sky ovviamente che brava bravissima lei molto brava molto brava il ring secondo me una delle migliori io ora pretendo che Giulia debuti a certo punto faccia lui così faccia l'idola americana trisca a Tony D lei bisogna alzare il titolo ci siamo se queste ragazze fanno un bel match secondo me con questa arena può anche fuori qualcosa di 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 parte sì sì qualcuno può abbassare il volume il volume lega che scusami però mi sento il ritorno probabilmente mi sono mi sono sbagliato su che no sul fatto che il costume di Bailey mi ricordava qualcosa di un suo precedente match magari importante ma non sei l'unico pur a me i colori ma no anche a me guarda i colori sono similissimi ad un altro match però non riesco a capire uguale no c'è ragione Timpo sembra Nicky Esce è partito il coro ragazzi è partito il coro quello classico che fanno a Bailey sulla canzone quella oh Bailey esatto quello lì sta cantando tipo 70.000 persone sta cantando sta cantando sta cortengol no è scaricamento a pump handle scambio per ora sulla forza quasi di nervoso tra le due sono già fuori dal ring ora Bailey viene riportata sopra dagli Oskay Oskay sale sull'epron attraversa le corde torna dentro provo la close line Bailey si corre Oskay sulle corde una sorta di provo una comitata in ruota Bailey si sposta ma poi prende un drop kick urlaccio di che ora prova probabilmente un suicide dive presa al volo da Bailey Bailey sorta di DDT attraverso le corde e può finire sull'epron ora Bailey forse vola si parte corre dalla parte opposta suicide dive di Bailey assegno Bailey accenna un dolore al ginocchio destro Joskay adesso riportata sul ring prova lo schienamento Bailey un po' presto due scarso Bailey sta iniziando a zoppicare Bailey probabilmente ci vogliono raccontare qualcosa da segno Bailey rotola fuori anche lei siamo di nuovo fuori dal ring Bailey prova a correre gira ring post prova un drop kick attraverso corde e paletto attenzione perché Joskay va a colpire la gamba di Bailey sul ring post quindi colpita male inizia a essere una narrativa quella delle gambe di Bailey e ora Joskay va a fare una leva attraverso le corde giù fino a sotto il ring o l'arbit ovviamente a 5 deve farla smettere però il danno è procurato tutto il stile bread art questa tecnica sì sì e ora Bailey zoppica ancora di più la gamba di Bailey è stata presa subito dall'inizio di mira da Joskay Bailey messa all'angolo corre Joskay Bailey si para con con il piede mettendo davanti evita ancora ma Joskay para il colpo e ora mette Bailey in condizione di subire un leg sweep praticamente con l'appoggio sulla corda e le gambe di Bailey qui continuano a essere sotto pressione se l'è bloccata ancora la gamba è presa a calcio nella zona del ginocchio quindi ce l'è l'ansia eh no ha preso una piega particolare questo match pensavo andassero più sul volatile invece sono andati sull'arto l'arto nell'ossio eh sì esatto comunque raga c'è lo schiamento Joskay esce Bailey è impressionante la lucidavo così ma Joskay è pazzesca Joskay parlasse l'inglese tanto ancora il coro che dicevamo prima per Bailey Bailey qui furbescamente fa cadere Joskay di faccia sull'epron siamo di nuovo all'esterno destro di Joskay questo è creso per russa raga è in piedi è sveglio oh io Sky scaramentata oltre la varicata fuori ma ho notato un velo nel luogo quale dopo ogni match un uomo assisteva sempre il carrella del prime che palle buon mamma buon mamma ne ha fatto una una reversata sì la reversata ha fatto la Belly to Bailey come si chiama esatto Belly reversa il tuffo di Joskay praticamente in Belly to Bailey sì in Belly to Bailey che botta sul pavimento adesso Belly prova a schienare due e mezzo siamo tornati sul ring Belly adesso in piedi ginocchiata su Joskay continua a zoppicare però Belly adesso all'angolo Joskay presa a sbracciate da Belly adesso colpe sulla nuca Joskay ora in difficoltà la reazione di Belly che comunque continua a zoppicare prova una oh sidewalk in tornato di Belly assegno comunque due e mezzo Finde come sta partenza che dici secondo me siamo ancora neanche a prende il match è un match lungo è un match lungo penso di sì penso di sì spero penso sia un match si arriverà alla fase intensa solita tra un po' oh dita negli occhi di Joskay dita negli occhi però in testa qua si oh mamma oh mamma drop kick dalla terza corda che fa cadere Belly fuori e ora Joskay sale sul paletto può fare una proiezione direttamente sull'esterno probabilmente un Munzolt va sopra il ring post praticamente Munzolt eh penso di sì Munzolt di Joskay assegno su su Belly all'esterno Joskay esulta forte bella bella sta cambianessa dominante sì c'è ancora il coro ancora che va avanti eh non si è mai fermato si è mai fermato come io non si è mai fermato davvero allora provano entrambi una prova di Belly to back ma si girano tre volte per una riversando e rireversando Belly ancora dolore alla gamba prova Belly un sunset flip assegno che fa fine Joskay sul tarbaco con la nuca io io è già in piedi perché Belly oh small package oh mamma mia due tre quarti di Belly provato di rapina con una culla improvvisa ancora dolore alla gamba per Belly quanto faccio caso ora Belly ha capelli blu ho visto buongiorno eh occhietti da voi cioè mezzi blu e mezzi viola siamo sull'epron con Joskay con la testa praticamente fra seconda e terza corda però adesso blocca Belly che viene riportata di peso nel mezzo al ring probabilmente prova un Belly to back sì a segno con tanto di ponte quindi schienamento ma io decido di fargiene un altro però oh glielo fa mamma mia una due e mezzo forte eh Belly regala come ha detto i capelli stasera mi ricorda un po' come li tingeva Sasha Banks sì quel blu lì somiglia un po' proprio a quel tipo lì magari l'ha fatto apposta sono amico magari ritorna esatto beh guarda attenzione attenzione che Joskay è pronta per il Muzzult la sua mossa migliore parato con la gamba con la gamba ma è rendersi guarda ma è rendersi secondo me è proprio il contrario cioè lo canta una squarciagona perché sostiene Belly c'è un canto per incitare Belly questo si è il suo coro ormai da anni quando è il momento in cui di farla le farà questo Clash of the Castle fu camoroso comunque Belly ha sacrificato la sua gamba per parare il Muzzult adesso si arrampica lei molto con difficoltà elbow drop no presa girata cross face di Oskai cross face cross face di Oskai Belly imprigionata siamo sul logo di Prime lontanissima pulla 1 2 mamma mia la reversata in pulla e Belly si libera può correre Belly pur essendo praticamente zoppa perché con una gamba che funziona alla metà reversata di nuovo a cross face cross face di Oskai è ancora in mezzo al ring lontanissimi alle corde comunque è una bestia di Oskai è un bello scambio questo questo è un bello scambio ragazzi cross face ancora imprigionata Belly che prova con le gambe a ruoteare il corpo per arrivare alle corde forse con un piede ora può arrivarci no ma Oskai la riporta in mezzo e va STF STF di Oskai STF di nuovo sul logo di Prime quindi in totale in mezzo al ring lontanissimi dalle corde Belly però riesce a infilare le mani attraverso la leva gomitata forse si libera gomitata ancora su Oskai la libera si libera Belly si libera Belly Oskai però è già in piedi Belly zoppica Belly to Belly si assegno assegno con la mossa quando era buona con la mossa di quando era buona due e mezzo bello bello mamma questi ragazzi bravi bravi e ora Belly deve inventarsi anche qualcos'altro comunque continua a camminare male intanto gli Oskai si avvinghia all'attire di Belly per non farsi fare sta proiezione si urlano in faccia destro di Oskai sono urlate in faccia tutta la rabbia di me si hanno accumulato e ora gli Oskai ride risata sadica di Oskai ma schiaffone di Belly che gli dici non mi ridere in faccia io ho creato tutto questo schiaffone ancora di Oskai schiaffone schiaffone di Belly no destro destra la raffica di pugni di Belly gli Oskai ora Belly ancora no improvvisa uno due e mezzo si salva ancora attenzione pedigree no tiger feet kick no tiger feet kick mamma mia assegno lo spesso a schiena con posizione da volante attenzione Munzolt di Oskai se va a segno è finita ragazzi Munzolt assegno è finita signori uno due due e mezzo kick wow che match ragazzi non ci credo neanche io Sky pubblico esulta incredibile dai dai famela ora il core è bene ci vedo molto del Gunther Semi come sì e ora io Sky perdo la pazienza delle buone maniere sending Munzolt e ora va a provare oh mamma mia Munzolt ancora stavolta dà la seconda corda e ora prova al finale di nuovo se chiude con questa è veramente finita sì si sposta Bailey a vuoto soppica Bailey soppica Rose Plant vado in piedi io no mai vista sta roba questa è una magia questa è una magia totale ma 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 brazzo teso mamma mia mai vista sta roba ragazzi guardate come è uscita dalla Rose Plant di io Sky riguardata con gli allies ragazzi perché incredibile andranno in replay ragazzi una roba il pubblico è totalmente in piedi in sto stadio e ora Bailey può provare Bailey tu no Sayido Suplex sì Sayido Suplex e ora va lei sul paletto prova l'Albodrop sì prova il Flying Albodrop sulla terza se la prende e chiude tutti in piedi assegno chiudila chiudila Bailey no non la chiude secondo me la può chiudere Rose Plant Rose Plant assegno assegno stavolta è chiusa Bailey craniata stavolta è chiusa Bailey uno due mamma finito mamma ballo 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 nuova campionessa di Smackdown ballo ottimo ottimo match veramente buono buono posso dire che me lo aspettavo bello ma non così bello regala per me l'highlights del match però il reverse sulla Rose Plant c'è una cosa che incredibile ma poi come l'ha preso gli ha dato una craniata gli ha dato si è piantata in verticale bravissima stellare bravissima brava e la vincitrice del Ryan Rumble ha vinto vediamo se ce la farà il vincitore della Ryan Rumble io voglio vedere quel replay ragazzi sì quel salvataggio lì quella uscita lì prima è stata mi ha fatto vedere il moonsault eccola qui eccola qui ma no no questa è di gomma questa ragazza è di gomma come cavolo ha fatto che poi non ha neanche angolo gli ha fatto forza e poi si è rialzata sì però se guardi bene non ha tanto angolo per fare quella mano cioè vero no secondo me una flessibilità clamorosa ma secondo me semplicemente ha fatto che la proietta punta le mani quella forza che c'hai e ti ha arrivato le gambe esatto ti dà un colpo di reni e si rigira esatto è una pesta tra l'altro guarda come vende anche l'ultimo rose plant ragazzi bello cioè lo vende non bene di più cioè cade proprio quasi perpendicolare è come è come rubber cappello di paglia Giosky no ma come si chiama ruffi o ruffi non ruffi gran pubblico anche ragazzi pubblico è alle stelle questo quattro rotule non gli voleva nessuno ma anche di più no io ne do di più no io mi sincero sincero mi è piaciuto tantissimo anche Ria contro Becky per me questo è meglio assolutamente questo era una storia anche migliore dietro no sì ma anche solo nell'ottato cioè ma rispetto a quale bello ah sì ma agile europeo comunque posso dire dei mezzi controllo comunque posso dire che questo setup è veramente figo sì lo andiamo a scombinare intanto leggo le rotule della chat io sono veramente veramente contentissimo allora vado a leggere intanto le rotule della chat tanto passeranno delle ore prima che allora parto dall'inizio Anthony quattro rotule e mezzo CPT Raffone cinque rotule Andrea Lanza quattro rotule Wolfissimo 5 il Mastino 375 Alfonso 5 Sixthunder 2 Edinceco 5 Simone a 6 Guardino 5 Lollo 4 Francesco 2 4 3 Wolfissimo l'ho già detto Darkstark 4 Dario 5 Smith 3 e mezzo Geso 5 Asia 4 Ale 86 Zandler 3 e mezzo Anthony 4 e mezzo Svitellone 5 Dadov 5 Shadow 4 e mezzo Fabio Vargio 4 Writer 5 Emanuele match da mille rotule Monkey 5 questo l'avevo già letto questo ragazzo Corvo Raffaello 5 Malvo 5 Fabio Ski Dragon 5 Bandersorio 4 Black Fox 4 Bely 5 Rotule Gabbo 5 e poi dovrei aver letto tutto anche Oruam 5 Rotule dovrei aver letto tutto mamma mia io ero di parte lo sapete ragazzi super coinvolto però non pensavo così forse ha detto bene Rhapsody pensavo bello l'ho sempre detto mi ero giocato anche lo slot come show stile però questo è uscito veramente bello veramente bello e tanto merito anche io Sky tanto merito anche io Sky ragazzi ci siamo ragazzi ci siamo io 4 e mezzo sì sì 4 e mezzo confermo non da affanni do 4 e 75 da affanni do 5 ragazzi vi do 10 minuti per questo sondaggio quindi pensateci bene è il main event quindi avete 10 minuti di tempo per per scommettere i vostri punti canali e qui si fa la storia l'attesa di un anno sta arrivando 1 1 è una vita è una vita beh dal 39 alla 40 è un anno ma per 3 anni e mezzo che Roman è campione trova l'intruso trova l'intruso raga chi è sta cosa? cosa è l'acqua? Snoop Dogg Snoop Dogg Snoop non ti muovi benissimo dai no ma trova l'intruso tra i cheerleader cos'è l'intruso? sì c'è un ragazzo oh ok l'ho visto no pensavo ci fossero tipo una breast torno subito torno è un breast è l'acquilotto adesso esce un breast che so Shane McMahon Snoop Dogg mo vi dico una cosa simpatica non c'entra un cazzo con tutto ciò niente perché Snoop Dogg manca a dirci è del posto Snoop Dogg è di Los Angeles cioè è di tutta altra parte dell'universo Gesù 40 bit dopo questo bellissimo match godiamoci il benevento speriamo che vinca Cody finalmente vincone finalmente Simon chi è il tuo rapper americano preferito io sto amando post Travis ah beh io allora su Travis sono molto biased perché l'ho visto quest'estate a Circo Massimo regà un'esperienza però boh allora per come rappa per come rappa e se ne va non lo sapremo mai non lo sapremo mai 5.000 su Cody punti Francesco avevi detto 10.000 stai già a tirare indietro aspetta che ti inquadro un po' più grande ci sono ancora loro per come rappa Kendrick Lamar c'ho il vinile di Tumimi for Butterfly mi stava pure a uscire però poi in generale come artista è abbastanza controverso lo dico Kanye Kanye West prima è un genio però bruciato completamente bruciato il cervello se state mettendolo a caso su questi punti canale qui mi gioco la doppia chance si può? no no una voce e una nella bella ma che è la schedina Rhapsody eh questa è deformazione professionale mi gioco mi gioco la doppia chance 1-3 in J.F. Stone Cold arriva vabbè davvero perché scusa e perché che mestiere fai di si broker hai un centro scommesse? si io non posso scommettere mannaggia ma 10 punti sono no contest questo si finisce il no contest ma ma William Bucks qua è troppo storia cioè non succede hanno mandato William Bucks si 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 dai un piangino un po' due lacrime Cody dai è un crybaby è un crybaby mamma mia c'è qualcuno che è stato la parte di Roman adesso tu ieri sera stavi in conflitto di interessi chi ti favi? io sto dalla parte di Roman ma sono convinto che vince Cody no no parru devi devi switchare Rapsodicom e allora vai dai via dai Abra ieri sera stavi in conflitto di interessi chi ti favi al Menevent? io ma parlai a me ma no in realtà di con verità ti favo loro perché mi sarebbe piaciuto vedere Bloodline Rules un po' di macello un po' di gente però vabbè al di là del tifo per me è impossibile M.G.F. pazzesco sarebbe però è il suo rivale è il rivale di Rocks cioè se Rock non turna face ci sta cioè solo per rifiutare di una stunner non per favorire cioè non non la fa Roman la fa Rock no affo quello lì era una cosa particolare perché è un cross qui qui siamo in Menevent dai sì sì qui questo è il Menevent non si scherza non via i meme via tutto cioè qui qui si guarda la storia esatto allora io sincero ieri sera sono come bra pensavo ero schierato totalmente dalla parte della Bloodline perché volevo che fosse Bloodline Rules cioè non aveva senso tutto questo proclamo e poi non fare Bloodline Rules anche se poi lo sarebbe potuto diventare lo stesso in maniera illegittima però preferisco che sia sancito ora però io sono sincero sono per Cody perché voglio il doppio resta in Menevent voglio finire la storia e voglio vedere Roman che perde ma non perché Roman merita di perdere ma perché è un momento storico che ha tre anni e mezzo cioè si cambia tutti gli scenari se Roman perde abbiamo Cody che diventa campione che lì si apre una storia nuova deve difendere non più cercare il titolo storie nuove un nuovo Cody un nuovo mondo una nuova era inizia tutto da capo quindi io mi schiero da questa parte qui solo per questo la storia non è già fatta io rimango di un'idea io rimango di un'idea intanto chat per voi abbonati indice in su se siete dalla parte di Roman e teschio di Cody se siete dalla parte di Cody spammate un po' in chat perché voglio vedere un po' la chat com'è allineata io però voglio dire una cosa su te Rhapsody che hai detto su MJF che potrebbe arrivare giusto? giusto Rhapsody? sì sì però io ho paura che il pubblico se vede MJF possa dire è questo chi è? cioè non è no 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 dici di no? no no questa è una parrucca di film della serie non dire car cioè il senso è la più io non seguo io non seguo l'elite ma se dovesse arrivare MJF direi ok e quindi e con me e me ci saranno altre migliaia di persone sì ma calcola che intanto non sei in un'arena random di SmackDown ma se vuoi essere meglio all'età media è tipo di gente che super segue il wrestling in generale è un'arena molto diversa dal sole ho voluto solo mettere i trattini no 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 ma è legittimo è legittimo ma è super chiacchierato cioè ma poi ragazzi cioè se tu stai al wrestling è spesso tipo duemila dollari tremila dollari se non sei ammalato di wrestling regà non ci vai ma poi io ci andrei a Wrestlemania non tremila euro perché non li potrei spendere però se arriva in MJF io dico ok quindi cioè sì ma sei un ragazzi ci siamo eh vai ci siamo io mi muto che voglio sentire un attimo sì anch'io voglio sentire tutto mamma mia musica epica intanto di di Cody musica da fine del mondo wow stato della libertà tipo col teschio è il suo teschio è il suo teschio e c'è Brandy c'è Brandy Brandy Ross Brandy Ross con tanto di boata anche per lei è Brandy che li leva al teschio no wow e la figlia è il cane è vero è vero è vero il cane dov'è regà il cane vada alla figlia alla figlia è stato giusto ah questo già sta reagendo ancora prima di scendere ma t'ha polso dai ma non c'è tutto come ma un po' di storia la volete respirare oh no brava ma chi si può andare là in Ucrae Baby mi stava via niente mamma mia posso dire che non può perdere mai eh ma è ovvio ma è valese ma ci sta lo sto che canta ma c'è tempo dalla tazza e si asciuga vi faccio una domanda ma setta a sto punto quanto è utile quando può può essere utile la causa secondo me è stato ritato sette sette era era il terzo incomodo come quando esci con una coppia e ti porti dietro il terzo incomodo se questo è stato è stato sette hollins a roma si dice reggi il moccolo tra gli reggi il cero non mi veniva faccio il tifo per lui ci abbiamo troppo di più da fonda guadagnarci sono solito sì o vediamo nel trato di roma un po' wow fratino gadget da 7000 dollari esatto ci sono vedi che vendiamo vedi che ti recuperiamo il biglietto se stasera vince tu quella cintura te la vendi sai quanto vale vero cioè se stasera vince Codi arriva a Bologna col titolo massimo ma non vedo l'ora se non vince preparo già il cartellone l'entrata fa molto gioco a Romana però non ti si presenta a Bologna parru mi interessa va bene facciamo il cartello Codi Crybaby cosa fa cosa fa è risceso cosa va a fare vedi che c'è mamma la tuta a mamma e deve dare l'acqua al cane una storia pazzesca ragazzi una storia pazzesca vabbè ma you find sta in trance svegliatelo no io io mi godo momenti ripenso alle cose mi sta arrivato un WB faceva il dash in Codi Roads Stardust licenziato e cosa è vabbè raga praticamente find sta dicendo mentre voi dite se cagate io mi guardo il match sì ma sì sì ma sì ma sì io mi respiro l'atmosfera voi potete di che vi fare io la prendo sì cioè mi medesimo capito e immagino la storia sua e dico wow guarda dove è arrivato quando sembrava finito praticamente un po' come McIntyre anche lui sembrava finito a un certo punto con la dim song tanta roba sì l'ingresso sì ora voglio vedere cosa fa papà Roman a you Roman adesso Roman bloodline rules quindi dai no ma intendo dire di poco con Enrichisci afago se porto pure morte non pensavo fosse così caldo lì eh no sì fra quello poi cacciate cacciate che arriva arriva secondo me con tutte le isole Samoale che porta pure la buonanima di Ocozuna esatto cioè tipo il presente il carnevale che ha fatto set uguale ma sono tutti i samoani tutti i samoani esistono ci vuole un po' per stemperare il momento dai ragazzi al di là di tutto il tipo c'è c'è la tensione che si taglia col coltello l'anno scorso l'abbiamo vinta a noi quest'anno la facciamo vincere a noi esatto una volta per uno non si abbandona mai la nave non si abbandona mai ma no ma gli stanno ricando lo stage ma che si sa che andranno ancora buoni buoni ma gli hanno ricreato lo stage direi se è il 1039 ce la fate a star zitti 8 secondi mamma mia chi è? ma è lui mamma mia cioè il cugino sarà The Final Boss ma manco lui scherza mamma mia mamma mia però mi aspettavo qualcosa di ancora più maestuso questo quello dell'uovo te lo sposo no non sono d'accordo con te non sono d'accordo gli hanno ricreato lo stage di Wrestlemania 39 non ce l'hai fatto ma che pari c'era frase campionata tre anni e mezzo devi entrare come Triple H col trono la corona e le serve cioè tutte le samuane tutte le samuane dover fare questo posto lo sappiamo benissimo tutti che doveva essere di Tamina vero? sì ma quindi c'è adesso piccolo mio pelo nell'uovo cioè Bloodline Rules tu hai sentito che hai avuto l'opportunità di di offendermi in napoletano e non sei stato buono di farlo quindi cioè e al di là di tutto cioè dov'è The Rock? dov'è solo Sicoa? Bloodline Rules possono fare cosa li fare possono arrivare appunto cioè vieni no no calma calma parlo c'è Temp possono fare cosa vogliono cioè sono armi la batteria che può usare anche se è Trollies quindi per ora giocano a carti coperte ma cosa che la stanno suonando tutta in live questa sì la stanno suonando e cantando in live comunque va da Roma la storia l'ha fatta ragazzi ecco qua mette le mani avanti no 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 io mi sono schierato io mi sono schierato io sono per Cody perché a me piace il wrestling e per me se vince Cody cambia tutto un'aria fresca cambia tutto tutte prospettive nuove per me cambia tutto anche se vince Roman ma dai è rimasto parruppo come in giapponesi cento bit intanto di Smith parruppo hanno cambiato programma all'ultimo momento non c'è nessuno perché si sono scordati la pelpa nera in lavanderia grazie per il cento bit Smith grazie per il cento bit se vince Roman parruppo non cambia nulla perché Cody deve finire la storia ancora la blogger ma la domanda è ora Cody cosa fa che non ha vinto ancora in che senso cioè se vince Cody dici oh è finito tutto se vince Roman e adesso Cody cosa fa e adesso chi batte e Cody gli rimane che deve finire la storia e la deve finire vabbè ho capito però non può più farlo al momento secondo me sono più domande ci sono più domande però ritornerà per forza sta cosa no ok però adesso ci sono molte più domande se vince Roman che se vince Cody se vince Cody hai finito voglio essere voglio cioè stiamo obiettivi un secondo la persona ma dove lascia stare il tifo lascia stare il tifo metti da parte il tifo lascia una stasi se vince se vince Cody hai chiuso tutto ok si hai chiuso il cerchio hai finito tutto cioè ha finito la sua storia e si apre una nuova era ok si apre una nuova era nuova si esatto ok se vince Roman hai Cody non ha ancora finito la sua storia cosa può fare adesso e chi può battere Roman cioè hai più domande sulla vittoria di Roman che sulla vittoria di Cody e questo è quello che voglio dire ma che stai a parrucco ma che stai a parrucco no è questo volevo dire solo questo cioè non mi sembra di aver detto nulla di male cioè secondo me no ma c'è troppi più scenari se Cody vince dai no cioè il punto non è quante domande crei è le risposte che c'hai e le risposte a quello che tu stai dicendo sono risposte di cioè sono risposte di 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 no no vai di di feci umane anche di cavallo ma perché ma perché sì perché l'unico che ha senso è Cody cioè l'unico che ha senso lo stesso ma non sto dicendo non sto dicendo che Cody non abbia senso sto dicendo che con Cody apri una nuova era più di tutto e apri una nuova esatto e c'è domande cioè c'è un foglio partito a 13 con Cody hai chiuso tutto via un capitolo e dentro un altro con Roman deve succedere qualcosa di grosso per forza dopo perché con Cody hai chiuso tutto via un capitolo dentro altri 10.000 perché cambia tutto vabbè ragazzi non mi appiccicate godetevi lo spettacolo ma sì ma la mia era per dire era per dire la mia opinione non volevo creare così un no non hai creato nulla si sta parlando hai capito e sono opinioni alla fine hai rotter me l'hai spezzato un 2 guarda Braggias come sta teso no c'è poco adesso a partire c'è poco ragazzi comunque sincranizziamoci dai ragazzi siamo ancora all'annuncio se è Samantha Irving che ha finito l'annuncio ora Roman Reigns va a un angolo l'arbitro ma entra la bloodline ma entra la bloodline presto little nature quindi little nature little nature quindi è va K.O. sicuro sì l'arbitro prende la cintura la solleva Roman Reigns intanto si toglie peperoncini dal collo dai ragazzi scatenati vinciati tipo dai alle 4 in punto alla fine quello che conta è che stiamo per vedere il man event di press e man a 40 ragazzi oggi comunque vada si chiude un cerchio inizia il match e comunque vada si fa la storia dai campana suonata ragazzi 4 in punto inizia il man event e al momento il mio smr salvo fino a summer ecco questa è una roba tremenda pubblico tutto schierato dalla parte di con sì anche secondo me Ale not 2 1000x not 1 save the ASMR così dal mondo dai Tony buonanotte goditi lo spettacolo domani buonanotte Tony si parte si parte si studiano per ora si guardano anche da lontano respirano l'aria Roman guarda il pubblico qua di idem Roman discute quasi col pubblico ma davvero ti fate lui Manetti stiamo commentando ma se il match non inizia che vuoi commentare se l'abbiamo commentati tutti commentiamo certamente anche questo beh ti pare che non commentiamo il match più importante si inizia no mi ha lanciato vai 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 scusa fin vai 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 Cody ha provato a lanciare Roman Rez sulle cordi viene riversato spallata di Roman Rez Cody cade al tappeto ma è già in piedi quindi Roman Rez alza il ditone a farsi riconoscere per ora ritmi ovviamente molto bassi sarà un match probabilmente estenuante Roman molto molto asciugato molto tirato abbiamo visto nel recente sempre lo parlavamo ieri sera con delle felpone ma probabilmente si è allenato si è messo all'ucido per questa ha perso quei 3-4 chili che lo mettono in una forma probabilmente incredibile tiratissimo veramente per questo main event pubblico totalmente in piedi posizione di clinch di nuovo siamo in metà ring posizione headlock ora per Cody Rhodes si va al rimbalzo sulla corda si corre Cody Rhodes rimbalza sulla corda opposta Cody scivola via evita un colpo e colpisce con il classico colpo da sotto il mento Roman Rez che corre provando addirittura una sorta di spia ma va a finire sul tarbacco Cody in piedi Roman fuori di solito di quante libri lo presentano esce anche Cody Rhodes e va a prendere un tavolo tanto è bloodline roots ragazzi vale tutto anything goes non c'è squalifica non c'è niente pubblico in piedi tavolo fuori da Cody Rhodes che lo va a sistemare sul ring però arriva Roman Rez che con un dropkick dryandosi praticamente sull'ap sull'epron colpisce Cody Rhodes ora Roman vede il tavolo e diceva sai che c'è me l'ha messo qui quasi quasi me lo preparo io Roman infatti lo prende e lo rimette sotto Roman dice no per ora no le decido io le regole niente tavolo per ora questa palese manovra da Hill il pubblico gioisce quando vede uscire il tavolo ma Roman lo ricaccia via si attira ulteriore hit su di lui Roman prova a lanciare i codi sui gradori ma in reverse e ci finisce Roman Roman sui gradori impatto devastante che sposta entrambi i gradori adesso Cody si ferma un attimo a guardare la cintura piazzata lì in bella mostra va a prendere Roman Rez lo porta in giro si va alla parte opposta del ring camminandolo rimette sopra il ring passando sotto l'epron Cody indeciso se guardare di nuovo sotto il ring per prendere qualcos'altro poi decide no ma nel frattempo Roman è uscito di nuovo dal ring bloodline rules ricordiamo per i più distratti vale tutto vale tutto nessuna squalifica nessuna mossa vietata Roman sotto ha preso qualcosa no ma candlestick candlestick sulla spalla di Cody e ora Roman ha preso il vantaggio perché entra sul ring con la candlestick può colpire Cody lo va a colpire sulla schiena ancora ripetutamente siamo già al terzo colpo quarto colpo quinto colpo sulla schiena esposta di Cody Ross sparte subito forte parla col pubblico Roman Cody vai 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 dicevo vale tutto per tutti visto che qualcuno chiede solo per Roman no no per tutti no 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 per tutti per tutti Roman prepara un altro colpo di candlestick evita Cody colpisce alla pancia con un calcio e li ruba la candlestick Roman si va a rifugiare all'angolo corre Cody ma Roman si sposta colpo a vuoto il Roman può colpire niente parato da Cody con un calcione bulldog di Cody su Roman ora Cody va a prendere la gamba figura 4 figure 4 figura 4 si figura 4 di Cody in mezzo al ring teniamo d'occhio ora le gambe di Roman da qui davanti perché subito c'è una figura 4 in mezzo al ring e Roman prova addirittura a guantare sugli stipani e poi va a stropicciare il viso di Cody Rhodes e si libera così per far capire che che valgono per tutti è perché se no sarebbe già stato squalificato Cody certo adesso Roman Renzi ha ripreso un attimino di vantaggio con dei calci ma continua a interagire con il pubblico della serie vai vai ti fate ti fate io intanto sono qui che lo prendo a calci e in questa cosa Roman si perde un po' di focus che dà tempo a Cody di respirare un attimino ora Cody porta Roman porta Cody all'angolo lo fa sbattere sulla terza corda sul terzo terzo tagbacolo porta alla porta parte opposta sembra una sorta di com'era quel match che doveva andare a quattro angoli è quello lo strap match no sì sì è una delle varianti è quello che si è legato sì è anche quello sì ma quello che dovevi suonare nell'angolo è lo stesso solo che è l'altra variante eh c'aveva un altro nome c'aveva Texas boiler del prime scaraventato finalmente ha servito qualcosa e ora l'ha levato ora credo non lo vedremo più e si va tra il pubblico ragazzi c'è il pollo lì in mezzo c'è del pollo lì in mezzo c'è del pollo fritto sì siamo tra il pubblico si va in giro per l'arena scambio di pugni tra Cody e Roman siamo vicini a delle strutture roba tipo di soppalchi neri qualcosa che su quale tra l'altro salgono siamo sopra una struttura nera in mezzo al pubblico Roman alza il dito a farsi riconoscere dice spostatevi perché ora ve lo tiro addosso Roman lo carica posizione di suplex Cody però resiste non si fa sollevare con l'uncino con la gamba riesce a bloccare la proiezione ancora Roman ci prova ma Cody dice no e Cody a reversarlo Cody che fa il suplex sopra questa struttura poleman si dispera chiama il nome di Cody raga Roman che fa il gesto no perché legato io lo potevo buttare in mezzo Cody porta di nuovo Roman nella zona del ring quindi si torna di qua delle barricate si esce dalla zona del pubblico siamo vicini ai tavoli dei commentatori ora Cody porta a spasso Roma vediamo se lo riporta sul ring si lo riporta sul ring Cody respira un attimino rientra nel ring prova un oh la stride si più una powerbomb powerbomb di Roman la stride dell'undertaker bellissima si c'è anche nella last ride perché lo sollevo comunque in generale raga loro due hanno una chimica paurotta con il Roman grande grande Filippo grande si temporeggia un attimino respirano adesso è Roman che riprova a partire in attacco e riprova quel suplex che non l'era riuscito laggiù stavolta la prima prova un conto ma è uno ora va a fare la leva con le corde si può fare l'arbit infatti non cerca di interrompere praticamente a strangolare i cordi non c'errobrec non c'errobrec me la vedete per ora ragazzi ma io con gli occhi ma credo che sta seguendo un po' lo stesso copione di Rock inizio molto lento perché durerà un po' tipo un'ora durerà un'ora poi entrerà il macello di gente quindi si questo per me è un film è un film di 40-50 minuti ecco si a meglio metraggio non è un film a me ma per la magnitudo del risultato ci sta si o me le venti rese almeno a 40 un po' da 10 minuti ecco non può durare 10 minuti no ma inizio è stato da 11 un po' di trash talking si no sta facendo un po' di trash talking su coli adesso prova una presa al collo siamo a terra un po' di lotta a terra con coli che è imprigionato in una sorta di headlock potrebbe essere dark potrebbe essere può essere per me è un 65% siamo a 12 luca 12 minuti di match è iniziato alle 4 in punto si quindi non dura 10 minuti no no e neanche 11 e neanche 12 forse neanche 13 attenzione roman reis prova una proiezione ma codi si libera oh posizione crossroads no evitata fisherman suplex assegna 1 2 e mezzo roman reis 2 e mezzo è quel perfect ex polima che pontifica sul come si migliora lo schienamento nel tempo però manca a mia cercando di decidere da farsi codi è rifugiato all'angolo decide per un destro che può essere buono come attacco di questo scambio va a segno roman mi fa no con la testa come dire ma dove vuoi andare un altro destro di roman altro destro di roman in cadenza molto lenta dei colpi di roman però ci sta un po' di gesta è la stone cold nel pubblico mettiamola così sì poi tra l'altro roman tra un colpo e l'altro continua a interagire con il pubblico c'è un po' di teatro ecco adesso lo chiudo all'angolo serie di bracci tesi intorno al collo allora roman improvvisamente inizia a correre ma si prende un superkick big boot di roman superkick di codi rimbalza le corde big boot ancora di roman race e doppia close alla fine tutti e due la stessa a terra e tutti e due finiscono a terra il pubblico è invisibile comunque dentro il mercato come se fosse il menevento no è data troppo che ha uno scontro braun stroman no uno scontro big show arriva big show a dire oh ma lo sai che voglio incassare il mio money in the bank invisibile al cogan si è andata per primo roman ha orato abbastanza bene inizia a accedere un attimino no ah pensavo tu crisi neanche un mezzo da biocco per il mondo davvero stasera crisi crisi una roccia cede un pochino l'occhio adesso no crisi le banane le banane i limoni crisi già consumata tutta la frutta tutto il latte e biscotti no ora è il momento della di un aglioli e peperoncino crisi si corre di nuovo Cody rimbalza sulle corde blocco stile football assegno sul roman race roman prova attaccare dall'angolo della parte opposta scoop slam di Cody Rhodes Cody ora a prendere un attimo di inerzia a caricarsi con il pubblico tutto in piedi alle sue spalle Cody corre springboard insicuri kick al volo solo uno no due due abbondanti due due e mezzo Cody ci vuole altro dai non ti puoi disperare è il disaster kick comunque quella manovra lì si chiama disaster kick nella versione di Cody ok crossroads vediamo forse Cody cutter presso al volo crossroads crossroads primo fuoco d'artificio vero ci vuole Ben Affleck per vincere questo match come dice Ben Harper esatto Ben 10 Ben più bello se arriva serio a Luke Harper c'è da preoccuparsi no Ben Harper no no l'ha detto Rhapsody no no Ben Harper ha detto Luke Harper io direi un vecchio calciatore Ben Ben Yedder un vecchio mi è tanto vecchio però la mia pagatissimo come mi sta adesso il Bragas ai match di Roman Bragas in silenzio Bragas non stiamo facendo nessun quiz Bragas se la sta goleando se la sta goleando attenzione Roman Reigns posizione Superman Punch si sposta Cody si sposta Cody e va a colpire lui col sinistro e qui arriva qui arriva la manovra di Roma di Ea del padre Bionic Elbow assegno Bionic Elbow sente dolore sente dolore piangiamo un attimo che fa? vuole volvolare vediamo un po' no esce dal ring esce dal ring cos'ha visto? boh si ferma ha trovato il codice ha trovato Roman si sdraiata si ferma si ferma si ferma si ferma si ferma sparecchia al tavolo dei commentatori ma pensavo sono solo si cose il vatico come è delicato nel non rompere le cose esatto si ma tempo comunque tiene le cose e anche è anche face nel fare queste cose lo blo di Roman Reigns lo blo di Roman Reigns e ride Roman poi torna improvvisamente quando arrivano con l'idea bloodline spero più tardi possibile attenzione caricamento a powerbomb tavolo esposto e stavolta al tavolo mantiene cortesia di Roman Reigns con una powerbomb va a prendere subito Codiroz può approfittarne attenzione perché prova la spia probabilmente superman punch assegno assegno uno due due e mezzo niente false count comunque sembra nel ring bisogna pinnare si ha detto non è false count anywhere è vincitolo nel ring e poi il perdente torna da brandy rozza ha detto il perdente è il pubblico si fa sentire si sa che Roman chiama la spia va diagonale si si prepara Roman pronto per la spia parte Roman giro girato Codiroz Codicatter 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 assegno evitata la spia avvaccio di polemo uno due due e mezzo sono passati venti minuti e non si vedono interferenze si e soprattutto io ho ancora la sensazione che manca cioè non siamo ancora a fuochi d'artificio neanche nell'uno contro uno eventuale attenzione posizione cross si libera però Roman Reigns con una ginocchiata riesce a liberarsi ora Roman rock bottom rock bottom di Roman rock bottom di Roma reversata però reversata si corre di nuovo Spear di Codiroz Spear di Codiroz due e mezzo wow che sta dai Codi dai Codi che hai già vinto dai parrucca come Musa cross rock cross prima ti vuol fare un'altra arriva qualcuno arriva qualcuno arriva Jimmy non si fanno aspettare non si fanno aspettare appena hanno visto il pericolo appena è partita la cross Ross sono arrivati è arrivato uno eh sì tanto uno ma arriva Jay eh arriverà Jay credo eh Jimmy prepara Codiroz per ricevere la spia Superman punch invece eccolo ecco no credo che sia Seth Rollins eh Jay 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 ok inizia la fagiolata e Jimmy lo va a prendere inizia la guerra inizia la guerra inizia la guerra inizia la guerra ragazzi quindi Jimmy e Jay in mezzo alla rampa abbandonato il ring Jimmy ha andato a prenderli direttamente sullo stage super kick super kick abbiamo visti pochi ieri tra i due Spear Spear oh mamma cadono di sotto di sotto c'erano due tavoli di sotto dalla rampa e questi sono roll up di Codiroz roll up culla due e mezzo solo due si salva si corre di nuovo Spear di Roma di Roma di Roma di Roma va in volo la presa uno due mamma mia ma vai giù la presa in volo e Roma va sulla faccia di dell'arbitro di Little Nature ma il sequoia in tutto ciò con due notti se poi arriverà se poi sta facendo il pollicione sta facendo il pollicione e poi per ultimo arriverà di rock e chi lo marca o arrivano o sono superiorità gigliottina 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 di Roma su Codiroz ancora è chiuso sì Codiroz cerca di resistere correndo portandolo a giro per ora le gambe funzionano e finisce fuori da ringa sono di strattonarsi entrambi ottima tecnica ottima tecnica bravo Codiroz se Crizo è sveglio cosa che è duvido si potrebbe dire come ci si libera da una gigliottina ma Crizo non è sveglio in questo momento dormiva davvero? quindi l'ho detto senza guardare mi sta cavando la testa ecco oh spia spia di Codi attraverso la barricata ha sfondato tutto ciao Crizo buongiorno buongiorno è stato un micro istante però ma mica tanto micro come no guarda micro istante spida adesso perché non ce l'ha fatta a Crizo neanche stavolta spia di Codiroz su Roman Reigns che travolge e butta giù le barricate nella zona dei timekeeper ora Codi prova a trascinare Roman verso il ring perché è solo lì che si può schienare nonostante valga tutto di regola dovrebbe arrivare il secondo aiuto a sto punto eh sì all'aiuto dal pubblico Roman appena sarebbe bello arrivasse l'aiuto al momento che gli rifà la crossroads beh sì cosa fa l'archeio si carica sembrava caricasse l'archeio vediamo secondo me no la crossroads 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 assegna ma io ne vuoi fa una va per fare la seconda no ne deve fare sempre 30 ne deve fare 2 ma la terza interviene solo esatto guarda stesso finale dell'anno scorso vediamo resta elmenia dell'anno scorso esatto questa è una bella città ma è anche successo ieri tre crossroads alla terza cittata di rock sì e ora solo si può posiziona Roma Renz sopra il corpo di Kodi ha uno schienamento l'abito deve contare ora 1 2 2 e Kodi si salva Kodi si salva vediamo un po' se arriva set ora solo si qua tecnicamente può imperversare nel senso per ora sono 2 contro 1 gli usos si sono annullati a vicenda ora sono 2 contro 1 sono non ho sorpresa se deve aiutare Kodi perché secondo me chi ce stava già non arriva nessuno solo si qua si va a ventare su Kodi se lo colpisce con dei pugni mentre intanto Roman viene instigato da solo si qua dai 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 tirati su tirati su che te lo preparo solo è smarciato solo si qua sta paecchiando la situazione potrebbe anche prendere la spia certo certo che ci può stare solo si qua tira su Kodi pronto per farli prendere la spia se Kodi si sposta la vedo male per il solo chiamo la spia a Roman Reyes parte Roman presa la spia con spia e Samoa Spike schieramento può essere finita 2 2 mamma mia mamma mia resistente la resilienza questo è so creale spia e Samoa Spike in combo solo si qua non ci vede più dalla rabbia solo si qua è pazzito chi è? John Cena John Cena John Cena John Cena con solo si qua quel gancio narrativo di mesi e mesi fa eh sì è un conto in sospeso c'è il conto in sospeso e John Cena arriva pugni con solo si qua scambia il centro del ring quel gancio narrativo che hanno creato mesi fa si concretizza oggi è il giorno più importante incredibile solo si qua cacciato fuori dal ring John Cena Roma Renz attitudine a Giovas sul Roma Renz a segno John Cena scatenato butta via il cappellino ora va a sparecchiare il tavolo dei commentatori spagnoli per la terza volta nella serata prende solo si qua lo carica attitudine a Giovas mette anche su di lui sul tavolo dei commentatori sì ah a segno tavolo distrutto boato clamoroso per John Cena ecco rock ecco rock ragazzi ecco rock ecco rock il final boss il final boss vestito come uno che va a mangiare una schiacciatina sul mare esatto in realtà sta andando in una battaglia che te ce n'è targelato mamma o the rock John Cena dice eh lo so che stia arrivato è così John Cena è in piedi da solo sul ring John Cena è da solo in piedi sul ring undici anni dopo uno di fronte all'altro avrà il meglio e otto anni dopo che sono stati uno fianco all'altro rock lo guarda come di ma te che ci fai qui ma io a te ti conosco dove l'ho visto e qui siamo ai livelli di Hogan contro rock ragazzi fermi in piedi col pubblico in delirio che urla holy shit John si leva la maglia corsi e ricorsi storici stanno praticamente camminando a rallentatore l'uno verso l'altro eccola eccola questa immagine iconica qui che è un richiamo a quella del 2012 io ci vedo anche un po' di Hogan contro rock come girano le teste John Cena you can see me rock bottom rock bottom rock bottom su John Cena tornatene a casa vai c'è la cintura di Cody si toglie la cintura la cintura di Mama Rose Mama Rose no lo shield è di Nembrose c'è di Nembrose no è Rollins con la musica dello shield la musica dello shield ragazzi per ora non esce nessuno è Rollins ragazzi per ora non esce nessuno beh si deve arrivare dal pubblico se è in versione shield arriva da dietro si è da una sediata ecco Rollins no è Rollins vestito da shield è Seth Rollins vestito da shield che prende un superman punch e appena mette i piedi sul ring lo intercetto buongiorno buongiorno Seth Rollins appena ha messo i piedi sul ring la nera per Rollins è una lingua raffinatissima la lingua degli dèi ma per un attimo pensavo fosse Embrose oh oh Undertaker il Venom no no Undertaker ragazzi no impazzisco cos'è ma che cos'è il gong dell'Undertaker ragazzi eccolo eccolo in versione biker impazzisco grande impazzisco rock si gira e non crede ai suoi occhi faccia a fazza rock shock slam lo tira su assegno la shock slam assegno no questo è un shock proprio no si rispengono le luci si rispengono le luci rispettavo ma mica entra e ha sparito Undertaker non c'è più anche anche rock anche rock non c'è più Undertaker Undertaker e John Cena schierati dalla parte del bene per provare a smettere e a chiudere la firannia della polia beh comunque vada bello dai Romano ora puoi perdere Roma sono serviti tutti per buttarti giù ora puoi perdere c'è rimasto anche 7 Rollins si vuole vendicare l'ultimo spettro il tradimento di Rollins con la sediata e gliela rende eh ma qui ha sbagliato cioè tu ti devi concentra sull'altro questa gli costa cara e ora Romano è pronto per la spia è finita è finita è finita 1, 2, 3 sono finita per la seconda è finita 2 ci vuole la terza ci vuole la terza ma è già finito il match mezz'ora 3 terza finita raga 3 pienamento 1 2 3 è finita mamma mia wow ma che abbiamo visto ragazzi il bene che viene unito a porre fine al male ovviamente nei termini di ill e di face come Samanta è commossa non riusciva a dire le parole allora a caldissimo a caldissimo voglio dire una cosa questa è la fine tripolecce giorni che dice la fine di un'era qui è Sina e Undertaker l'era precedente che mettono fila a quest'era di tinarnia e lasciano spazio al nuovo che avanza io credo che sia stata una sorta di passaggio di consegno infatti ho detto ora che è puoi perdere Roman cioè c'è stata tutta sta roba qui ora puoi perdere arriva Brandy Ross la moglie questo è come dire i vecchi che hanno voluto chiudere un'era e lasciare passare basta chiudiamola qui chiudiamola qui sbaglio l'inizio della nuova era con lascia passare dei buoni che l'hanno cavalcata fino a poco tempo fa signore e signori qua è crollato è fatta la storia qua qui è storia qui è storia ragazzi qui è storia moltissimo match potrebbe non piacere potrebbe il match c'è persa di no vabbè ma è un crimine questo non c'era solo per la storia occhio 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 no forse non lo punisce non lo so era una dinamica strana vediamo io credo che non facciano nulla perché ora è il momento di codi ragazzi eh sì sono d'accordo il momento di rock e roma magari sarà domani a roma chi è? chi è? è arrivato il sorriso qualcuno tuffo no ma perché fatemi vedere avete visto ragazzi? o era un mazzo o era un faun si è buttato uno sull'impo erano tolto uno di produzione no ma era cioè a corsa può darsi che era un'invasione no arriva tutto il backstage tutto il backstage guarda l'Ehtager guarda ragazzi che meraviglia che meraviglia peccato che non c'era Kane ti immagini che Kane si scherava dalla bloodline così per battere contro il fratello mamma mia ragazzi la chiusura di un'era ragazzi onore a Roman per tutto quello che è stato si apre un mondo nuovo ora pensa essere lì cosa hanno vissuto ragazzi ragazzi comunque se se ve lo risentite Samantha stava piangendo all'inizio non riusciva a parlare cioè anche Randy Orton guarda guarda tu è arrivati tutti Kevin Owens bello che non ci sia l'Undertaker perché lui è apparso e scomparso come una visione un archerio di Orton non c'è stato mamma mia cosa ci hanno fatto vedere ragazzi Max Chef dice questi sul ring sono quelli che sono stati vessati dalla bloodline almeno nel recente o comunque sì qualcuno di loro no tutti ne mancano ne mancano parecchi delle sconfitte delle vittorie loro per me è di più forse come si prende la scena mamma rozzo mamma rozzo ma non so bella cosa ragazzi però queste sono lacrime vere dai godi sì sono vere sì ragazzi cioè tutto quello che hanno narrato alla fine è verità poi l'onarri in ring e tutto il resto ma il padre il titolo mai vinto e tutto il resto sono robe vere bello bello dai però di lì è il bambino sì filo di però di lì sì 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 quello dietro la mamma di negative one sì eh sì 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 è figlio di Brodilì parla occhio che parla arriva anche Seat sì lo so che è stata una notte lunga bello tutto lo stadio che canta Kodi 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 sono circondato da grandezza in questo ring sono circondato da tutti voi ma voglio ringraziare due persone e uno che voglio ringraziare è Bruce Prichard Nick Khan a bordo ring e voglio ringraziare anche il leader della nuova era che inizia oggi è a Triple H è basato tutto su questa roba ragazzi ce l'hanno detto per giorni che da oggi cambiava tutto eccolo ecco il Trico bella nuova musica di Triple H sì Triple H entra con la musica di Kodi bello bello tutto adesso adesso il Triple va lì gli dice che Trono hai distrutto scusami non è lì e glielo strappa ma gli fa la pedigree e chiama Prista incassare ancora un altro ecco anche Bruce Prichard lui è aiutami chi è lui è un writer è uno di è un writer ah ok sì vabbè allora da rivedere un po' sto writer se ne ha scritto la storia di quest'anno qui è un bel po' da rivedere eh già arriva Triple H si stringono la mano chi l'avrebbe mai detta st'immagine tre anni fa con punk con punk ragazzi ragazzi ma tornando tornandosi in un secondo Asia Reigns ha avuto un infarto Asia sportiva dai lo sa lo sa non morire Asia lo sa che poteva finire dai le cose belle tre anni fa stasciata qui e qui c'è 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 grande Asia che incredibile che è il wrestling ragazzi impossibile tre anni fa immaginare la situazione del genere da Sina che parla con Negative One ora Ro ha due campioni eh sì vabbè credo che Cody andrà su SmackDown eh vabbè cosa stranissima vedere Andy Horton che fa la valletta a Cody Rhodes sì è emozionato pure Andy sì ragazzetto l'ha visto ma chi sa lì dietro ragazzi che amicizie ci sono quanto di vita dividono cioè che si sono on the road tutti i giorni insieme cioè comunque posso dire Rollins come sa con la terra dello shield è mostruoso bello bellissimo mamma mia è stato inutile è stato inutile Michael Cole piange Rollins dite la verità quanto è stato inutile in questa notte 2 è sacrificato tutto nella notte 1 ci ha perso e basta in tutta questa situazione però come dice bene il film non gli viene indaccato minimamente lo status no assolutamente Michael Cole è super commosso niente quello lì che voi avete detto è un rider è Bruce Pritchard non c'è Bruce Pritchard è Bruce Pritchard sì Rossini accrodo a passare sotto la telecamera si sta prendendo qua 7 Rollins ragazzi non riesce a uscire la riga lo sta aiutando il cammino non sta in piedi ragazzi non è più narrativa lo portano via a braccia 7 Rollins si ha mandato uno sguardo brutto si danno la mano 7 e coli sì beh perché lo sa che per guardare chi le spalle probabilmente è dovuto rinunciare al titolo certo che ha martellato con il naso wow sì ma credo che così almeno sa anche lui stesso cioè anche Rollins sa che adesso che Rens è stato sconfitto ci saranno più possibilità per tutti in teoria che deve essere bene ragazzi portacela a Bologna godi forse è presto per parlarne ma ecco vai ma inizia no io dico solo una cosa ho la sensazione netta del contentino no il contentino l'ombrota allungata no che Night 2 sia stata 1000x tre volte per notte 1 che è stata comunque è finito lo story ora puoi andare ora puoi ritirarti Cody posso dire la storia è finita ma non ci ha musciato più assasore tutto diverso ora ragazzi Cody passa da predatore a preda ora sarà start the story ora sarà di canne di canne attenzione di canne c'è di canne è due ore che ve la sto a dire e mi però io avevo capito che forse appare anche di canne in realtà invece l'hai visto proprio e dove è il gatto posso dire una cosa triste peccato che non ci sia Dustin eh sì sono d'accordo sono d'accordo mi aspettavo qualcosa di più nel Roma il pelare nuovo il pelare nuovo no incominciavo se no diventi peggio finita è finita no mi aspettavo tipo un Roma anche in pastisce un qualcosa hai capito ma no ma lavi tutto ma si ritira ma si ma era per parlare per dire il gioco ma no non devi parlare non devi parlare quando sto contento che non ha tornato face roll rock te l'hai sempre detto tanto che lo dici sì ma dopo il pestaggio col sangue non lo giustificavi sì 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 tornando seri un attimo vi faccio partire intanto chat il sondaggio sulle rottole che vi ricordo al termine del sondaggio decreteremo tutto campioni eccetera eccetera quindi vi faccio partire se ce la faccio facciamo il doppio sondaggio sul match e sull'evento oppure solo sul no adesso vogliamo dire noi le rottole la chat si è già espressa ha dato mille miliardi di rottole vabbè dai cinque su al match o l'evento scusa l'evento l'evento io allora all'incontro gli do quattro rottole gli do quattro rottole e mezzo perché secondo me il match è stato bello in sé però è particolare c'è l'aspetto emotivo gli fa fare uno step in avanti però l'evento secondo me cioè mi faccio i conti di cosa mi ricorderò se mi zain contro Gunter mi ricorderò del main event di notte 1 del main event di notte 2 di di Bely che diventa campionessa Drew McIntyre che vince per poi perdere dopo 2 secondi il titolo e c'è tanta carne al fuoco tanta qualità quindi io do quattro rottole e mezzo a questa WrestleMania e aggiungo visto che stasera crolla il regno più grosso che probabilmente ne vedremo nella nostra vita dico diamo cinque rottole a Roma a Reigns e al suo regno perché bisogna ricordarsi che non è mai facile essere il top con quello che ha Roman poi con quello che passa a Roman per i problemi che ha e tutto fin da te questo avreste il main e quante rotole dai? cinque rotole cinque rotole perché siamo arrivati all'epico non era facile mantenere tutte le attese enormi enormi che ci hanno messo davanti per mesi per mesi e per mesi e io voglio ricordare una frase che ho sempre detto e voi ve la ricorderete credo perché l'ho sempre detta insieme a voi quando arriverò a giudicare questa WrestleMania giudicherò anche in base al viaggio alla road to WrestleMania che c'è stata e già la road to WrestleMania è stata clamorosa perché c'è stato dei punti dove ma forse ora non c'è altro da scrivere invece bam ti arrivava un altro pezzo di narrativo bam te ne arrivava un altro e arrivare poi a WrestleMania che riescano a fare anche quello che non potevi minimamente pensare cioè dove il bene si schiera dalla parte del bene per combattere questo regno di tirannia ormai di anni chiudere un'area e aprirne un'altra sì in Undertaker cioè veramente l'apoteosi della cinque rotule cinque rotule poi da fan ci metto Bailey che vince in un gran bel match contentissimo Sami Zayn che la porta a casa anche se non era il match che magari volevamo però l'hanno tirata giù bene uno star power clamoroso Rock Roman Zina Undertaker abbiamo visto una roba un concentramento di robe clamoroso clamoroso io do cinque rotule ragazzi cinque rotule non meno non meno Rapsody veloce che io do quattro rotule e mezzo dico i due match la serata secondo me l'Inter continentale nella notte 1 e Berio nella notte 2 e triple 3 per gli Stati Uniti oltre previsioni secondo me mi è piaciuto pure e niente per i due man event il canovaccio era era quello io un attimo dico due cose è finito il sondaggio cinque rotule per il 72% quattro rotule per il 16% una rotula per il 6% tre rotule per il 6% due rotule invece lo 0% Bra anche te rotule sul Vrestelmania quindi solo su Vrestelmania 4 e mezzo voto totale che riso te hai detto le rotule del Vrestelmania 4 e un quarto no sulle 4 e 51 no io do ragione forse una ragione un po' anche ansia adesso c'è un po' di vuoto perché Roman ci sentiamo svuotati è finito il regno di Roman e inizia una nuova una nuova era come ha detto anche il triplo tutti i titoli sono cambiati tranne quelle di Ria quindi tutto totalmente nuovo e quindi boh forse si vuotati devi iniziare inizia tutto nuovo secondo me Asia voleva intendere vuoto nel senso che Vrestelmania è finita ora inizia quello nuovo inizia il nuovo è quello che si si io do 4 rotule e mezzo insomma la notte 1 a parte 3 match non è piaciuta qui adesso vado prendo un attimo qui i match sono stati tutti tutti centrato forse le night j style ma è uno questo stupendo questo batte tutti questo questo è stato il Vrestelmania no dai ottimo Vrestelmania come ottimo anche il fatto che il mio smr è salvo ottimo anche il fatto che siamo stati veramente in tanti stasera quindi grazie a tutti per il supporto per essere stati qui per queste due maratone insomma un grazie generale a tutti agli altri aziendalisti che sono stati qui con me stasera anche a Shanghai che è stato qua con noi ieri sera gli abbonati che sono venuti con noi insomma un grazie veramente speciale a tutti quanti è stata una bella Vrestelmania è stata bella viverla tutti quanti assieme come tutti in un unico grande divano e niente con con Cody nuovo campione e una notte di raw che si prospetta incredibile e ringrazio tutti quelli che sono stati qui e ringrazio anche gli altri aziendalisti che sono stati qui con me stasera quindi il buon Criso il buon Simon dire buon notte ragazzi il mister pelo nell'uovo Brachias ragazzi grazie a voi aziendalisti e grazie a voi ragazzi dalla chat che ci avete fatto compagnia grazie grazie alla prossima il Brachias di Wish Rhapsody di Wish visto che mi confondo sempre ragazzi grazie delle due splendide notti e niente ci si becca presto grazie di nuovo e buonanotte e al grande Seven Fiend ragazzi vi ringrazio tutti dal primo all'ultimo di questi circa 300 e 300 di ieri sera è stato divertente come al solito epico direi ringrazio i ragazzi che sono qui a schermo Rhapsody Parrucco Criso Simon Brachias per la terza nostra per essere bene insieme dunque per la passione che dividiamo costantemente anche nel raccontarci e raccontare tutto questo sport entertainment che ci gasa e ci fa divertire sempre un saluto a tutta la chat ragazzi abbiamo visto la storia Asia Anzia quindi alle due Asia a Lorenzo a Mr. Grimes a Mike a Fabio Vargio a J. Devil a Simone a Marcarnavalle Anthony Mr. Edding Manceco Manetti Mastino Dani Malva Malva sì Interclub Geso il Nightbot salutiamolo anche a Breast e Mania Paolo Cerbai tutti i ragazzi che sono intervenuti nella prima fase e sono venuti ospiti con noi in live peccato nessuno è riuscito a vincere il quiz ma sarà per la prossima volta un salutone a tutti ragazzi domani notte live reaction di Raw post Breast e Mania sarà l'ultima live reaction di Raw che faremo poi ripartiremo forse vedremo nella Road to Summer Slam altrimenti con Rossi riparte alla prossima Rambo garantite ovviamente live reaction nottune di Smackdown ancora un grazie mille a tutti ragazzi state collegati perché lunedì sera comunque alle 22.30 saremo in live con domande e risposte a tema Breast e Mania noi aziendalisti perché Bardo ha impegni di telecronache e non potrà essere presente ma ci saremo noi e quindi lunedì sera 22.30 live domande e risposte con voi quindi la live la fate voi un saluto a tutti e grazie ancora a tutti buonanotte ringrazio ancora Mr. Grimes per i 100 bit in chiusura buonanotte a tutti amici è stata una Vrest e Mania fantastica e ora finalmente lo posso fare ciao ho 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 ho